Buongiorno, domani dovremmo parlare da programma un po' della comunicazione a servizio del no profit. L'approccio che ho scelto io per queste lezioni, intanto mi presenterò, così sapete almeno chi sta parlando, però l'approccio che ho scelto io è questo, cioè io vorrei fare in modo che alla fine di questi incontri voi siete in grado di avere qualche elemento in più per capire che cosa vuol dire fare comunicazione nel settore no profit. Le mie esperienze passate, che dopo vi racconterò, mi portano a dire che è molto difficile per il no profit fare bene comunicazione perché di solito si fanno cose, spot, fatte con i mezzi che ci sono, affidate a chi è disponibile a farle e soprattutto chi le richiede magari non ha le competenze per chiedere esattamente quello che gli servirà magari anche dopo tre mesi. Quindi si guarda all'immediato. Allora, io adesso inizio con una brevissima presentazione, così almeno risulta più... No, no, va benissimo questo. Allora, io mi chiamo Stefano Ascari e sono art director, si dice, insomma mi occupo da parte grafica di un'agenzia di Modena che si chiama Intersezione. Noi abbiamo lavorato nel... Sapete cosa? Quasi quasi... Se spengo le luci vi addormentate... Ah, queste magari, per esempio in camera. Sì, ah ok, so perché così si forse si vede un po' meglio. Dunque, un'agenzia di Modena e abbiamo avuto occasione di lavorare molto nel profit e molto nel no profit. Vi dico proprio in due parole, siamo sul mercato diciamo da otto anni, il range di età nostro va dai 22 ai 37 anni, quindi è un'agenzia molto giovane, come vedete i più vecchi sono io, e ogni anno abbiamo fatto un calcolo e cerchiamo di starci, di mantenere fede a questo, investiamo il 12% delle nostre ore dedicate alla ricerca e allo sviluppo sia sul fronte web che sul fronte della comunicazione e dopo vi farò vedere alcuni risultati. Siamo in 14 in tutto, con varie mansioni, abbiamo una piccola redazione che si occupa di social, blogging e contenuti, una parte che si dedica alla grafica tradizionale e una parte che si dedica esclusivamente al web. Infatti abbiamo questi tre team, diciamo, come usa dire, questi tre gruppi di persone in realtà molto interscambiabili che lavorano insieme. Ci occupiamo del web, ne avete parlato l'altra volta, secondo me, in modo molto specialistico, nel senso che tutti noi veniamo da un'esperienza precedente, io e l'altro socio, quantomeno, di sette anni in un'altra agenzia che faceva solo web, queste competenze ce le siamo portate dietro, poi vedremo magari cosa vogliono dire queste parole, avendo spinto queste esperienze fino a realizzare giochi, applicazioni per mobile e quant'altro. E allo stesso tempo però ci occupiamo anche di grafica tradizionale e di social strategy, web journalism, insomma facciamo pian pianino, abbiamo imparato a fare tutto, non lo facevano da subito, abbiamo aggiunto i pezzettini una alla volta. Adesso vi faccio vedere proprio una carrellata velocissima dei clienti del mondo profit, nel senso che purtroppo, o per fortuna, la credibilità di un'agenzia di comunicazione si fa al 99% confrontandosi con le realtà profit. Quindi abbiamo realtà che operano in ambito culturale, come la Franco Coglio Panini, che è un editore di libri per bambini, di facsimile di opere d'arte, eccetera, il gruppo Cibeli, che è quello della macchinetta da caffè, Coppestense, la grande distribuzione, Armani, Panini, il Comune, i consorzi dell'Ambrusco, insomma abbiamo un po' un parco di clienti abbastanza ampio che ci permette di sperimentarsi a proprio dalla comunicazione istituzionale, il Comune e, ad esempio, il Consorzio del Marchio Storico dell'Ambrusco, che è un'istituzione a Modena che raduna tutte le cantine produttrici dell'Ambrusco, fino alle realtà più legate proprio al profit, come Armani o Panini, anche se in settori diversi. E abbiamo appunto un parco di clienti molto ampio, perché siamo intorno ai 150 clienti in 7 anni. Tendiamo, per fortuna, per adesso a non perderne, quindi insomma il numero dovrebbe aumentare. Io nella fattispecie, sono l'art director di questa agenzia, ne faccio l'art director, però nel tempo poco libero che mi rimane dal lavoro e dalla famiglia, visto che ho una figlia piccola di 4 mesi, mi occupo di sceneggiatura di fumetti. L'ho collaborato da 10 anni con varie case editrici, tra cui Disney, da Sergio Bonelli, editore, quella di Tex, eccetera. Diciamo che queste competenze unite a quelle dell'agenzia fanno sì che su alcune cose io posso raccontarvi un pochino vari aspetti, quindi non solo l'aspetto grafico, ma quello fortemente integrato con i contenuti, con i testi, con il coinvolgimento dell'utente o del destinatario del vostro messaggio. Allora io adesso inizierei con una rapidissima, non so quanto rapidissima, una rapida carrellata su alcuni fondamenti della comunicazione, cioè cose che voi dovreste cercare di scolpirvi in testa, e di tenere presente anche quando vi troverete a fare delle cose concretamente, perché una cosa che ho sperimentato lavorando appunto con varie realtà del no profit come la strada di Milano, la fondazione gregoriana di Roma, eccetera, è che in fase iniziale si è tutti molto d'accordo sul condividere i principi, poi quando si arriva a chiudere l'oggetto finito di comunicazione si scorda di tutte le belle regole e le teorie e diventano dei paciughi pieni di 10.000 foto, 10.000 loghi, testi lunghissimi e via dicendo. Quindi io vorrei fare con voi un percorso che vi dia un po' di solidità nel dire no, cerchiamo di tenere fede alle norme della buona comunicazione, perché purtroppo il no profit, soprattutto in ottica di fundraising, che è quella di cui stiamo parlando, deve giocarsela sul piano delle aziende profit, cioè non vengono fatti sconti o non vengono trattati con particolare benevolenza le realtà no profit solo perché sono nell'opera nell'ambito no profit, perché l'azienda privata che deve erogare dei fondi le valuta secondo i suoi criteri, che sono quelli del profit. Poi l'azienda profit opera in un settore di mercato, il no profit di solito dei valori umani ed etici che suscitano una maggiore empatia anche con la condivisione, però il linguaggio, gli strumenti devono essere quelli. Questo l'abbiamo sperimentato in varie occasioni, noi seguiamo diverse realtà del mondo del volontariato a Modena e finché si tratta di fare il volantino per la cena a cui si invitano i genitori, degli assistiti, eccetera, va bene, qualsiasi cosa. Nel momento in cui si tratta di presentare le attività svolte durante l'anno a un istituto bancario, a un'azienda del profit, per chiedere dei soldi non basta più, anzi è penalizzante per una serie di motivi che vedremo. Quindi partiamo un attimo con un po' di teoria della comunicazione. Voi scusatemi, cerco di farla meno noiosa possibile, però alcune cose bisogna ce le diciamo. La domanda base è perché comunicare? Cioè voi potreste anche decidere in teoria di non comunicare. Ecco, in realtà non avete scelta, cioè la domanda non è perché comunicare, ma è solo come. Perché vedremo che uno dei principi base, dopo queste slide vi verranno messe a disposizione, quindi ho cercato di mettere dei riferimenti bibliografici, nel caso vi interessasse, ma non interessa la sostanza. Un principio su cui sono abbastanza d'accordo con questa teorizzazione è che non si può non comunicare, cioè o anche uno convinto magari di non dire nulla, e quindi di non comunicare, in realtà sta comunicando qualcosa, cioè che non vuole comunicare. In una realtà dove chiunque emette messaggi, emette segnali, non potete in nessun modo tirarvi indietro da questo contesto, a meno che siate una realtà che non ha bisogno di interagire con l'esterno. Cioè che questa è un'illusione che a volte le realtà basate sul volontariato hanno, perché attingendo queste risorse apparentemente inesauribili, date dalla buona volontà di chi lavora, di chi spende il suo tempo, eccetera, non ci si rende conto che in realtà prima o poi arriva il momento in cui c'è bisogno istituzionalmente dell'esterno. E quindi il principio base è che non si può non comunicare, non potendo non comunicare, bisogna comunicare bene. Questo è un, come dire, scende in modo diretto. Scusate, sono tornati indietro, adesso mi... Ok. Ecco. Comunicare non vuol dire semplicemente fare il volantino o definire il colore del vostro logo. Comunicare è una strategia, è un comportamento complesso. Entrano nella vostra comunicazione il tono dell'immagine che mettete sui vostri materiali, come distribuiti i vostri materiali, dove vengono lasciati, che formato hanno, su che carta sono, se quel materiale rimanda a un evento reale, a un'attività, ad esempio, di attivazione reale dell'utente, o se rimanda invece a un sito web. La strategia nel complesso, quella che definisce il comportamento che voi avete in confronte degli altri, e ogni parte di queste azioni, che formano il comportamento, comunica qualcosa. Quindi, anche qui, non basta realizzare un bello strumento, non ha bisogno di questo bello strumento, questo strumento bello che vi racconta bene, eccetera, eccetera, e poi vediamo come fare, forse, deve essere inserito in un comportamento conseguenziale, che comunica qualcosa di positivo di voi. Quindi non è solo la materia che producete, ma anche il come. E, ecco, questa è una cosa, è un punto su cui vorrei insistere in modo abbastanza forte. Cioè, le vostre intenzioni, i vostri buoni propositi, non sono purtroppo rilevanti ai fini della valutazione dell'efficacia della vostra comunicazione. Perché l'unico fattore che serve per valutare l'efficacia delle vostre azioni, dei vostri investimenti, è chi riceve. Cioè, se io, ricevente, ho una buona impressione, la comunicazione funziona, se no, no. A prescindere che sia stata fatta con le migliori intenzioni del mondo, con la maggior sincerità del mondo, non importa. Purtroppo, questo è il mondo del profit, ci ha educato, direi, in modo abbastanza spietato. Buongiorno. L'intenzione di chi... Comunica, non importa solo il risultato ottenuto sull'utente finale. Quindi, non... Questo vi dico, vorrei insistere perché? Perché quando lo sforzo più grosso che mi trovo a fare, quando lavoro con delle realtà del no profit, e non solo, è convincerle che non devono raccontare, non importa cosa hanno voglia di raccontare, devono cercare di capire cosa l'utente finale vuole sentire o ha bisogno di sentire. Quindi non interessa spesso, no, quando si chiede, dopo lo faremo, l'esercizio, no, di raccontare la nostra realtà. E di solito si inizia, come ho fatto poi in realtà un po' anch'io, si inizia dai dati numerici, no? Noi siamo questo, facciamo questo, questo, questo e quest'altro. E questi racconti, se li mettiamo uno di fianco all'altro, sono un po' tutti, non dico uguali, ma molto simili. Il focus deve essere sull'elemento che ci distingue. Magari l'elemento che ci distingue è un'unghia, no, del nostro... della fatica che facciamo in tutti i giorni, in tutta la giornata. Quindi vorremmo raccontare anche tutto il resto. Ma tutto il resto, probabilmente, l'utente finale non interessa. Interessa solo quella piccola cosa che fa sì che noi siamo diversi dall'associazione che abbiamo di fianco. Perché purtroppo, anche se forse lede un po' i principi, no, del lavoro no profit, nel momento in cui noi cerchiamo di fare fundraising, ci mettiamo anche in competizione con altre realtà. Questo purtroppo, i fondi non sono infiniti e quindi sugli stessi fondi concorriamo in diversi. Quindi una grande attenzione su il destinatario, non su quello che noi abbiamo voglia di raccontarvi noi stessi. Adesso, io vi riporto anche alcuni modelli perché, non perché siano una ricetta, ma perché aiutano a fissarsi in testa dei passaggi. Quando voi interloquite con qualcuno che vi deve fornire della comunicazione, sia un volontario che vi impagina qualcosa, sia un'agenzia, sia una persona con delle competenze un po' più ampie, è importante che voi abbiate dei modelli chiari che vi aiutano, aiutano voi stessi per primi a non sgarrare, cioè a non voler arrivare subito ma immaginavo un carattere un po' più tondo quando non hai ancora deciso cosa scrivere, no? Questo è un errore che si fa spesso. Quindi questi modelli, diciamo che, sono proprio così da tenere in mente giusto per chiarezza. Questo è un modello abbastanza famoso, il modello LASSO, e pone alcuni step per chiarirsi cosa comunicare. Il chi, in questo caso siete voi, ma come si risponde a questo chi è oggetto di un paio di slide che vedremo dopo, perché voi dovete dire chi siete. dovete decidere cosa dire, con quale mezzo e a chi. A quali effetti è una cosa molto importante, perché, e vedremo dopo che la comunicazione può avere vari obiettivi, la comunicazione pubblica in ambito sanitario, ad esempio, non ha l'obiettivo di raccolta, ma ha l'obiettivo di correggere o informare su dei comportamenti, ad esempio, sbagliati per la salute. Quindi ha l'obiettivo molto ambizioso di cambiare il comportamento delle persone. La comunicazione sociale orientata alla raccolta fondi ha un altro tipo di obiettivo, ha l'obiettivo di accendere una fiamma di sensibilità in chi vede la comunicazione a essere proprio spietati di accendere a quel tanto che basta e che questo vada sull'home banking e faccia il bonifico per dire di donazione. Poi se anche dopo se ne scorda potrebbe fare lo stesso, in realtà no, di solito si cerca di attivare le persone in modo, però voglio dire, sono obiettivi molto diversi. Quindi avere chiarissimi tutti questi punti vi aiuta a essere conseguenti. Se voi, vi faccio un esempio banale, volete attivare un sistema di donazioni come adesso, insomma, si usano abbastanza, questi sistemi cosiddetti di crowdfunding, no? Siti dove voi potete pubblicare il progetto e uno, tre euro alla volta ve li finanzi. Allora, quella è un'attività tipicamente online, nel senso che il sito online, l'approccio è una cosa che nasce proprio con internet perché vi può finanziare uno da Milano, uno dalla Norvegia, no? Quindi, mi viene da dire che forse se l'effetto è ottenere i tre euro, no? Dalla persona nel momento in cui arriva sul sito dove propongo questo finanziamento, beh, probabilmente la mia comunicazione dovrà essere molto di impatto, molto scioccante e in tre click fare in modo che lui dica ok, sì, vi do i soldi. se invece voglio fare una campagna culturale perché vedo che nelle scuole ma anche la sensibilizzazione del volontariato rispetto a un determinato settore, faccio per dire mi interessa poco di scioccare le persone, mi interessa coinvolgerle in un percorso, quindi magari farò ricorso dei materiali cartacei che rimangano, insomma, adesso sto anticipando alcune cose che vedremo dopo, però avere questi cinque punti ben chiari, chi dice cosa, con quale mezzo, a chi e con quali effetti, secondo me è uno schema che voi potreste ripetere ogni volta che intraprendete un'azione di comunicazione, giusto anche banalmente per non sprecare delle risorse, per non andare a fare un pieghevole quando basta il sito o viceversa. Scusate, torno sempre indietro perché sbaglio a cliccare. Ecco, questo è un modello matematico, a me interessa solo per farvi, cioè, viene dalla matematica, dal terreno dell'informazione, a me interessa solo la parte centrale, cioè il rumore, una cosa che voi dovete tenere sempre presente nelle vostre scelte di comunicazione è che a seconda del contesto in cui vi ponete avrete più o meno competitor, come si dice, ma non solo competitor che vogliono attingere i vostri stessi fondi, competitor che si litigano allo stesso vostro spazio di comunicazione e quindi un rumore, si chiama così in termini scientifici, che sporca e rende meno decifrabile il vostro messaggio. E questo rumore è differente a seconda della piattaforma che scegliete per muovervi. Se ad esempio distribuite dei volantini davanti a una scuola e ci siete solo voi, in quel segmento voi avrete pochissimo rumore di fondo, nel senso che non ci sono altri sette di fianco che danno dei volantini. Se invitate delle persone a una proiezione una sera, anche lì ne avrete poco. Magari avrete più rumore nel diffondere l'invito, ma una volta che le persone sono in sala avete tutta la loro attenzione. Quindi anche considerare momento per momento della vostra campagna qual è il possibile rumore, quanto forte, tra virgolette, dovete urlare per farvi sentire, è molto importante. Perfetto. Ecco, le funzioni sono quelle a cui vi accennavo prima, cioè ci sono varie tipologie di comunicazione, ad esempio la comunicazione di tipo emotivo espressivo è un tipo di alcune di queste vedrete non vi interessano nello specifico, però è importante che sappiate che esistano. si parla di comunicazione emotiva espressiva quando in qualche modo noi cerchiamo di instaurare un rapporto di empatia di condivisione con il nostro destinatario. In ambito profita ad esempio alcune campagne di moda tentano di fare questo, cioè cercano di creare un legame emotivo proprio solo emotivo a livello molto superficiale per dirti tu sei una donna Armani, tu sei un uomo Armani, quindi c'è un mondo di emozioni, di solito sono emozioni legate alla percezione di sé, l'autostima, gli status symbol, a noi interessa molto nel settore no profit questo discorso della comunicazione emotiva espressiva perché effettivamente voi avete un vantaggio che il profit spesso non ha che è quello di poter comunque parlare di attività di iniziative che vanno un po' al cuore delle persone nel senso che sono attività rispetto alle quali si può avere una condivisione etica o meno. Nessuno di voi si pone il problema oppure la maggioranza delle persone non si pone il problema di condividere le scelte etiche di Armani anche perché sarebbe difficile condividere determinate scelte produttive eccetera eccetera è molto più facile che sul piano emotivo ed espressivo riconoscano in voi un interlocutore sincero che si occupa di determinate cose quindi il canale emotivo sicuramente è un canale importante per il profit ecco la comunicazione cosiddetta conativo persuasiva ad esempio nel vostro caso è meno rilevante perché è quella che si usa ad esempio le campagne di sensibilizzazione in ambito sanitario cioè io voglio influenzare il destinatario della mia organizzazione fino a fargli cambiare abitudini se pensate la comunicazione di un a Modena ad esempio hanno aperto un piccolo supermercato aperto 24 ore al giorno allora la comunicazione di quel supermercato che è il primo e unico a Modena è volta a dire prima di passare cioè quando esci da lavorare anche se esci tardi passi di qua ci trovi le aperture domenicali che sono state tanto discusse quel tipo di comunicazione per quel tipo di iniziative cerca di cambiare le mie abitudini cioè invece facendo un discorso diciamo di tipo generale invece che dire no esci prima da lavorare così fai in tempo a fare la spesa prima che il negozio chiuda alle 7 il messaggio è no no tu vai tranquillo lavora pure fino alle 11 tanto alle 11 esce c'è un supermercato che ti ha aspettato quindi cambi le mie abitudini nel senso che io prima magari mi organizzavo per fare la spesa e uscire un po' prima dal lavoro adesso prendo l'abitudine che prima di andare a casa passo a vedere se mi serve qualcosa da questo supermercato supermercato che ovviamente ha dei prezzi maggiorati rispetto a quelli che stanno e via dicendo quindi la comunicazione cognativa e persuasiva tende a cambiare a porsi l'obiettivo di cambiare il comportamento del destinatario ecco vabbè si dice comunicazione poetica che è questo è un uso un po' strano della parola poetica però in bibliografia si trova così quando al di là della sostanza il modo in cui comunichiamo cioè la struttura del messaggio è tradotta in termini poetici o creativi ci sono pochissimi esempi di questo di solito si usa in ambito culturale per comunicare i festival o le iniziative di un assessorato alla cultura ad esempio quando la comunicazione stessa diventa un oggetto di poesia si usa una filastrocca si usa un disegno si usa un quadro per comunicare che c'è una mostra una lettura pubblica di realtà metalinguistica è la comunicazione che si possono permettere solo i grandi marchi cioè quelli che possono giocare anche sul linguaggio stesso in realtà non è vero che si la possono permettere solo i grandi marchi è un tipo di comunicazione che prevede una grande padronanza degli strumenti ne parleremo dopo quando parleremo di guerriglia marketing di marketing virale eccetera eccetera e che gioca con lo strumento stesso vedremo dopo per dire una campagna per la donazione del sangue in Inghilterra è stata fatta mediante dei palloncini per bambini gonfiati ad elio a forma di sacca di sangue allora quella è e si può dire che è una comunicazione metalinguistica nel senso che ha preso un oggetto che è il palloncino che normalmente avrebbe la solita forma con scritto il logo dell'associazione quindi ha preso uno strumento di comunicazione classico ha giocato proprio con lo strumento e l'ha trasformato in qualcos'altro cioè in una cosa che normalmente non avremmo stampato su carta e distribuito quindi metalinguistica vuol dire che io so com'è il linguaggio della comunicazione e scherzo su questo linguaggio per scherzo o rompo delle regole di questo linguaggio per creare un ulteriore livello di comunicazione e questo è il trucco che sta dietro a quello che poi ne parleremo del viral marketing che insomma è una cosa su cui mi soffermerò un attimo perché se ne fa un gran parlare ma in realtà è una cosa da prendere un pochino con le molle soprattutto nel campo del no profit la comunicazione referenziale informativa è quella che tende a dare delle realtà strumentali cioè nuova campagna dell'USL per l'autocertificazione della fascia di reddito è una cosa informativa cioè mi dà degli strumenti che mi servono per fare cose una parte di questo tipo di informazione di comunicazione quella un pochino più indigesta che non si sa mai dove infilare che è quella che spiega le modalità di detraibilità dei contributi conto corrente eccetera cioè il fatto che la donazione adesso parlo di fundraising solo nella chiave donazione da privati ci sono molte altre modalità ovviamente tutta quella parte lì che spiega come per me donare per me privato donare possa essere una risorsa perché lo detraggo dalle tasse possa essere facile perché lo faccio con paypal con il bonifico eccetera eccetera quella è una parte di comunicazione referenziale informativa questo cosa vuol dire che nelle vostre strategie ci sarà sempre una finestrella non so se vi è capitato però a me quando capita di fare dei volantini c'è sempre un po' questo imbarazzo cioè abbiamo fatto una bella immagine un bello slogan che colpisce però il Liban lo mettiamo davanti perché il Liban sembra come adesso dacci subito i soldi questo problema nasce dalla convivenza di due tipi di comunicazione diversa cioè da un lato la comunicazione emotiva e dall'altro quella informativa perché in banca uno ci va per fare un bonifico e non c'è emozione lì c'è proprio solo una passi di operazioni il bonifico va fatto in determinate modalità indicando determinate cose nell'oggetto in modo che sia detraibile insomma quindi questi canali di comunicazione a volte devono convivere e non è sempre facile farli convivere in modo elegante senza che si creino rumori a vicenda all'interno della nostra comunicazione ecco i livelli questo come dire serve a voi nel senso che serve a voi per leggere anche le proposte che vengono fatte di solito la comunicazione viene finita verbale paraverbale non verbale la non verbale dipende diciamo voglio dire è interessante nel momento in cui le vostre azioni di comunicazione riguardano azioni dirette nel pubblico quindi voi che andate a fare qualcosa in una piazza in una via in una scuola eccetera ma a me interessa soprattutto la parte verbale e paraverbale cioè voi date parlando di oggetti di comunicazione parliamo di immagini e di parole spesso vengono assemblati in vari modi un volantino un sito eccetera allora verbale sono esattamente le parole che voi mettete nero su bianco però voi sapete benissimo che una parola scritta senza la faccia che la pronuncia senza qualcosa che dia tono comunica la metà anzi a volte comunica in senso opposto non so se mi è mai capitato di litigare ferocemente via mail con qualcuno arrivare a offese pesantissime e poi vedersi di persona e vabbè in due minuti si risolve perché la comunicazione scritta quella verbale in senso stretto manca di tutta la definizione di tono ritmo qui si riferisce alla comunicazione parlata io intendo che un parola verbale è anche tutto quello che è la cura dell'aspetto visivo e visuale e il modo in cui proponiamo le cose all'interno della nostra campagna di comunicazione sto andando un po' in fretta perché sono concetti teorici io vorrei che davvero ve li metteste in testa nel senso che poi quando la difficoltà davvero di dialogo tra io dico un'agenzia ma tra qualcuno che è specialista della comunicazione e una realtà non profit è che noi tra virgolette nasciamo e studiamo su questi principi e li sperimentiamo giorno per giorno capiamo che qualcuno è effettivamente valido e qualcuno no dall'altra parte spesso non c'è questa preparazione allora avere un territorio comune di scambio aiuta a ottenere dei risultati un po' più più soddisfacenti le massime della comunicazione sono alcune adesso ve l'elenco rapidamente allora la quantità ecco questo per me in realtà sarebbe la massima della sintesi cioè voi dovete dare il numero di informazioni sufficienti necessarie sufficienti e non di più e non di meno non di meno per mia esperienza non succede mai nel senso che il problema è che quando chiedi ah ho questo volantino mi dai tre righe che descrivono l'attività di solito arrivano cinque cartelle di word in stile discorsivo eccetera questo è un lavoro anche a volte doloroso nel senso che i più grossi scontri sono proprio sulla sintesi però ripeto la giusta quantità è indispensabile per poter fare un buon lavoro di comunicazione se voi volete dire troppo e scrivere troppo il troppo testo non viene letto non viene visualizzato bene quindi la massima di quantità è fondamentale vuol dire scrivere cose non evasive sintetiche vere e che vi caratterizzano questo è il lavoro più difficile che voi potreste fare anche senza un'agenzia quasi un lavoro di autopsicanalisi cioè la mia associazione cosa fa cosa fa di diverso dagli altri lo riesco a dire in una frase si capisce allora forse è vero se in una frase non si capisce non ci ho ragionato abbastanza perché questo succede anche nel nostro caso nel nostro mondo quando facciamo dei colloqui ogni tanto ci arrivano dei curriculum con delle qualifiche e non capisci queste persone cosa fanno quindi tu cosa fai se uno non è capace di dirlo in una frase vuol dire che o non lo sa o non lo sa dire in ogni caso è un problema e lo stesso vale per voi la qualità anche qui a seconda degli strumenti del destinatario tutte queste cose voi dovete decidere che tipo di informazione è utile che forniate se ad esempio volete finanziare un singolo progetto la realizzazione di un'aula all'interno di una scuola o l'acquisto di un macchinario da parte di un ospedale magari la vostra associazione fa tantissime altre cose però forse in quella campagna a me interessa dire quel macchinario perché lo devo comprare io e perché non lo compro all'osl perché è utile che ci sia quante persone può curare o quante diagnosi può fare in più o a che costi contenuti può farlo quindi quantità è relativa proprio alla lunghezza e alla quantità di informazioni che date qualità è la pertinenza cioè non mi interessa sapere se voi adesso io ho in mente l'associazione giovani diabetici di Bologna ad esempio per cui abbiamo fatto una campagna e loro vogliono comprare un nuovo strumento diagnostico che permette di diagnosticare il diabete molto precocemente il diabete giovanile in età molto precoce e quindi di attivare subito pratiche di vita più sane eccetera eccetera e fanno anche 10.000 altre cose spediscono dei medici a studiare in America però tutte queste altre cose in quella campagna non servono serve solo spiegare perché è importante comprare quel macchinario e spiegarlo con poche parole quindi la pertinenza e la qualità e di nuovo la relazione scusate in realtà sono sfumature abbastanza sottili qualità vuol dire dare informazioni di buona come dire di buona qualità precise attinenti in relazione all'argomento di cui stiamo parlando anche qui se parliamo di questa macchina per la diagnosi date il nome date il modello date eventualmente anche il costo dite se è stato usato in un altro ospedale insomma l'obiettivo è sempre quello di di dare le il numero giusto informazioni di elevato contenuto informativo con poca quantità di parole e il modo ecco questo è la parte più difficile perché è la parte che attiene al tono della comunicazione come le sto dando le sto dando in modo furbesco per cui non è chiaro se i soldi che do erano dati solo per quella cioè se io do 10 euro per comprare quella macchina deve essere chiaro dal volantino che li sto dando solo per quello non che se avanzano poi vengono usati in un'altra parte oppure che se non si riesce ad arrivare al totale in questo le piattaforme di crowdfunding scusate sono molto esplicite ad esempio kickstarter che è una delle più famose quella inglese diciamo ti dice se tu puoi donare se si raggiunge il valore concordato questo viene trasferito alla persona che aveva il progetto se no non vengono prelevati i soldi della carta di credito questo è molto è cristallino cioè io dono per quel progetto se no niente altri c'è un'altra piattaforma invece spagnola che si chiama Fercami spagnola nasce in Spagna ma è abbastanza diffusa in Italia Grecia nei paesi mediterranei che dice no guarda se tu non raggiungi la cifra fissata chi ha pubblicato il progetto può decidere lo stesso di incassare i soldi con una piccola maggiorazione perché ovviamente il portale si trattiene qualcosina in più e poi ti dirà lui come li usa questo ad esempio per quanto mi riguarda in termini di modo è un po' deteriore perché io sinceramente se finanzi un progetto voglio finanziare quello ecco il modo è strettamente connesso al registro con cui voi comunicate questa cosa cioè il tono con cui la vostra comunicazione pian piano usciamo dalla teoria poi entriamo anche nelle cose un po' più pratiche però il tono con cui voi effettuate questa comunicazione è parte integrante io adesso non vi so dire quale sia il più appropriato per il tipo di attività che volete fare è chiaro che se io voglio acquistare a volte devo mescolarli i toni se devo comprare questo macchinario per un ospedale nella parte in cui descrivo il macchinario e la sua efficacia dovrò essere formale perché devo spiegare per filo e per segno in modo autorevole il tono formale viene associato all'autorevolezza il tono basso informale all'empatia quindi da un lato io posso mettere l'immagine del bimbo del bimbo di otto anni che dice so che ho il diabete e sono contento lo stesso perché l'ho saputo per tempo e questa è una comunicazione magari detta un po' meglio questa è una comunicazione empatica cioè io vedo il bambino mi medesimo in lui penso ai miei figli penso ai figli ai miei amici e userò per questo messaggio un tono basso e informale colloquiale ho il diabete e sono contento cioè una cosa anche se vogliamo magari non così esaustiva non così precisa quando passo in un'altra parte dove dico per aiutare questi bambini nella diagnosi è opportuno acquistare un macchinario io li devo avere un tono alto e formale perché sono io associazione che parlo e parlo di un oggetto concreto rispetto al quale voglio che tu utente mi riconosca autorevolezza perché se io uso un tono informale e dico voglio comprare una macchina per sapere quando c'è il diabete uno potrebbe avere il legittimo dubbio che io non so cosa sto comprando o che mi faccio abbindolare dal primo celtrone che passa a propormi una macchina per diagnosticare il diabete quindi i toni spesso devono convivere e adesso vi sembra molto chiaro poi quando andiamo a se noi scegliamo di usare un tono basso e informale cioè dobbiamo ricordarcelo anche dopo due settimane quando arriva l'agenzia e vi propone una cosa e uno dice è un po' colloquiale sì perché il tono è basso e abbiamo deciso che deve essere basso quindi tutti questi principi che adesso vi sembrano molto chiari cristallini magari dopo faremo un po' un'esercitazione anche per vedere di pensare una piccola campagna o un restyle della nostra identità della nostra associazione vedrete come ce li scordiamo immediatamente perché magari voi come utenti della comunicazione non so se avete in antipatia le comunicazioni troppo amichevoli faccio per dire ma ad esempio certe volte infastidiscono le cose troppo amiccanti perché non è vero che l'alliance assicurazioni è mia amica l'alliance assicurazioni fa il suo interesse e quando chiamo chiamo un centralino e se possono non mi pagano perché fanno i loro interessi quindi ad esempio a me da fastidio il tono informale come utente quando so che non c'è nessuna amicizia nessuna informalità in realtà nella struttura e quindi io a mia volta nel momento in cui da utente divento cliente e dico voglio una comunicazione ho un'antipatia lo so io questo proprio cercerò come limite personale ho un'antipatia per i toni troppo bassi però ci sono dei casi in cui il tono basso serve allora lì uno deve farsi una violenza e dire no aspetta ripassiamo la teoria a me sta da fastidio questo tono però in questo caso è il più indicato allora lo usiamo questo vale per milioni di aspetti della comunicazione che vedremo perché altrimenti altrimenti alla fine la cosa che vorrei evitare è che il vostro approccio magari non è così non voglio né sottovalutarvi però spesso mi sono trovato in fronte a persone in cui l'ultima frase era mi piace o non mi piace non puoi lavorare sei mesi lavorando su proposte per poi finirla con un mi piace o non mi piace dovrebbe essere secondo me funziona perché secondo me non funziona perché raccontavo prima l'aneddoto insomma abbiamo avuto una cooperativa sociale che per obbligo statutario aveva quello di fare di condividere in assemblea plenaria quindi con 40-50 soci ogni passaggio della revisione del piano di comunicazione abbiamo lavorato sei mesi con il consiglio direttivo per rifare il loro logo con dei criteri devono essere più amichevoli quindi abbiamo scelto un colore eccetera eccetera che era l'arancione quando andiamo a presentarlo in assemblea collettiva si alza la mano una fa no l'arancione no perché a me porta sfortuna e però capite che è un problema perché poi lì si pianta la condivisione allora questo è un estremo però in tanti casi l'ultima parola che spesso è quella che dà il colpo di grazia della comunicazione e la stravolge dopo vi farò vedere un esempio concreto viene dato su presupposti del tutto personali invece quelle cose lì dovremmo avere lasciate all'inizio del percorso e più è piccola e non strutturata la realtà più è fondamentale che queste cose voi o almeno una persona dell'associazione le abbia in testa perché altrimenti se siamo le grandi realtà business hanno il referente marketing quello che dice Vangelo le piccole realtà del no profit invece devono avere almeno una persona che tiene un po' il timone di queste cose in modo sensato e non così diciamo estemporaneo le ragioni per comunicare sono diverse nel vostro caso io ho evidenziato i due blocchi che sono i contatti sociali e l'informazione il divertimento non vi riguarda non è fondamentale penso per la comunicazione del no profit la persuasione o la catarsi che sarebbe l'esprimere la fine di un processo insomma la rinascita dopo un processo eccetera neanche a voi interessa comunicare in modo da ottenere contatti sociali avere contatti sociali comunicazione sociale e per informare immagino sono i due estremi tra cui di solito si muove la comunicazione del no profit ecco gli ostacoli anche questi li schematizzo così poi se ne potete parlare a lungo sono la negazione di tutti quei principi che abbiamo visto prima cioè essere poco chiari avere un'idea poco chiara di se stesse quindi comunicare un'idea poco chiara all'esterno un'esposizione cattiva nel senso non adeguata all'obiettivo usare termini troppo difficili e specialistici ad esempio ogni questo insomma io ho avuto anche una lunga esperienza da volontario ovviamente ogni contesto genera i suoi gerghi no? se sei un contesto assistenziale ad esempio per disabili le sigle delle varie disabilità le certificazioni insomma sono tutti termini che per noi dopo un po' diventano parlanti cioè quello lì è un trattamento obbligatorio non è detto che l'utente finale le percepisca allo stesso tempo bisogna trovare la giusta mediazione tra il termine specifico e il termine generico che non sia lesivo poi della specificità perché appunto ci sono realtà dove stupare i disabili tipo no aspetta noi ci occupiamo di disabilità ad esempio fisica dobbiamo far capire che non lavoriamo sulle disabilità cognitive l'associazione sport handicap a Modena fa quello cioè disabilità fisica e l'obiettivo è superare gli ostacoli fisici per cui riuscire a far fare tiro con l'arco ai ciechi che è una cosa insomma su cui loro hanno lavorato per due anni come campagna perché era la cosa più incredibile insomma anche più divertente loro sono stati abbastanza autoironici da giocare proprio sul ad esempio sul luogo comune cioè se io vi dico facciamo tiro con l'arco ai ciechi tutti voi vi immaginate la scena dove si dà l'arco in mano a questo e ci si butta tutti per terra perché non si sa dove tira loro hanno girato un piccolo filmato dove succedeva questo in realtà ci sono dei bersagli sonori per cui queste persone riescono a fare attività agonistica in modo insomma strutturato e sicuro però per dire loro avevano voluto fortemente spostarsi dall'ambito generico della disabilità alle disabilità fisiche perché per le disabilità fisiche ci sono una serie di strumenti di azioni di pratiche più documentate e forse anche per certi versi più semplici da gestire rispetto a disabilità di raggio più ampio il fatto che ci sono messaggi sovrapposti questo è un altro errore abbastanza classico cioè già che faccio il volantino per raccogliere i fondi però già che ci sono ti dico anche un altro paio di cose sulla mia realtà perché ho già che ho speso i soldi per stampare il volantino però anche qui facciamo rumore di noi stessi mentre devo chiederti i soldi per costruire una macchina però ti voglio anche dire che volendo faccio anche corsi ai medici e allora uno dopo cioè già gli metti di fronte all'indecisione su un unico materiale che gli dai tu e vabbè la perdita di informazione nel senso che magari alcuni materiali questo è importante l'integrazione col web secondo me è uno dei valori più più utili delle web in tutte queste dinamiche di comunicazione è che se io faccio un volantino una cartolina e seguo i principi di qui sopra non riuscirò a dire tutto e soprattutto una volta che io l'ho letto nella mia testa rimane una piccola parte pian piano nel tempo me la dimentico quindi l'informazione si va un po' diradando allora è importante avere dei ben chiari dei riferimenti dove andare a reperire di nuovo tutta l'informazione allora la cartolina che mi rimanda al sito web dove a mia disposizione c'è un testo più esaustivo una documentazione eccetera fa sì che questa perdita di informazione non sia definitiva se invece c'è la cartolina e basta il volantino e basta il volantino finisce sotto degli altri nella mia memoria si cancella e pian piano le informazioni fondamentali non le trattengo più e abbiamo finito la prima parte della comunicazione facciamo una pausa dicevi verso le 11 sì 11 11 e un quarto perfetto allora adesso entriamo un po' più sugli strumenti la comunicazione visiva allora tutto quello che noi facciamo c'è andati prima si traduce in strumenti da vedere con gli occhi o da ascoltare con le orecchie insomma a meno che qualcuno ci sono anche le cene in cui uno può lusingare col gusto ma diciamo che i canali principali della comunicazione sono visivo e auditivo io mi concentrerò in particolare sulla comunicazione visiva perché in realtà a parte lo spot radiofonico che però di solito non è mai il punto di partenza di una campagna è sempre un prodotto diciamo derivato tutti gli altri strumenti sono ibridi cioè anche in televisione noi vediamo e ascoltiamo su internet vediamo il 99% su carta vediamo e basta fa rumore se la sfogliamo ma non è un messaggio e ecco la comunicazione visiva io adesso ragiono sul primo pezzo cioè voi dovete comunicare un messaggio ma prima dovete dire chi siete voi no cioè deve essere un messaggio che viene da qualcuno la famosa origine chi dice cosa allora il chi nel mondo del profit è rappresentato dal logo allora io vi chiederei adesso di far mente locale provate a fare lo sforzo di loghi voi ne avete in mente sicuramente ok ce ne sono un paio secondo me tra l'altro che vengono in mente a tutti ma dopo li vediamo perché c'è una una slide apposta ci pensiamo un attimo e questi ad esempio sono alcuni loghi del mondo profit ok in mezzo ad esempio vedete c'è il logo della Nike che avete tutti assolutamente in mente anche perché è un logo di cui si è molto parlato perché si è accaparrato diciamo in qualche modo la proprietà di questo swirle si chiama in inglese no e quello è l'emblema del logo che ha ha fatto il suo compito cioè adesso quel baffo lì rappresenta la Nike in tutto il mondo a tutta l'età ci sono altri log invece più dopo vediamo i singoli componenti dei loghi però diciamo che il marchio vedete già che vi soffermate su ognuno di questi vi rimanda degli spot vi rimanda un mondo cioè il marchio da Ariel è il detersivo da lavatrice cioè direi e chiaramente ci rimanda tutto un mondo di spot anni 80 sui lavaggi il misurino ne uso meno l'ambiente domestico e queste cose qui se penso al Burger King invece mi immagino io in mente ho degli spot americani doppiati in italiano con delle robe che ad esempio a me Burger King ha fatto delle campagne pubblicitarie sempre abbastanza brutte perché le importava pari pari degli Stati Uniti traducendole vedo il marchio del Panda il WWF e via dicendo insomma ogni marchio vedete che di questi ve li lascio guardare ancora per un attimo però vi evoca un mondo vi evoca delle sensazioni vi evoca delle immagini delle attività che voi svolgete quotidianamente se si vedo il logo della Mastercard penso a quando vado a pagare col banco ma quando viaggio pago col post eccetera la Shell la Skoda Playboy la Costa insomma tutto il mondo diciamo c'è chi sostiene che il mondo sarebbe ormai riassumibile solo in marchi allora ovviamente io non sono d'accordo nel senso che per fortuna la realtà è ben altro rispetto a un logo però è anche vero che come dicevo prima voi entrate in competizione nello stesso mondo del profit e quindi ad esempio il marchio e il logo della vostra realtà è una cosa importante ecco i loghi dell'associazione di no profit quelle poche che ho potuto vedere sono degli esempi abbastanza diciamo non sono i migliori esempi di sintesi grafica nel senso che di solito c'è faccio esempio l'esempio di Infobo che è l'ufficio di Opim che è un'associazione di opera piede immacolata di Bologna che si occupa di ufficio stranieri allora il nome dell'ufficio si chiama Infobo perché è uno sportello informativo su Bologna però è rivolto a persone di tutto il mondo e quindi c'è un mappamondo e però è a Bologna e non basta aver messo Bono il nome e ci sono anche le due torri e poi sono cose che vanno insieme quindi c'è un cerchio intorno al mondo è un logo che sembra un disegno messo in piccolo non si riconosce e soprattutto una volta che uno l'ha visto lo confonde con altri 10.000 loghi di agenzie di viaggi di promozione turistica quindi è un logo dove il principio di sintesi che dicevamo prima è andato a farsi benedire la stessa Opim ha un marchio che è il ridisegno di un tondo del Settecento che è in una delle loro case però intorno ci sono anche le sette stelle che rappresentano i sette stelle insomma è molto bello una volta spiegato è molto interessante anche però da solo non parla si confonde con gli altri e non regge a dimensioni piccole cioè questi loghi che sono tutti stati studiati nel contesto profi da agenzie anche decisamente anche più importanti della mia però vedete che anche messi uno di fianco all'altro mantengono la loro identità sono leggibili anche in piccolo il 99% e fanno quello che devono fare cioè voi avete dovete rassegnarvi questa idea che avete poche mosse avete uno slot d'attenzione molto basso nel vostro utente avete pochissime mosse per dirgli una serie di cose quindi non vale la pena ripetersi allora il logo deve essere il primo cioè come dire la toccata sulla spalla quindi deve avere alcune caratteristiche e non deve averne altre non è una brochure come un biglietto da visita non è una brochure aziendale come una brochure aziendale non è un logo c'è bisogno che diamo un'informazione alla volta in modo che riusciamo dandole tutti insieme a comunicare il messaggio intero se ci facciamo venire l'ansia come succede a volte dicono ma poi se si vede il logo da solo non capiscono cosa facciamo il logo da solo di solito sta quando sei uno degli anni sponsor organizzatori in un manifesto e chi vede il manifesto non gliene frega niente di cosa fanno gli sponsor gliene frega di cosa c'è scritto sul manifesto se invece nella tua brochure ci sarà dietro al logo un testo che spiega cosa fai un'immagine che evoca l'ambiente in cui lavori cioè non bisogna questo è proprio l'errore classico attribuire tutti i compiti della comunicazione a ogni singolo pezzettino del nostro lavoro altrimenti prego sì sì anzi giusto le domande fatemelo durante che così non serve il microfono ah scusate per le strutture quelle piccoline quale può essere la nostra cooperativa sociale che fa interventi per minori mi interrogavo spesso sulla funzione del logo noi abbiamo realizzato un logo facendoci fare un disegno da una persona che sapeva disegnare e l'abbiamo un po' stilizzato però poi abbiamo dimenticato o forse non ci abbiamo mai pensato a inserire il nome della cooperativa all'interno del logo per cui quando mi chiedono il logo ci sta solo il disegno però per un'associazione una cooperativa come la nostra che non è famosa in tutto il mondo voglio dire poi riesce difficile identificarla e adesso mi riesce difficile però incastrare il nome in un disegno che è già ben definito infatti adesso nella parte successiva volevo farvi vedere che questo risponde spero alla domanda le tre tipologie di logo che esistono ok e vi dirò anche secondo me qual è la soluzione forse più utile nel vostro contesto ovviamente voi non apponete il vostro logo su marchi che vengono venduti in centinaia di migliaia di copie quindi dobbiamo anche adattarci a questo comunque le tipologie sono tre il logotipo è la scritta detto in modo cioè scrivere Nike con un font particolare magari con un carattere che è stato deformato per assomigliare non so a una gazzella quello è il logotipo cioè è un'immagine è un carattere è una scritta particolare che sarà sempre quella sempre uguale poi c'è il pittogramma che è un disegno che allude a qualcosa cioè faccio scarpe ho una scarpa nel logo stilizzata appunto no disegnata però allude a qualcosa e poi c'è il diagramma che è un segno si dice iconico c'è un segno come quello della Nike la Nike non è una scarpa è quella di quella lì non da punto poi loro hanno reso questo segno che è un diagramma e non allude a niente perché se voi vedete se voi vedeste quel simbolo lì c'è un'unghia tagliata al massimo un'unghia tagliata non so come dire però non è a furia di vederlo applicato sulle scarpe allora i diversi di queste tre tipologie possono stare nello stesso logo io penso che per il settore no profit avere un'icona come nel vostro caso un disegno che ricorda qualcosa e comunica nell'immediato sia fondamentale perché non avete la potenza mediatica della Nike per far digerire alla gente un'immagine che non vuol dire niente ma a cui voi volete dare un significato quindi sicuramente riferirsi a un pittogramma come viene chiamato è utile però deve essere senz'altro integrato al logotipo ma deve nascere proprio così allora adesso vi faccio vedere due esempi Unilever e Nike tanto per stare sui classici allora vedete che in Unilever avete il logotipo che è la scritta e poi un logotipo il logotipo di nuovo perché è una U però composto da pittogrammi cioè composto da immagini che alludono a qualcosa c'è la palma c'è la mano c'è l'uccellino poi altre cose magari meno riconoscibili mentre Nike ha un logotipo e un diagramma allora questi qua sono due esempi di cose che però viaggiano insieme cioè il logotipo è stato pensato insieme al diagramma al pittogramma e viaggiano uniti questo è un logo è unico sì adesso quando parliamo di logo Unilever è questo in gergo si dice quando si usa solo la U in determinati contesti si può fare così come per la Nike viene usato solo il baffo si parla di marchio cioè si usa solo il marchio perché magari non c'è lo spazio per oppure perché è più elegante cioè la Nike lo fa spesso proiezione nera su un grattacielo con solo il baffo bianco lì non c'è bisogno di scriverci Nike anzi sarebbe abbassare il tono metterci anche il nome perché tanto lo sanno tutti quindi per il no profit per le realtà più piccole o comunque che non possono contare sul prodotto per comunicare la loro immagine il mio suggerimento è sempre quello di usare un pittogramma cioè un'immagine con un valore simbolico chiaro un bimbo con le braccia aperte due mani che si stringono un albero lì dovete decidere voi e il nome la sigla magari lavorata però in modo che sia riconoscibile anche lì appunto Infobos secondo me aveva un bel nome che suonava bene Infobos avevano scritto avevano scritto Info con un carattere Bo con un altro non stavano insieme e poi c'era il pittogramma separato allora dopo abbiamo fatto un piccolo restyle con Infobos scritto nello stesso font e nella O ci abbiamo messo il mondo punto poi loro dicono eh ma sembra ancora un'agenzia turistica ho capito però siccome verrà pubblicato nei bandi per informazioni per stranieri al lavoro difficilmente uno straniero che cerca lavoro a Modena a Bologna si sbaglia cioè lì entra il contesto darvi una mano quindi nel vostro caso probabilmente bisognerebbe mettersi lì con un grafico qualcuno che ha delle capacità grafiche studiare un logotipo con un carattere che stia bene con quel disegno e provare a incastrarli insieme il gioco che si fa spesso è sostituire una lettera con il pittogramma che magari è la forma che gli assomiglia quindi in questo caso la O con il mappamondo la I con un alberello però è vero che è un problema perché quando ti chiedono il logo non sai mai cosa mandare a parte che dopo entriamo più nel merito delle spiche tecniche bisogna averlo in vari formati perché va messo su web va messo su carta non va bene lo stesso file no? però diciamo che in generale bisognerebbe fare uno studio di questo tipo partendo da zero magari dopo quando facciamo le nostre prove di identità aziendale ci possiamo divertire anche a disegnarle insieme non è che ecco il logo il logo abbiamo già visto che ha due elementi un'immagine e un nome qualcosina bisogna che questi due elementi lo dicano quindi se l'immagine mette una mano aperta e non è associazione di aiuto ai minori faccio per dire si è già detto due cose c'è un tema dell'esiglienza di persone perché la mano è un simbolo antropomorfo che si parla di minori e poi arriva il payoff allora attenzione voi associate i nomi di qualche ditta delle frasi immagino di sì Nike è Just Do It ad esempio ve ne vengono in mente altri provate solo un attimo a pensarci perché è buffo a volte scoprire come ci rimangono in mente quelli più stupidi o più strani perché sono quelli che sentiamo ripetere più volte a me viene in mente vabbè lo slogan del metano il metano ti dà una mano poi insomma ce ne sono tanti altri quelli legati ai detersivi andavano di molti modi negli anni 80 usare dei claim per i detersivi per la casa insomma provate a pensarci un attimo tutto intorno a te esatto la banca è costruita intorno a te ce ne sono io qui ne ho messi alcuni molti vabbè vengono dal mondo anglosassone perché ovviamente devo dire l'advertising lì ha un ruolo un po' diverso però Galbani vuol dire fiducia ce l'abbiamo in testa tutti ok allora Galbani vuol dire fiducia adesso io vi chiedo una cosa Galbani fa formaggi voi lo sapete perché l'avete visto avete fatto caso che né nel logo né nel allora né nel logotipo né nel pittogramma né nel payoff si parla di latte latticini formaggi caseifici ok non voglio dire ripeto è vero che loro possono mettere cioè il logo lo vedi quando compri la mozzarella se non sei tonto capisci che sono quelli che fanno la mozzarella però allo stesso tempo vedete che non è obbligatorio sempre esplicitare tutto quello che si fa anche nel payoff e il payoff siccome è una bellissima occasione per creare un nome per dare quel piccolo valore aggiunto cioè Nokia Connecting People non mi dice che fanno telefoni mi dice che mettono in relazione le persone potrebbero anche essere gente che fa cavi non lo so televisioni fanno anche televisioni quindi no però adidas impossible is nothing cioè sono tutte cose che raccontano la caratteristica distintiva l'adidas ad esempio se ci pensate rispetto a Nike adidas si è caratterizzata per un certo periodo per aver sponsorizzato delle imprese atletiche estreme no quindi con le adidas tu puoi fare la maratona da Caponord da Ushuaia Nike invece ha uno stile molto più di strada cioè Nike c'è il ragazzetto che fa il canestro e just do it perché come dire non è importante che tu sia un atleta fallo cioè vai sono due approcci molto diversi sono i due approcci distintivi fanno tutte e due scarte a ginnastica non è che fanno delle robe diverse però e nelle associazioni no profit questo è ancora più drammatico perché quasi tutti lavorate sulla persona se non sbaglio cioè adesso no se tu chiedi a qualsiasi di tutti quelli che ho conosciuto che lavorano nel profit noi mettiamo al centro la persona diciamo sì infatti se no è un tecnico dei computer quindi quella cosa lì già non te la puoi giocare come elemento distintivo quindi nel payoff adesso vi faccio vedere il percorso che hanno fatto con la strada bisogna cercare di trovare una parola o una chiave di lettura che sia facile da dire memorizzabile e che dica qualcosa in più quindi logo già composto di pittogramma e nome payoff payoff deve essere sintetico semplice a capire eccetera e poi abbiamo degli altri elementi stiamo costruendo pian piano tutti i pezzi che alla fine ci fanno mettere quel blocchettino famoso di logo più payoff e quello fa qualcosa intanto il colore ecco sul colore vi do solo alcuni criteri diciamo oggettivi presi dalla psicologia della percezione che vadano oltre al mi porta sfortuna non mi piace e qui c'è uno schema diciamo che che raggruppa un po' alcuni marchi famosi in base al colore però in generale la cosa che dovete trattenere è questa i colori caldi sono i cosiddetti i colori del consumo i colori del consumatore l'arancione ti scaldano ti suscitano empatia fiducia calore i colori freddi tendenzialmente sono quelli legati all'ambito più tecnico formale ufficiale poi all'interno di questi ci sono delle altre varianti è chiaro che il verde ad esempio adesso è legato a tutta una serie di tematiche anche ecologiste ecologiche non ecologiste ecologiche per cui i colori verdi tendono a dare una sensazione di pace rilassatezza ambiente insomma confortevole il violetto anche se qui c'è scritto creativo in effetti è scelto da molte realtà creative ad esempio nella comunicazione consumere è usato molto poco perché è un colore difficile da accoppiare con gli altri tende a non essere gradito e per essere messo giù in modo elegante insomma ce ne vuole sono molto bravi gli inglesi che nel packaging alimentare riescono ad usare anche il violetto con dei risultati eccellenti però in Italia ad esempio se ci fate caso non si usa questo schema vabbè era divertente perché ci sono tutti i loghi disposti e aiutano anche a volte a guardare poi i loghi che vediamo uscire in modo diverso in generale la cosa su cui non possiamo che è un dato di fatto scientifico è che il colore comunica emozioni quindi si 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 certo il nostro logo praticamente noi come associazione siamo associazione caos calmo il nostro loghetto è quindi questo vortice incomprensibile che non ha il senso del movimento però cioè è confusionario ok era quella un po' l'intenzione cioè nel caos era un caos che c'è la parola caos dà il senso del movimento mentre non lo è affatto quindi il blu che è un colore freddo che noi abbiamo scelto sì perché non è scelta che l'avete scelta no no la nostra è stata una scelta distinto beh è chiaro che però perché il blu quindi il blu vabbè io sono una bestia in inglese per cui per me trust strange sono due parole incomprensibili la bestia è fiducia e ah ecco fiducia sì fiducia non è male allora la nostra scelta di pancia ok grazie scusate io lo dico altre volte in questo senso potrebbe avere potrebbe avere un valore perché voi vi associate un simbolo teoricamente vitale caotico legato al movimento a un colore che invece raffredda e istituzionalizza la comunicazione quindi il caos è dato dal pittogramma il calmo è raccontato dal colore se lo aveste fatto un vortice rosso era un'emergenza cioè caos il problema invece caos calmo quindi ci sta se ci guardate il tono del grigio che sono quelli in realtà più prossimi a quelli dell'azurro ti scusate leggevo anche oral b il dentifrice esatto no dicevo questi se guardate neutralità calma bilanciamento sono tutti loghi legati a volte anche simboli particolarmente dinamici cioè per dire il puma della puma ha logo nero però la mela dell'apple che la mela è un oggetto rosso vitale eccetera c'è anche il morso quindi c'è anche l'uomo però raffreddata sui toni del grigio coniuga le due cose cioè il tocco umano questo famoso human touch di cui vanno così fieri quelli dell'apple e però l'affidabilità e l'istituzionalità di un marchio color metallo o comunque quindi nel vostro caso se dovessimo fare adesso io non ho visto il logo quindi dovessimo fare un ragionamento così avete fatto un buon lavoro perché la forma racconta la prima parte del nome il colore in qualche modo racconta la seconda se poi fosse un bel azzurro freddo proprio di quelli un po' istituzionali ancora meglio poi da su poi magari lo vediamo e vi dicevo appunto la questione dei colori non è soggettiva cioè sono stati fatti dei test negli anni di psicologia e la percezione e statisticamente queste cose valgono statisticamente vuol dire che si? ha una domanda no per essere ok no dicevo quindi in buona sostanza voi potete considerare che sul target a cui voi vi rivolgete buona parte delle persone percepiranno i colori caldi associati al benessere piacere all'energia magari c'è quello ripeto che il rosso gli batte in testa gli da fastidio perché la socia delle esperienze personali negative però in generale dal punto di vista statistico è dimostrato che i colori caldi appunto riguardano il lato più umano i colori freddi tendono a fermare allora nei toni dal giallo al verde fermano raccontandoci di calma e di comfort natura eccetera dal verde al blu fin verso il blu violetto sono i colori appunto anche istituzionali che tendono a raffreddare un pochino questo in realtà è dovuto anche al contesto un po' in cui viviamo cioè tutte le aziende del settore informatico o tecnologico hanno sposato il grigio e il blu quindi per forza di cosa al di là della nostra percezione umana legata all'occhio alla dinamica dell'occhio abbiamo anche questo retaggio culturale che fa sì che tutto quello che è blu se non sappiamo che cos'è è tecnologia probabilmente così come tutto quello che è verde è ambiente che in realtà è vero perché gli alberi sono verdi però non è detto quindi dobbiamo tenere conto sia delle percezioni fisiologiche che del contesto un po' culturale in cui ci muoviamo c'è anche una differenza di target cioè i giovani tendenzialmente reagiscono meglio o vengono attratti di più dai colori caldi gli adulti dai colori freddi in realtà c'è un senso in questo cioè se pensate ai sentimenti che ci suscitano queste due gamme questa divisione un po' macro di colore l'arancione e il rosso parlano di emozione eccitazione attivazione eccetera che è quello che vive un adolescente un giovane costantemente il desiderio di attivarsi di fare cose l'adulto ha bisogno di sicurezza anche un po' di comfort di relax e di affidabilità e di pulizia e di ordine di solito e quindi è più attratto dai colori freddi se ci pensate le grandi catene di fast food ad esempio giocano tutte sui rosso e l'arancione non vuol dire che un adulto prova repulsione vuol dire che il bimbo sicuramente li tira per la per la giacchetta per andare da McDonald's è tutto caldo è tutto rosso è tutto sole è tutto molto vitale mentre invece nelle aziende di consulenza dove vanno gli adulti spesso ci sono dei loghi con colori più freddi questo giusto per darvi qualche elemento ecco io trovo che sia una cosa che non tutte le agenzie fanno però secondo me è fondamentale cioè voi scegliete un logo con un bel azzurro poi andate a sbattere su una foto con dei colori che non c'entra niente allora nel momento in cui definite il logo e il colore voi vi fate definire anche una palette si chiama di 4-5 colori secondari che con quel colore gli stanno bene questa palette la scrivete cioè nel senso ve la fate dare consegnare noi lo facciamo quando facciamo i loghi definiamo i colori secondari guardate queste sono siti loghi di realtà non famose però sotto c'è la palette usata in quella comunicazione vedete come sono palette il logo sopra cioè i materiali sopra nei quadri sono gradevoli le palette con i quadratini di colori messi di fianco all'altro sono anche loro gradevoli non ci sono colori che stridono comunque il colpo d'occhio guardate ad esempio Tukando adesso lì si vede vabbè la proiezione si vede un po' più si 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 anche se sono ok magari facciate una cosa io provo a a a a a metterlo si così lo vediamo tutti e lo analizziamo e ad esempio siccome il discorso della palette è molto importante perché voi qual è il discorso che avete l'esigenza di farvi fare il logo vi fate fare il disegno tutto quanto dopo sei mesi il logo ce l'avete dovete passare la comunicazione a qualcun altro perché il logo ve l'ha fatto xy e il volantino ve lo fa un altro e questo prende il vostro logo gli cambia colore lo mette in bianco su uno sfondo diverso allora voi quando chiedete un logo dovete chiedere secondo me anche una palette di colori di riferimento che rimane patrimonio della vostra identità tutta la vostra comunicazione per i prossimi cinque anni finché non l'ha ristudiato da capo dieci anni quindici anni quelli che sono dovrà essere giocata su quei colori perché alla lunga diventano riconoscibili ok questo ripeto è una cosa che si fa raramente ci sono degli strumenti online ve li faccio vedere adesso questo si chiama Kcooler Kcooler è un è un sito dell'adobe adobe che è la ditta che realizza photoshop e altri software che sono quelli che si usano universamente per la grafica su questo sito voi avete uno strumento abbastanza intuitivo vedete per regolare sulla ruota dei colori un colore di partenza e lui tende con degli algoritmi calcolati su base matematica a proporvi delle palette che più o meno ci possono stare se cioè quello strumento è proprio alla portata di tutti nel senso che dopo uno si mette lì ci gioca un po' tira fuori una palette se la stampa e quella è poi magari vedete che non funziona una palette fatta bene deve avere un po' di colori tenui e un po' di colori forti perché poi dove la usate per gli sfondi o per il testo sono tutti colori tenui con cosa scrivete quando scrivete su bianco uno dice posso scrivere in nero però insomma l'importante in questo caso vedete ad esempio io se dovessi dire avrei il rosso e l'azzurro come colori forti con cui posso anche scrivere dei titoli e gli altri che possono essere colori di sfondo forse il verde è un po' a metà poi questa magari non è neanche una palette che mi piace ecco un modo per definire questa è proprio un'informazione tecnica un modo per definire il colore cioè voi non potete guardarlo a video e stamparlo sulla vostra stampante d'ufficio perché il vostro video non è cioè potete ma non serve perché il vostro video non è calibrato quindi quello che io vedo viola un altro lo vede azzurro un altro lo vede verdino e la mia stampante magari ha l'artuccia del giallo scarico quindi allora cosa si fa di solito si usano le codifiche numeriche dei colori la pantone è una ditta che esiste da ormai decine di anni che produce questi blocchetti che vedete che voi non dovete comprare perché costano i 300 euro l'uno e è meglio se li spendete in cose più utili però di solito gli studi grafici ce li hanno e quando io do un riferimento pantone del colore è quello cioè il pantone 123 in tutte le tipografie del mondo è quel blu ok quindi io posso pretendere alla tipografia che me lo stampi così so che è quel colore barilla ha un pantone e se la tipografia sbaglia di un decimo sul colorimetro gli butta via le scatole perché il blu barilla deve essere quello lì bene la pantone detto questo ci ha costruito sopra a proposito di comunicazione integrata un mondo perché ovviamente loro avendo l'esclusiva sulla codifica del colore hanno creato dei siti dove si possono creare delle palette vedete future palette ti aiutano a costruire la tua palette hanno creato le iniziative per cui fanno oggetti da rede insomma fanno un sacco di cose detto questo i sistemi di colore questa è un'informazione proprio magari la sapete già sono tre ok no magari qualcuno sono pantone che è quella codifica che vi dicevo prima rgb è red green blue ed è il sistema colore che si usa sui monitor del computer ok è colore a proiezione quindi quando voi dovete mettere una jpeg o un'immagine su un sito deve essere in rgb perché se ci mettete un'immagine in quadricromia che è quel valore sotto che dopo vediamo vi verranno i colori soprattutto i violi e i verdi vengono sparatissimi vengono male la differenza tra rgb e cmk qual è cmk è ciano magenta yellow e black sarebbe ciano magenta giallo e nero è che red green blue nasce dalla proiezione cioè i monitor proiettano i colori la stampa non so se è mai stata una tipografia funziona diversamente cioè a presente ah ok allora beh io sfondo una porta aperta però e praticamente in stampa si lavora così la stampa offset cosiddetta quella classica l'immagine viene presa scomposta in quattro in queste quattro componenti cioè ogni colore viene tradotto nei colori primari ciano magenta giallo e nero ognuno di questi colori diventa una specie una lastra si chiama un retino che regola la quantità di quel colore su quel punto se io in un punto ho 100 di ciano 100 di magenta 100 di giallo 100 di nero che non esiste viene nero ok se invece ho 10 di ciano e 10 di magenta avrà un colore che è la somma di questi quindi uno è un sistema colore che è nato in ambito tipografico e funziona per sovrapposizione in qualche modo insomma di queste lastre colore l'altro è un sistema che nasce nel mondo dei monitor dove i colori vengono proiettati non sono equivalenti cioè nel senso che non tutti i colori gli RGB ovviamente sono molto più luminosi e non tutti i colori che voi vedete a monitor possono diventare dei colori a stampa ci sono proprio dei colori che non possono essere stampati o meglio per stamparli bisogna ricorrere magari a degli accorgimenti particolari quindi il suggerimento è quando vi fate dare i codici colori del logo e le palette di chiedere sempre per ogni colore i tre valori ok perché un bravo grafico sa dirvi qual è il valore di quadricromia più vicino all'arancione che voi mettete sul vostro sito e più vicino all'arancione pantone non è un'operazione automatica nel senso che ci sono dei programmi che lo fanno in automatico quindi questo ve lo dico perché poi quando andate a mettere il vostro logo sull'iniziativa del comune o quant'altro quando voi avete questo pacchetto di informazioni lo pigliate lo mandate al grafico del comune se dopo si sbaglia potete anche arrabbiarvi se invece come succede spesso ti arrivano i loghi che sono dei mezzi di Word una parentesi scusate sempre sul logo prima di passare ai caratteri voi avete chiara perché non l'ho messa nella slide ma mi viene in mente che potrebbe essere utile la differenza tra immagine vettoriale e immagine bitmap no allora ve la spiego perché dal punto di vista grafico è una roba abbastanza fondamentale quando voi avete un'immagine ad esempio se vedete questa cosa che sto proiettando i caratteri io li potrei proiettare potrei ingrandirli finché voglio rimarrebbero sempre belli rifiniti questo perché perché i caratteri sono quelli di Word sono un esempio molto concreto di oggetto vettoriale qual è la differenza tra un vettoriale e un bitmap bitmap è un mosaico pixel per pixel io metto delle tasselline di vari colori finché ottengo l'immagine ovviamente più pixel ho più l'immagine è grande più ha risoluzione alta però cosa succede se io prendo un mosaico di un metro per un metro e lo voglio largo due metri per due metri io stiro tutti i tasselli e mi rimangono nei buchi bianchi in mezzo perché le tasselline sono quelle il computer cosa fa? si inventa quello che ci sta in mezzo si dice interpola se li inventa lui quindi quando ingrandite un'immagine che prendete da internet vedete che si sgrana è per quello perché il computer non sa cosa c'è in mezzo se lo deve inventare il vettoriale invece è un file che contiene le informazioni per disegnare un oggetto a seconda della dimensione quindi è come se io facessi un mosaico con un cerchio da una parte e dall'altra gli dessi il compasso quindi da un lato ho un mosaico che riproduce un cerchio però quando lo ingrandisco il computer non è che capisce che è un cerchio quindi lui riempie questi spazi fa tutto un cerchio un po' sfocato dall'altra parte gli ho dato il compasso quindi gli ho detto adesso sto cerchio ridisegnamelo largo 30 lui punta disegna e il disegno è perfetto allora nei logotipi e nei loghi che sono disegni abbastanza semplici di solito si chiede ai grafici di realizzarvi sempre il formato vettoriale vettoriale vuol dire che viene fatto con illustrator quindi è un file di formato AI PDF diciamo AI siete sicuri che è vettoriale PDF potrebbe anche essere un B quando avete questo formato voi siete a posto perché lo mandate per stamparlo su un 6x3 prego ci accorgiamo che è vettoriale perché in grande lo resta resta bello sì sì allora l'altro l'opposto di vettoriale è o raster o bitmap sono tutti e due nomi molto impropri perché bitmap è anche il formato di immagine cioè purtroppo la terminologia in questo caso non aiuta attenzione voi potreste avere cioè come dire non è che sempre vi serve il vettoriale però quando va stampato molto in piccolo o molto molto in piccolo in grande e quello vi mette sicuri poi è vero che magari avete la fortuna di avere il logo bitmap no ha una dimensione che già quella di un palazzo siete a posto nel senso che non verrà mai sgranato però diciamo che non usa perché poi le bitmap grandi occupano molto spazio non si spediscono e via dicendo quindi per fare giusto un passo anche dal punto di vista di quello che voi dovete chiedere per avere un buon servizio e un buon logo oltre ai contenuti quindi l'immagine che racconta deve essere dovete avere una palette dovete avere la palette codificata con i numeri avete l'immagine vettoriale se uno studio grafico uno studio grafico insomma competente vi fornisce il vettoriale in alcuni formati diversi in formati di file no e vi fornisce anche l'immagine per il web più piccolina ottimizzata in RGB insomma vi dovrebbero dare per ogni logo un cd con un sacco di versioni di questo logo il logo in bianco e nero il logo su negativo però insomma diciamo che volevo darvi queste informazioni perché a volte cioè io ho visto arrivare dei loghi che venivano proprio voglia cioè la cosa migliore che si potrebbe fare era fare una foto allo schermo e poi ritagliarli perché sono delle robe inutilizzabili quindi veniamo al carattere ecco questo è un altro punto che per chi ovviamente non è del mestiere è ritenuto secondario e tutto sommato soggetto al gusto eccetera invece ha una parte molto importante questa è un'immagine così per perché con i font e con le scritte si possono fare un sacco di cose anche adesso va molto in modo anche costruire immagini eccetera e fare un logo logotipo vuol dire anche lavorare con i caratteri per trovare quello con la forma più giusta i caratteri si dividono in due grandi famiglie i cosiddetti font con grazie detti anche serif o bastoni ma vabbè e le grazie sono quei piedini che ci sono alla fine delle linee verticali i font senza grazie sui font ovviamente ci sono un sacco di cose buffe i shot the serif era una battuta sulla canzone di Bob Marley e il font serif e i font senza grazie sono quelli senza i piedini sotto le A ci sono due differenze abbastanza importanti nel senso che non è obbligatorio usare sempre font della stessa famiglia anzi dopo vediamo che si possono coniugare insieme con dei begli effetti font di queste due grandi famiglie però diciamo che il font con grazie su carta stampata rimane leggibile a dimensioni anche più piccole perché la grazia aiuta l'occhio a riconoscere la fine delle stecche sostanzialmente il font senza grazie messo molto in piccolo è quello che si usa di solito per no out mean ric cioè per le scritte in legalese che nessuno legge perché magari rimane visibile molto in piccolo perché non si impasta perché più però al stesso tempo rimane meno leggibile ed è anche più freddo tendenzialmente per cui se io voglio raccontare qualcosa poi dico più freddo poi di senza grazie ce ne sono 10 milioni con grazie altrettanti più tondi più grassi però diciamo che queste due famiglie sono due distinzioni che voi dovreste aver presente quanto meno per evitare dei carnevali di font nelle vostre se potessi darvi una regola vi direi di cancellare il vostro sistema operativo il comic sans che è quel font un po' fatto a tipo secondo loro tipo come si scrive nei fumetti che ogni volta che uno deve fare una roba giovane simpatica usa il comic sans ed è un font orrendo che non si riesce a scalare eccetera detto questo i caratteri insomma vi serve avere queste due distinzioni dopo vediamo perché come stanno i caratteri dentro al dentro alla pagina allora ci sono quattro tipi di allineamento usando word questo lo sapete cioè giustificato bandiera centrato o bandiera rovesciata il giustificato vedete l'ho messo apposta così ha un difetto che se uno non ci mette gli a capo le righe vengono spaziate per quanto il software sia evoluto vengono spaziate male possono venire spaziate male questo cosa vuol dire che apparentemente a voi sembra che tutto giustificato sia molto più ordinato più compatto eccetera in realtà vuol dire che dovete per forza se avete i blocchetti di testo piccoli inserire degli a capo perché altrimenti l'impaginazione viene così ed è brutta da vedere ovviamente inserire degli a capo però vuol dire iniziare a porsi un problema se guardate nelle riviste non ci sono mai tre a capo in fila di solito una riga dopo l'altra perché sta male non si va mai a capo dopo solo due lettere non si mandano mai a capo solo due lettere inserire la sillabazione sembra una cosa come uno schiaccia un tasto e sillaba però mentre su un word avete una pagina larga così e quindi è difficile che ci ponga il problema perché viene a capo ogni dieci righe se va male quando avete i blocchetti di testo su delle brochure è un po' più complessa la faccenda per cui in realtà succede che all'inizio tutti vogliono il giustificato poi dopo un po' si fanno un po' di prove e si scopre che invece gli allineamenti a bandiera che sia dritta o rovesciata sono molto più funzionali perché magari creano comunque un allineamento visivo da una parte o dall'altra quindi bisogna appoggiarli a un elemento grafico di qua o di là però non creano il problema della sillabazione e allo stesso tempo sono un pochino più mossi anche quindi invitano un po' di più alla lettura se ci fate caso nei quotidiani nei magazine tipo quelli che danno quei quotidiani al venerdì o al sabato eccetera quelli che sono un po' curati al punto instagrafico i testi degli articoli sono giustificati vabbè lì la gente che compone i quotidiani sanno comporre anche il giustificato però gli occhielli o gli abstract cioè i testi più in grosso sono sempre in bandiera da una parte o dall'altra perché quella deve essere la lettura proprio immediata non devo neanche aver bisogno di mettermi lì col dito invece quando leggo l'articolo ci sta per dirvi cosa che quando impostate poi il vostro garantino non tutti i testi saranno giustificati magari il claim e il pay off che poi vediamo saranno in bandiera ecco la leggibilità ovviamente è l'altro è l'altro aspetto sul quale ogni tanto si riesce a incastrare il cliente sulla lunghezza dei testi cioè se non ti ho convinto con le chiacchiere sulla sintesi sulla proprietà del linguaggio eccetera poi non ci sta il font quindi a volte ci sono dei testi che per metterli tutti dentro una 4 dovrei mettere la dimensione 7 8 che sono dimensioni illegibili quindi le dimensioni per fortuna ogni tanto ci aiutano a obbligare le persone a fare sintesi però non dovrebbe essere questo il percorso in realtà ci sono altri parametri che possono influenzare la leggibilità ci sono delle regole un po' auree diciamo che andrebbero mantenute per cui la distanza tra una riga e l'altra dovrebbe essere 1,2 l'altezza della riga non una riga esatta un po' di più poi si può leggermente comprimere però la spaziatura tra i caratteri si può ridurre tra la A e la B io posso ridurre quello che si chiama kerning cioè la distanza tra i caratteri però anche lì meno 10 meno 20 in alcuni casi è ancora accettabile a meno 50 le lettere si sovrappongono però già a meno 40 non è più leggibile l'interlinea ve l'ho già detto la spaziatura orizzontale e le dimensioni cioè questi tre parametri è vero che voi ci potete giocare in infinite potete frustare il vostro grafico finché non riesce a far stare la divina commedia in un rettangolo di 10 cm però non ha senso chiedetevi sempre sono riuscita a dire tutto quello che volevo però nessuno riuscirà a leggerlo perché è impaginato non è detto neanche che non sia leggibile non voglio dire che se uno si mette lì a guardarlo riesce a leggerlo ma l'obiettivo non è che uno si prenda la mezza giornata per leggere con l'ingrandimento della nostra brochure è che a colpo d'occhio lega le informazioni che ci servono quindi attenzione anche voi ecco va nei due sensi ci può essere il grafico che soprattutto se non è un'agenzia cioè noi voglio dire abbiamo una persona che si occupa dei contenuti gente che ripete questa cosa al cliente ce n'è diversa ma il grafico singolo quando voi gli dite no mettimi dentro tutta questa pagina qua magari invece che rompervi le scatole e dire ma no taglia il testo lui fa quello che deve mette tutto poi dice me l'hai chiesto tu quindi se non è una sensibilità che ha il grafico e quindi voi adesso avete gli elementi per capire è una sensibilità che dovete avere voi quindi indicativamente la regola sarebbe di non andare attorno a questi parametri piuttosto di tagliare i testi sembra assurdo però nei quotidiani fanno così cioè riscrivono negli articoli quando fanno le prove di caduta dell'articolo se ci sono degli a capo storti il giornalista piuttosto cambia le parole che scrivono la frase per riempire bene perché nel quotidiano al di là della qualità letterale di alcuni articoli interessa che la gente legga perché lo legge al bar mentre beve un cappuccino non è che ecco questa è una è una schermata di un'applicazione che è sempre stata messa in commercio dalla Adobe che vi permette è un'app per tablet per iPad non so se qualcuno di voi ce l'ha insomma è gratuita si chiama Fontfolio che è il nome della raccolta di caratteri che ha fatto la Adobe e questo vi permette di vedete ci sono tre linguette di provare varie composizioni su quello che è il layout tipico di una pagina stampa cioè titolo occhiello abstract e corpo del testo allora vedete che qui ad esempio abbiamo un esempio di tre font con grazie diversi perché non sono lo stesso carattere lo vedete da come sono tagliate le grazie ad esempio vedete che là su la grazie è tagliata in diagonale questa invece è una grazia classica questo probabilmente è un è un vuoto di Georgia credo sia in realtà è una variante di Georgia nel senso che poi hanno dei nomi in codice relativi al pacchetto in cui vengono comprati si chiama Tabac ma non è questo è in italico cioè è in corsivo ecco una cosa un'altra cosa abbastanza importante però capisco che poi in un po' nello specifico Word ha questa cosa per cui qualsiasi carattere può essere inclinato nel mondo della tipografia vera non è così cioè il carattere inclinato è disegnato apposta mentre Word ha un suo algoritmo per cui prende il carattere e lo piega tra c'è un carattere che non sono fatti per essere piegato quindi questo si chiamano pesi queste varianti dei font dei caratteri e questo è un peso inclinato questo invece è un peso normale un regular si verrebbe detto il carattere classico di buona leggibilità vedete che su con questa dimensione del carattere e questa dimensione del paragrafo sono riusciti a metterlo giustificato senza inserire degli a capo in realtà poi questi cioè sono furbetti perché i testi che usano qui sono quei testi tipografici simulati che sono costruiti apposta per non avere parole troppo lunghe perché noi adesso abbiamo fatto dei materiali pubblicitari per una manifestazione sulla drapa nocitosi che è la nemia falciforme ogni volta che nella riga del paragrafo ricorre la parola drapa nocitosi non ci si sta più dentro perché una parola è lunga 12 caratteri quindi quindi vabbè giustamente scusate un attimo ecco questo esempio sono altre combinazioni cioè questo in realtà è una vedete sotto ce ne sono alcune altre più in piccolo per me è un'applicazione che non ha nessuna utilità pratica nel senso che poi in realtà io non scelgo quei font lì ne scelgo magari dei simili però mi è utile perché a occhio riconosco che è qualcosa che sta bene però sul foglio bianco non saprei ricostruirlo cioè adesso io forse dopo anni che ci lavoro magari sì magari però vedete cioè serve proprio per farsi l'occhio e vedere come tre caratteri diversi possono stare bene insieme in realtà qua sono due cioè il maiuscolo e quello usato per il testo che sono lo stesso carattere con due pesi diversi e un altro che invece proprio è uno scritto a mano un handwriting si chiamano questi sono una variante che esce dalle famiglie solite no? qui vi ho messo un altro sono sempre caratteri con grazie quello con grazie quadrate quelli sotto sono con grazie tradizionali qui sotto ci sono gli altri esempi cioè quello che volevo dirvi è anche sulla scelta del carattere vi converrebbe farla in coordinato con il logo sarebbe il massimo se proprio non l'avete fatto a suo tempo datevi due o tre caratteri che vedete che stanno bene insieme e cercate di mantenerli se possibile perché sì prego una lettera anche scritta al comune o a qualunque cosa quindi anche potendo sì e di solito vabbè parlo per esperienza personale portato a usare il Times New Roman anche se tante volte vedo che qualcuno usa l'Arial che è più leggibile forse rispetto allora infatti stavo per dirvi questo i font più utilizzati cioè allora succede questo voi comprate Office comprate Windows eccetera ci sono dei caratteri installati dentro quindi dovete tenere che sono i cosiddetti caratteri di sistema che sono anche quelli che se fate un sito internet siete sicuri che tutti hanno installato sul loro computer che era un vincolo che fino ad un anno fa era abbastanza severo perché se tu fai un sito in Georgia e la persona che riguarda non ce l'ha lo vede male adesso invece per fortuna c'è modo per aggirare questa cosa però tra tutti i caratteri che sono nei set di sistema i più decenti sono il Times New Roman l'Arial qualche qualche versione di Windows anche Swiss scritto Swiss e il Georgia direi perché gli altri non sono presenti in tutti i loro pesi eccetera allora cosa succede che siamo realistici se il 90% delle lettere voi le scrivete su carta intestata magari fatta bene eccetera dopo ne parliamo ma le scrivete con Word nella vostra scelta di caratteri metteteci dentro uno di questi cioè nel senso vedete come sta col Times New Roman personalmente ad esempio per le lettere che vanno stampate su carta io consiglio sempre il Times New Roman o un carattere con grazie è vero che molto spesso adesso le lettere vengono messe su PDF spedite via mail magari e allora a monitor risultano più leggibili caratteri senza grazie quindi l'Arial però diciamo che potreste se vogliamo semplificare darvi il Times New Roman e l'Arial come scelta e quelli li prendete così come sono più che altro perché siete sicuri che chiunque sul computer della vostra associazione se li ha e magari lavorare un po' di più sul carattere per i titoli o su quello del logotipo e tenere questo carattere magari un po' più particolare un po' più personale per le robe fatte da tipografia quindi prego per interesse personale quando si fanno delle carte intestate per eventi particolari o per un progetto specifico vabbè tendo sempre a mettere un carattere un po' più particolare però poi mi rendo conto che se lo apre come diceva lei un'altra persona che non ha quel font esce tutto sballato come si può cioè si può girare lo stacco dobbiamo usare sempre gli stessi che c'hanno tutti oppure si fa oppure fare il file il pdf le soluzioni purtroppo non sono tantissime cioè o io impagino qualcosa col mio font eccetera eccetera faccio un pdf e mando via quello però dopo non è più modificabile in teoria oppure c'è un font che hanno tutti nel senso che per i lavori che vanno a stampa io faccio il mio impaginato addirittura posso anche c'è un'operazione che si chiama tracciare i caratteri cioè io quando ho finito l'impaginato prendo tutti i caratteri li converto in un tracciato che non si sa più se sono caratteri e quindi il tipografo dopo li stampa bene non c'è un modo per passare un file da uno all'altro che mantenga i caratteri le presentazioni powerpoint ad esempio hanno la funzione di includere nella presentazione i caratteri così se me lo piglio dal mio computer lo metto su uno su un altro perché il mio non va in teoria il carattere dovrebbe restare in teoria succede una volta su dieci che rimane quindi non ci sono oppure però ripeto cioè qualsiasi soluzione passa dal fatto che poi il file non è più modificabile una cosa il problema è che in un'occasione per un progetto specifico ci sono alcuni fonti che fanno anche da adesso non uso il termine giusto da 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 stereo fidelic mi pare quello là che ha le lettere la i con la freccetta che mi servono anche per animare diciamo la scritta e però lì mi trovo sempre con lo stesso problema l'unica soluzione se è una cosa che dovete far voi e dare agli altri è o fare un pdf oppure trasformare quel carattere in un'immagine cioè voi fate una scritta in un programma però dopo chi lo prende non la cambia più e questo purtroppo non è non si risolve perché anche ripeto anche dove c'è l'opzione incorpora carattere che dovrebbe garantire che il pacchetto si muove se uno passa da me capicino si perdono quindi non c'è è una cosa che a noi succede poco perché in realtà di solito si fa così cioè se c'è un progetto particolare l'associazione viene da me gli faccio una testata grafica che loro inseriscono nella carta intestata e poi scrivono con times area eccetera però è ora di pausa già cosa dite vado avanti come volete vado finisco la parte sul carattere perfetto ma ho quasi finito sul carattere in realtà mi fermo finisco il carattere con l'ultima slide poi allora in realtà con la sua domanda ho anticipato questa slide perché c'erano alcuni temi caldi sul carattere caratteri di sistema questa è una delle cose di cui si parlava c'è un altro discorso so che sembra buffo parlare in Italia oggi però i caratteri quelli belli vengono disegnati da della gente che ci campano i caratteri si comprano in teoria noi noi siamo obbligati a comprarli quindi cosa succede che allora essere un po' pignoli se io ho scelto quel carattere per la mia comunicazione aziendale io poi non è che dovrei sarebbe carino che io non lo regalassi a tutti quelli che mi fanno la grafica poi nessuno allora in Italia non c'è mai stato un processo per violazione dei diritti dei copyright sui caratteri e quindi non è un problema però ad esempio a me quando un'associazione chiede di mandargli il font del carattere io sto premesso e gliela faccio e gli guardate io non sarei autorizzato perché primo io li ho pagati e ho pagato per poterli usare io poi capiamo benissimo ripeto siamo in Italia il periodo è quello che è non è di sicuro che uno può stare a un pelle scatole su questo però in generale ecco c'è questa soluzione che sono i cosiddetti web font google font cioè google oltre a fare motore di ricerca e mille altre cose si è messa a realizzare dei set di caratteri che sono un po' meno perfetti dal punto di vista tipografico dei del vetica che uno compra paga 300 euro tutti i font perfetti sono un po' meno perfetti però sono fatti apposta per essere condivisi sia su internet che su su computer quindi possono essere distribuiti possono essere distribuiti con quella che viene chiamata non ho inserito una slide ma forse era opportuno che lo facessi licenza creative common non so se avete mai sentito parlare licenza creative common testi immagini possono essere distribuite così cioè è una licenza gratuita che vi permette l'utilizzo a scopo personale e non a scopo di rivendita di font testi immagini vuol dire che voi potete scaricare il font di google usarlo per la vostra comunicazione non potete quel font venderlo a un allocco che non sa che c'è google font costa 300 euro e tenerevi 300 euro perché questo non è consentito quindi purtroppo bisogna trovare una mediazione perché questi web font da grafico vi direi non vanno bene per fare l'impaginato perché hanno quando ho disegnato un font ad esempio se c'è l'L minuscole le i vicine non hanno lo stesso spazio di una M di una O quindi un font disegnato bene è fatto in modo da gestire tutte queste doppie in modo bilanciato un web font spesso non lo fa però il web font è gratuito il google font è gratuito e creative common quindi lì uno deve un po' barcamenarsi tra le esigenze che ha insomma non posso darvi una soluzione la soluzione in realtà che applicano tutti è di fregarsi e di usare tutti i font come li fa però almeno formalmente la questione del creative common apro una piccola parentesi che poi chiudo è relativa anche il discorso delle immagini allora a noi è capitato un paio di volte capita spesso di comprare delle immagini da banche dati perché le foto che avete voi delle vostre realtà magari non sono belle oppure sono belle perché sono dei bei ricordi ma se le metti in stampa comprare delle immagini da image bank non mette al sicuro dell'esclusività su quell'immagine nel senso che se io voglio l'esclusiva dell'immagine di get images eccetera devo pagarla 2000 euro e nessuno paga 2000 euro un'immagine già molto se uno la paga perché c'è molta gente che la piglia da internet se la mette e basta e quindi l'altro spunto che volevo darvi era di mi dare per testa il font quando ragioniamo di contenuti di materiali che dobbiamo comprare per fare la nostra comunicazione secondo me vale appena alcune immagini molto belle se sono di campagna si possono comprare sui portali a 20, 30, 40 euro che non è una cifra folle con l'attenzione a sapere che non saranno vostra esclusiva per noi è capitato di una realtà che ha usato un'immagine tra l'altro contro il nostro suggerimento quando ci arriviamo vi dirò perché ha usato un'immagine della bambina con una cuffietta da ospedale come immagine principale della campagna dove noi gli avevamo proposto usare un disegno e dopo vi farò vedere degli esempi dopo sei mesi un'altra associazione di un'altra città nella pagina facebook l'ha messa allora lì è stato facile perché questa associazione l'ha messa in buona fede senza pagarla abbiamo scritto abbiamo detto guardate verificate di avere i diritti per questa immagine perché noi l'abbiamo acquistata non è nostra esclusiva però dopo loro l'hanno tolta perché in effetti l'hanno presa da internet e messa lì fregandose però se avessero anche loro pagato 30-40 euro come noi loro avevano tutti i diritti di usarla ed era un'immagine uguale e questo nel settore non profit dove l'uomo l'individuo è al centro non è una bellissima figura perché uno dice ma allora vabbè l'individuo è al centro però usate la stessa foto di un bambino in 10 associazioni quindi per dire cosa che font immagini cioè ci sono delle cose che vale la pena di pagare anche poco o cose che non vale proprio la pena di pagare come aprirsi altre strade come l'illustrazione dopo una presentazione apposta tornando finisco sui font leggibilità omogeneità l'abbiamo visto nel senso di scegliere due o tre font e poi però di usarli in modo costante ecco i pesi condensed sono i font più belli come il Georgia l'Elvetic eccetera hanno tutti i pesi cioè il maiuscolo scusate il grassetto il costigo eccetera anche in variante condensed cioè sono un po' più sottili allora quello è un vantaggio nel senso che magari quel carattere vi costa un po' di più da usare a voi o al grafico nel senso costa un po' più di fatica perché i font del cavolo ci sono dei siti c'è questo sito che si chiama dafont non so se avete mai usato dafont.com ha centinaia di font gratuiti brutte copie di font ufficiali dove magari mancano i numeri mancano gli accenti stranieri il problema è che magari devi scrivere una roba in arabo l'Elvetica ha tutto il set di caratteri arabo lo svizzera che è la versione diciamo tarocca dell'Elvetica non ce li ha quindi insomma lì bisogna un po' regolarsi e gli Elvetica e i georgia hanno il vantaggio di avere questi pesi condensed che sono difficili da realizzare perché vuol dire mantenere un font leggibile con una larghezza stavolta della metà alcuni font lo rendono possibile quindi se dovete scegliere vi chiedono che font volete usare come font di base quello per scrivere tanta roba tanti test tanti titoli se è un font che ha i pesi condensed ve la cavate molto meglio ok se invece non ce li ha voi siete vincolati al grassetto al corsivo e al regular quindi questo dei condensed non viene dichiarato perché di solito li vede solo chi compra i caratteri di pagamento cioè l'agenzia però voi lo sapete potete dire ma questo font ha anche i pesi condensed questi allora poi ci troviamo in grafica che dice allora fallo tu allora fallo tu no ma magari magari cioè se fossero queste le domande che uno deve rispondere allora fallo tu sarebbe una passeggiata no le domande quelle tremende sono quelli che ti dicono ma non è successo la settimana scorsa ve lo racconto perché fa abbastanza l'idea però dovevano impaginare un volantino mandato i materiali per fare una facciata gli ho detto va bene dietro però rimane bianco perché non avete dato niente da metterci questi mi hanno detto ma non si può fare un foglio con una facciata sola e gli ho detto ma il retro c'è sempre comunque e su questa cosa sono queste le domande che uno dice vabbè allora no a me la vedete perché dico magari è un art graph che gli dice ma non mi dai la paletta non mi dai così no così vedete se è un grafico visto che lo pagate vuol dire è giusto che faccia il suo lavoro e un'altra cosa da controllare scusate poi vi lascio che intersega il colore carattere e il tema colore e carattere è il contrasto colore allora su internet ci sono delle regole molto precise per i siti delle pubbliche amministrazioni o i siti di informazione sanitaria sulla accessibilità e sulla leggibilità si chiamano norme V3C e VAI e sono quelle che tutti i siti del comune del governo eccetera devono avere questo bollino che dice certificato V3C certificato V3C vuol dire che le informazioni sono contenute all'interno del sito in modo che un browser come si dice fonetico scusate quei browser che leggono per i non vedenti i siti riescono a leggerli bene il VAI invece ha dei criteri un pochino più ampi cioè più concettuali tra questi c'è il contrasto colore allora ci sono delle online ci sono dei siti dove mettendo dentro il colore del testo il colore dello sfondo vi restituisce un indice di leggibilità ma non dico che lo dovete far sempre però sappiate che su internet questo obbligo c'è su carta va anche un po' al vostro buonsenso quindi è inutile mettere tono su tono cioè un verdino su un verde scuro a meno che non vogliate creare una scritta che si vede solo alla terza occhiata ci può essere sullo sfondo a volte le parole chiave si mettono in modo un po' sfumato però state molto attenti al discorso contrasto colore legibilità che va di pari passo con i font cioè il font un po' più grosso graziato rimane leggibile con un contrasto inferiore il font sottile senza grazi come l'elvetica light che è quello proprio più sottile se non ha un contrasto da bianco al nero non si legge quindi sono tutti fattori che dovete valutare io vorrei che li teneste presenti anche nel momento in cui il grafico vi presenta una soluzione nel senso che tante volte noi questi ragionamenti li facciamo prima di presentare la proposta per evitare poi quei paradossi per cui si vuole ti chiedono vorrei però meno contrasto tra la scritta e lo sfondo e un font più sottile così non si legge allora se voi lo sapete già evitate magari di spingere il grafico a martellati in una direzione in cui il risultato non è leggibile se non lo sapete il grafico vi dirà ma non si legge no prova fa la prova non si legge e torna indietro quindi questo era solo per io direi adesso di fare un attimo di pausa poi partiamo con la parte un po' corposa di immagine coordinata e poi facciamo un po' di esercitazione magari oggi pomeriggio non ascoltate solo la mia voce va bene che non è fare delle arlechinate perché poi se tu cambi il colore devi essere molto vedete qui cambia il colore ma sono rigidissimi poi sull'ingombro del titolo sulla posizione cioè tu devi avere sempre un elemento che fa da perno e che ti permette di essere riconoscibile il resto lo puoi variare lo puoi variare se l'hai progettato all'inizio ovviamente poi ci sono anche delle identità coordinate un po' più più caotiche un po' più variopinte però diciamo che in generale è un lavoro sempre lì essenziale elegante però impostato da subito con un po' di margine di lavorazione le palette due o tre font eccetera mi permette di essere riconoscibili un po' più lungo nel tempo che vuol dire che banalizzando cioè un lavoro per un logo fatto bene di costo uguale a un lavoro fatto male da questo punto di vista perché non è che non ti fa pagare di più per tirare la palette però se lo fai far bene per cinque anni puoi lavorarci e capitalizzare tutti gli sforzi perché spendi cento euro per fare una brochure ne spendi cento l'anno dopo però dopo due anni quella brochure è stata riconosciuta dalla somma delle persone se invece cambia ogni volta i cento euro che hai speso prima te li sei fumati adesso lo sto banalizzando un po' dicevo coerenza è la parola chiave cioè questo è uno sforzo che voi dovete fare voi per primi anche se cambiate come utente è un problema strutturale delle associazioni di no profit che c'è un grosso turnover diciamo magari a volte nei referenti tipo la strada ha cambiato referente marketing chiamiamolo tre volte in un anno perché non è un'azienda profit dove c'è un ruolo la persona che un po' se ne intende se ne occupa dopo tre mesi questa persona diventa educatore residente di una comunità fuori Milano non può più farlo arriva un altro capita spesso che passi di mano la palla della comunicazione allora più è codificata meglio è soprattutto poi se c'è una figura che è un referente che magari non se ne occupa però ha in testa queste cose è lui che tiene d'occhio la persona che se ne occupa che di solito insomma parliamoci di chiaro si sceglie quello che ha un po' più di abilità anche su internet magari se è una figura interna però gli si danno dei paletti all'interno di quali muoversi che lo aiutano e allo stesso tempo aiutano la vostra identità questo purtroppo come dire è una strategia per sopravvivere in un contesto non ottimale perché l'ottimale sarebbe che c'è uno che è lì dalla fondazione che si occupa di comunicazione ma chi se lo può permettere voglio dire quindi ripeto chiedere la volta che vi rivolgete all'agenzia più gli chiedete in modo coordinato di darvi tutti questi materiali più è facile il lavoro strumenti qui iniziamo con gli strumenti il logo l'abbiamo già fatto il payoff l'abbiamo già fatto lì qualcosina abbiamo già detto ricordatevelo io guardo il logo qualcosina di voi l'ho capito nel biglietto di visita cosa voglio far capire ogni strumento ne dobbiamo dare un compito deve essere uno strumento per comunicare tutta l'associazione perché lo do come fanno le fieri commerciali allora dovrò probabilmente sarà un biglietto su due facciate con il logo bello grande dietro i dati lo do solo alle persone con cui lavoro che già mi conoscono allora posso anche forse infischiarmi del logo che sia grande faccio per dire metto più in evidenza il numero di telefono o il sito che è la cosa tramite il quale mi contattano vedete anche uno strumento stupido come un stupido cioè stupido nel senso che ce l'hanno tutti con un biglietto di visita può assolvere ruoli diversi di sicuro non può presentare l'azienda ok non può dare informazioni però può riportare il logo sicuramente allora se è il primo posto dove il logo viene visto il logo deve essere bello grande se lo strumento che usate per rompere il ghiaccio se invece usate una brochure no capite l'importanza di pensarlo in modo coordinato se no fate il biglietto di visita sul sito come nel regalo a 100 perché fa comodo questo a poco vi trovate un biglietto di visita dove il numero di telefono è troppo piccolo il logo è troppo piccolo non serve a niente è uno strumento nullo di nuovo sono soldi che potete spendere meglio la carta intestata e il biglietto di visita sono i due strumenti che di solito tutte le associazioni hanno devono avere la carta intestata è stata fatta in Word di solito quindi mettete l'intestazione il piedi pagina anche qui ad esempio la Opim si è fatta fare una carta intestata il problema della carta intestata è che voi dovete trovarci tutti i giorni punto a capo quindi deve essere come dicevamo prima semplice devo poterla aprire su un altro computer però in alcune situazioni quando io scrivo ad esempio ad un'azienda per chiedergli se vuole prendere tre dei miei ragazzi in tirocinio formativo per persone con disabilità eccetera magari ho bisogno di presentarmi un po' meglio è l'unico strumento che ho quello allora di solito noi ad esempio predisponiamo due template due modelli di carta intestata uno leggero con giusto il logo i dati che devono esserci e quello lo potete usare per i preventivi le fatture eccetera e uno dove magari il visual che abbiamo inventato per quella realtà la foto eccetera magari occupa metà della pagina come sfondo e c'è un blocchetto di testo più ridotto dove si può scrivere e quello può essere usato ad esempio come prima pagina per documenti anche più lunghi dietro ci mettete le pagine con la carta intestata normale quindi anche lì quando chiedete la carta intestata o se vi rivolgete a un grafico fatevi fare le due varianti la carta intestata da stampare a colori con un po' di immagini eccetera e la carta intestata light da usare sempre un altro discorso sulla carta intestata dove spesso si vanno a spendere un po' di soldi male è questo se volete fare una carta con solo il logo e i dati ve la fate in word la stampate la bisogna e siete apposti se invece avete per qualche motivo l'esigenza di mandare via tante comunicazioni istituzionali a tutti i vostri sponsor tutti gli interlocutori e non volete stampare ogni volta però una brochure perché altrimenti costa troppo si può stampare la carta intestata in tipografia nel senso vi fate fare un bel progetto grafico con gli strumenti adatti di una carta intestata tipografica dopo voi ci stampate sopra in ufficio il testo in nero però tutto quello che è colore sta attorno allora non so come dire è molto difficile far apprezzare la differenza perché in realtà tra una stampa da ufficio una stampa tipografica per uno che non ne sa niente la differenza quasi non si nota si può notare nella qualità della carta nella resa dei colori delle foto e poi c'è un altro dettaglio che non so se avete mai fatto caso cioè la possibilità o meno di andare al vivo cosa vuol dire andare al vivo che questo prendo l'esempio di questo segnalibro di tua visita vedete che l'immagine arriva fino al bordo no? questo è tipico della stampa tipografica perché la macchina della tipografia ha il file aveva un'abbondanza cioè un pezzo che viene tagliato via viene tagliato e il colore arriva fino al bordo nella stampa d'ufficio voi non potete perché la macchina la stampante deve prendere il foglio da lato e lì non si stampa quindi avrete sempre questa cornicetta bianca allora a seconda dell'esigenza un grafico bravo dice faccio tutto su bianco e non si nota ma se ad esempio voi avete una bella immagine e volete fare un foglio a 4 con una bella foto sopra fino al bordo se lo stampate in tipografia anche chi lo riceve lo percepisce e di nuovo siamo sempre alle parti della percezione della comunicazione quindi non robe di sostanza però se avete un budget di 1000 euro per la carta intestata una buona soluzione intermedia è fare una bella stampa in tipografia di 40.000 fogli 30.000 fogli vi dureranno 3 anni e voi vi impostate un template di word che scrive nella parte giusta bianca e avete uno strumento più professionale più valido a livello di quelli che producono emergency o le grandi multinazionali del no profit per virgolette e alla fine avete speso magari lo stesso che in cartucce di stampante stampare foto a colori col bordo bianco brutto per due anni quindi in base a questo discorso dovrebbe proprio escludere la stampa in bianca e nero no io diciamo dipende dagli obiettivi cioè c'è una carta in testa e la stampa così magari le comunicazioni più noi come azienda ad esempio i preventivi li facciamo tutti in bianca e nero quindi per neanche come la si imposta elimini le base cioè elimini tutto ciò che ti dà il senso del continuo e del tagliato lì dove tu hai capito il logo si può spacciare anche per tipografica lì dove cominci con i fondi o con le bande di colore pieno allora sì si vedrebbe ad occhio la differenza come azienda cioè noi siamo agenzia di comunicazione noi i nostri preventivi per una scelta trasparente con i clienti sono tutti in bianca e nero cioè il logo tutto in bianca e nero perché è inutile spendere i soldi nella stampa a colori cartucce che poi non si smaltiscono quando dobbiamo fare una roba un po' più importante sono bravi i vostri clienti che le accettano no no però c'è proprio un pezzettino sotto c'è tutto un come si dice abbiamo fatto questo piccolo lavoro di non certificazione ambientale perché non si può dire però nelle mail c'è scritto sotto non stampare sta mail se usiamo la carta riciclata abbiamo le foto sul sito dei blocchetti che facciamo sul retro insomma queste cose qui che noi le facciamo comunque perché ci crediamo sul serio poi ci hanno detto magari di un'altra agenzia nostra parte ma ditelo fuori perché se no abbiamo iniziato a farlo a volte anche l'agenzia ha bisogno di qualcun altro che gli dice no come perché quindi dicevo la mia intersezione si chiama di Modena il sito intersezione punto com e no dicevo in realtà il bianca e nero ci può stare assolutamente secondo me dipende è una scelta cioè se uno dice no io guardate voglio presidenza produttiva voglio stampare tutto in bianca e nero allora facciamo proprio tutta la grafica bella in bianca e nero così viene stampata bene perché la cosa brutta è solo vedere una grafica che è palesemente a colori stampata in bianca e nero cioè una foto dove ci sono dei stampare una foto a colori in bianca e nero in una stampante d'ufficio vuol dire che ci sono delle tinte che si impastano diventano tutte nere quello no allora bisogna farla magari trattare un attimo perché sembra una bella foto in bianca e nero che ha tutta la sua dignità proprio a voler essere creativi noi abbiamo curato appunto un laboratorio cioè un gruppo di ragazze che sono dei laboratori di ceramica con dei disabili loro hanno sono molto giovani hanno molto tempo cioè gli piace investirci del loro abbiamo detto guarda possiamo fare una cosa abbiamo fatto il modello di bianco e nero con un timbro con una forma specifica del loro logo loro hanno il timbro con l'inchiostro colorato stampano la loro foto poi timbrano in un punto preciso che è anche bello perché ha un effetto un po' mosso l'elemento di colore glielo mette il timbro glielo mettono loro a mano devono fare 10 lettere alla settimana lo fanno ha speso 30 euro di timbro e sono a posto in quel modo lì era anche carino poi la carta era riciclata il timbro era su un colore arancione c'è un bel contrasto perfetto bisogna vedere con chi è che fa se uno c'è tempo di fare queste cose su me davvero non c'è una regola bisogna solo capire di nuovo l'obiettivo e poi si trova il modo più economico per far bella figura e essere all'altezza ecco cataloghi, brochure e materiali a stampa allora questo qua sarebbe un mondo cioè dovevamo fare una lezione solo su questo e la cosa che abbiamo riscontrato noi però è questa cioè in linea di massima le associazioni anche le più grosse anche la strada che comunque io la cito come esempio perché a Milano comunque è molto insomma ha molti punti ha molti appartamenti residenziali insomma fa molti servizi in realtà quello che fa un'associazione può essere riassunto in una brochure sempre di quattro facciate dicono un pieghevole a due ante serve per dire cosa fa di speciale quell'associazione poi la presentazione dei singoli servizi perché l'associazione può fare n.000 cose può essere fatta di solito con degli strumenti a schede quindi il pacchetto base che io sul piano statistico vi suggerirei è pieghevole a due ante che si può stampare in formati standard postalizzabili 10, 15, 10 per 21 eccetera una cartellina cartellina porta documenti personalizzata col vostro logo eccetera ed eventualmente delle schede questo perché le schede ve le potete fare su un template fatto bene in Word deve stamparvele voi penso delle schede perché ad esempio lo vedrete dopo la strada ad esempio ha appartamenti residenziali piani di inserimento lavorativo assistenza domiciliare tanti servizi non ha senso fare un libro di 10 pagine che stampate una volta l'anno dopo vi chiudono due appartamenti staccate le pagine una per una no allora di partenza per essere realistici con una brochure a 4 ante una cartellina e delle schede di solito si riescono a temperare tutte le esigenze la cartellina comunque ti rimane anche nel momento in cui vai a presentare un progetto la reportistica di un progetto la fai istituzionale non tarata sul singolo documento adesso tra l'altro ci sono no adesso noi da un po' che proponiamo ci sono dei layout di cartellina dove hai nel pieghevole hai due lunette ritagliate questo ti permette di infilarci dentro i fogli di spillarle di avere una specie di autocopertinante oppure di usarle come cartelline tra le quali anche qui sono piccoli accorgimenti magari spendere qualche soldo in più e fare una cartellina con la tasca se si fanno le schede può avere un senso magari si stampa un colore o due colori per esempio questa realtà ha bisogno di ha una brochure che spiega dove sono chi sono chi gli ha fondati il loro carisma eccetera poi però mi dicevano noi abbiamo otto servizi diversi parliamo con tre assessorati diversi del comune come facciamo ad avere uno strumento per dire vi fate otto schede una per ogni servizio in grafica coordinata poi vi faccio vedere le pagine pubblicitarie relative ai servizi a seconda di con chi è andata a parlare inserite che cosa è una brochure unica per ogni servizio sì però è in formato standard fogli mobili è una quattro invece che è un formato particolare loro infilano queste schede loro poi le hanno volute far stampare in tipografia avevano i fondi eccetera poi uno le può stampare anche da ufficio le infilano dentro la loro cartellina e è tre anni che le usano bene o male non hanno avuto bisogno di stampare altro in tipografia così come i cataloghi ad esempio dei dei manufatti dei laboratori che a volte vengono venduti sotto Natale ad esempio l'Opim ha questi laboratori dove per autofinanziamento i ragazzi possono fare dei sottovasi di ceramica hanno un prezzo si possono ordinare allora anche lì il suggerimento era stato fate una brochure generica dove magari invece che mettere la foto di quello specifico sottovaso di ceramica mettete un disegno un'illustrazione che rappresenta e la fate stampata bene eccetera che vi dura due o tre anni e poi magari si fanno delle schede sempre in A4 con i prodotti le foto dei prodotti di quell'anno perché magari il laboratorio di ceramica l'anno prossimo vi chiude voi prendete le 10.000 cataloghi che avete stampato li buttate via perché dico 10.000 perché la stampa ha una regola bastarda che è più stampo meno mi costa il singolo stampato se stampo poco spendo un sacco allora il suggerimento è quello di fare in modo di poter andare in tipografia con le tirature sempre più alte possibili anche perché rivolgersi a quei siti online come Flyer Alarm ce ne sono altri di stampa online costa pochissimo però il rischio è che noi li abbiamo usati due o tre volte li sconsigliamo sempre eccetera sulle cartoline anche anche sui biglietti di visita anche anche però non puoi controllare la carta non puoi vedere una prova di stampa quindi se viene male ti becchi 2000 biglietti di visita e quelli sono non è che te li prendono te li cambiano eccetera infatti io ho fatto con i biglietti di visita sono gratis su www vista print vista prima non per difendere la categoria no no ma prova 3 euro 500 biglietti più importabiliere più paglietti un dingo sì ma se lo faccio anche le spese pagate non ti dice niente no ma infatti è una risorsa dipende esatto cioè bisogna o starci sopra un po' o sapere che li usa ad esempio per fare le cartoline i volantini in grande quantità sono perfetti perché un volantino front e retro sai che magari non userai 27 gradazioni di rosso perché la stampa potrebbe non essere perfetta fai un volantino semplice ti costa pochissimo e va bene però diciamo questo per i materiali magari di una campagna o di un materiale istituzionale che lo fate una volta e poi più forse vale la pena se stiamo parlando di comunicazione allora se queste cose devono comunicare non possono essere così ibride cioè semplici bisogna che siano un po' più almeno poi ripeto se meritirà quel proprio mulino però un pochino più curate bene quindi diciamo che vabbè una soluzione poi ogni realtà ha bisogno della sua ovviamente è quella di andare a realizzare una brochure a 4 ante in formato postalizzabile una cartellina istituzionale un template per fare delle schede in word che va benissimo template fatto però da un grafico quindi che vi fa un bello sfondo vi mette il font a misura e dopo lo potete usare altri materiali a stampa per l'identità aziendale io di solito tendo a scluderli a meno che non ci sia un'esigenza specifica cioè sono i 30 anni dell'associazione che per 30 anni nessuno ha saputo che esisteva ma nel momento in cui esce pubblicamente vuol dire che c'è da 30 anni vuoi fare la spilla vuoi fare la cartolina vuoi fare la foto d'epoca su carta acquarellata però è già una specie di prima campagna non è proprio l'identità ecco il packaging invece è un discorso un po' particolare sì benvenuto scusate arrivo volevo chiedere un'informazione sui manifesti e le locandine perché ci sono alcune agenzie di grafica che si offendono quando vendono in giro manifesti quelli monocolore tipo fucsia giallo verde che dicono io quel prodotto non lo tratto però dico se viene usato quel prodotto è da prendere in considerazione o è sempre da escludere poi ti volevo poi volevo chiedere lo so lo so che è una questione economica e poi volevo chiedere una cosa sul sito internet sull'uso di immagini sul sito io dopo ciò abbiamo una parte di presentazione quindi se va di tenere la la domanda sul sito per dopo allora quegli strumenti lì i manifesti diciamo quelli che c'è dopo il verde acceso il fucsia stampato in nero allora è vero che è uno strumento che viene abbastanza snobbato di solito perché è uno strumentazzo così proprio da quantità anche lì io ad esempio non ho delle preclusioni se nel budget di un evento cioè ad esempio io non credo moltissimo oggi come oggi sugli eventi nella pubblicità per affissioni però parlo del contesto modenese dipende anche da come è fatto il territorio a Modena certe cose ad esempio per i target giovani tu le raggiungi meglio con delle cartoline gli inviti sui social l'affissione tra che costa tra che devi prenotare sei mesi prima è un strumento che la gente ormai lo usano solo i grandi le arcopli per coppe i grandi centri commerciali da noi almeno così quindi le fiere però difficilmente sull'evento ad esempio benefico vabbè detto questo se nell'ambito di un progetto uno dice metto un budget voglio comunque fare le affissioni perché il comune mi regala gli spazi però non voglio spendere dei soldi per niente uno può anche dire faccio già che devo fare le faccio così magari anche lì questione di creatività qual è il limite che tu stampi su un fondo colorato che ha quel colore lì e basta se magari trovi un colore che c'entra qualcosa con la tua palette tanto meglio sono tre colori di solito li fanno i colori dell'evidenziatore quindi un po' difficile però facciamo finta che il giallo ci stia il grafico che lo fa invece che fare la solita scritta sconti 20% può fare qualsiasi cosa stampa solo in nero lui lo sa può anche mascherare ad esempio io sto di fare una roba del genere ti direi stampiamo tutto nero e ti tiro fuori col bianco che in realtà poi è il colore della carta un disegno una scritta cioè si possono fare anche delle cose belle in negativo oppure usando degli altri lì non è tanto è chiaro che uno strumento economico e come tale viene percepito però se il grafico è bravo fa del limite è uno spunto è chiaro che se il grafico cioè quegli strumenti li di solito li fai in autocomposizione la tipografia o lo stampatore nel senso che sono c'è sempre un ragazzo che usa gli stessi sette font è più dozziale sì però vuol dire il risparmio in realtà sul costo di stampa allora se tu hai un grafico che sa usare e noi a Gemini per tantissimi abbiamo un teatro hanno pochissimi soldi noi da 10 anni ormai io li seguo li seguivo anche prima da privato loro stampano tutti in due colori rosso e nero in dieci anni abbiamo provato tutte le combinazioni per far figurare la stampa in bicromia una roba quasi creativa lì dipende molto dal limite è chiaro che se tu devi io ad esempio se uno deve andare proprio a farsi fare quelli con le scritte a blocchi è cioè secondo me più che altro la gente non li vede e non li associa a delle iniziative oddio in realtà poi le sagre da noi le pubblicizzano così per cui anche gli eventi però non lo so dipende molto dal tipo di evento però non è non c'è una preclusione a priori in generale un po' il discorso che riguarda anche il packaging questo qui cioè voi ovviamente non vendete prodotti quindi non dovete progettare delle scatole non dovete progettare delle scatole però magari vi trovate a vendere dei manufatti dei laboratori non lo so vi trovate a vendere delle pubblicazioni per autofinanziamento a tenere dei banchetti a fare delle cene cioè in realtà dei momenti in cui dalla carta bidimensionale al sito si passa al mondo reale ce ne avete probabilmente nella società di una profita spessissimo succede questo allora in realtà il packaging o il discorso dei gadget cioè degli oggetti può non essere così peregrino perché magari scopriamo che stampare su dei bicchieri di carta da caffè un logo o su delle bustine di zucchero o su dei cucchiai di legno o su delle matite non è una cifra folle magari ci sono le offerte lì sì che internet può aiutare perché sulla stampa specializzata magari sulla serigrafia si possono fare delle belle cose allora questa slide mi è messa solo per dire non escludiamo a priori il fatto di realizzare degli oggetti oltre al classico foglio brochure cartellina sito perché magari in determinate situazioni se voi ad esempio vi autofinanziate su andicene non lo so faccio per dire o di mercatini allora la sport il sacchetto da pane stampato con un timbro allora tu spendi 40 euro per fare un bel timbro grande ogni perdi un'ora a timbrare 500 sacchetti però la carta da pane è bella il timbro fa un bel effetto ti fai stampare dei chiudi pacco tondi anche quello costa pochissimo quando il tuo oggetto la tua cosa che è stata fatta dal ragazzo magari in laboratorio la confezioni così valorizzi il lavoro del ragazzo perché lo tratti quel prodotto come un prodotto da boutique mi viene da dire e allo stesso tempo sul chiudi pacco e sul timbro puoi mettere il logo l'immagine quindi non oppure ti fai stampare della carta vai da una tipografia e dici avete dei rulli degli avanzi degli sfridi ti fai stampare una texture con il logo ripetuto anche lì il grafico questi sono quei lavori che in realtà ogni grafico sognerebbe di fare perché per una volta hai la sfida di fare una roba bella con dei mezzi poveri in teoria i grafici come si deve dovrebbero accettare la sfida ti fai stampare una carta per impacchettare la roba un rullo la usi è un altro modo per comunicare la tua identità non è obbligatorio però molte volte la si esclude perché sembra che sia un cioppino una roba che poi è brigoso fare costa tanto invece magari a volte costa meno fare un bel chiudipacco adesivo per chiudere le buste che non magari si spendono dei milioni di euro però per fare la busta personalizzata abbiamo sempre la richiesta la busta con il logo la busta costa un sacco fai un chiudi busto adesivo prendi una busta normale in tabaccheria metti dentro la tua cosa ci metti un bel adesivo tondo un timbro ci fai mille modi spendi meno e fai più bella figura ecco parliamo della pubblicità e qui arriviamo ai primi casi allora il proprio studio di cose fatte da noi pubblicità teoricamente voi non fate pubblicità non dovreste avere bisogno perché il vostro non è un prodotto che si vende però lo dovete fare nel momento in cui dovete far capire che esistete raccogliere fondi e alla fine l'immagine che vi serve per fare queste cose è un'immagine di tipo pubblicitario cioè un'immagine sintetica che con una foto un disegno un testo il logo eccetera dia immediatamente la percezione della realtà che siete perché quando andate dalla banca per chiedere gli fondi la copertina della vostra brochure deve essere un'immagine di tipo pubblicitario pubblicitario in senso buono cioè non ammicchante non devono esserci delle donne nude che è la chiave con cui si fa la pubblicità oggi in Italia al 90% dei casi diciamo una pubblicità nel senso che deve comunicare secondo quei criteri lì allora dicevo è ovviamente uno strumento di marketing a volte voi potete avere anche degli spazi pubblicitari su delle riviste del terzo settore su riviste di determinati organismi ci sono questi spazi e di solito vengono sempre impostati o direttamente da chi lo stampa o un po' alla belle mail in word eccetera già che vi fate fare l'immagine coordinate che l'immagine vi serve fatevi per disporre un file che possa essere inviato in A4 in A5 la mezza pagina due o tre formati che sono degli adattamenti banali in modo che quando uscite su una rivista uscite su una stampa associativa eccetera siate riconoscibili in modo che quella stessa immagine ve la vendete anche nella presentazione a una banca che se magari per caso riconosce la copertina della vostra brochure perché sulla stampa di settore c'è una bella paginona con la stessa immagine capite che ha già fatto un passettino in più nel riconoscervi credibilità presenza ah ma sono quelli che ok che purtroppo è quello sulla base del quale a volte si scusate sono tornati indietro no sono tornati indietro ok no no gli esempi li ho messi dopo scusate della pubblicità ne riparliamo dopo in una serie di slide apposite direi che come ultimo argomento della mattinata volevo tenere la cosiddetta comunicazione non convenzionale virale e cosiddetta guerriglia marketing premetto che sono tre nomi dei quali ho pochissima stima e fiducia perché praticamente gli strumenti di comunicazione come sapete sono le pagine pubblicitarie le brochure le cartelline a un certo punto qualcuno si è inventato una cosa in realtà molto semplice cioè che il mondo è fatto anche di altre cose è fatto di muri dove si possono fare delle scritte di macchine a cui si possono attaccare gli adesivi e quindi tutto è diventato guerriglia marketing no guerriglia ma quella roba magica per cui tu hai un'idea geniale spendi un euro e milioni di persone fanno una cosa questa è una bufala proprio così come il virale noi abbiamo delle ditte che vengono delle ditte che fanno bulloni dicono vogliamo fare un filmato virale su internet come fai a progettarlo che è virale nel senso che voi userete youtube i vostri amici o conoscenti vi avrebbero girato dei filmati di quelli dove ridete per mezz'ora perché c'è uno scemo che casca nella fotocopiatrice perché cerca di fotocopiarsi il sedere perché vi faccio questi esempi volutamente di livello basso perché statisticamente è provato quelle robe che si diffondono di più che sono veramente virali sono robe sono video rispetto ai quali nessuno di noi vorrebbe avere il marchio lì vicino perché sono cose basate gente che cade gente che si tuffa in piscine ghiacciate vabbè ci fanno ridere hanno milioni di visualizzazioni di solito alcune hanno anche degli sfondi volgari o comunque cioè nel senso quello che è veramente virale non è qualcosa che rispecchia di soliti valori né di un'azienda né di un'associazione no profit virale vuol dire che è una roba che io mando in un ufficio tutti e otto la vedono ridono come gli scemi per dieci minuti la girano ai loro contatti e questa è la viralità su internet quindi non ha senso parlare di virale come strumento perché nessuno di noi per quanto possa essere intelligente o creativo può fare qualcosa di realmente virale partendo dai contenuti sensati proprio non si può ci puoi provare finché vuoi però è un mistero la viralità se no così come è un mistero fare Harry Potter cioè ci riesce una fa Harry Potter tutti in altri diecimila ci provano e non è Harry Potter quindi ci sono delle realtà che hanno costruito proprio la loro fama sul vi insegniamo a fare il viral non funziona funzionano invece meglio le cose non convenzionali nel senso che vedremo e in un certo senso il discorso del guerriglia marketing cioè funziona bene tutto quello che è un modo intelligente di attivare le persone di entrare nella vita delle persone ad esempio a Modena adesso hanno fatto una campagna in alcuni negozi c'è un adesivo con la sagoma di un bimbo che viene attaccato nei negozi ad altezza di bambino di otto anni più o meno che dice a scuola mi hanno rubato la mensa non so forse è una campagna nazionale io l'ho vista se il decido esatto allora quella lì un tecnico della comunicazione dice ah vedete è un guerriglia marketing perché l'adesivo non è guerriglia marketing dovrebbe essere una roba che viene fatta di nascosto e su tutti i muri della città il giorno dopo c'è scritto una cosa quella guerriglia nel senso che è una roba che ha questo underground non è guerriglia perché lì uno è andato se il decido è andato al negoziante gli ha detto me lo metti fuori se gli diceva di no non gli lo metteva non è che gli aveva attaccato quindi non è guerriglia lo strumento in sé però è non convenzionale questo è vero cioè usa la vetrina del negozio in una maniera nuova cioè a colpo d'occhio vedi che c'è una sagoma antropomorfa non è il solito tondo dell'adesivo quello che è ti fermi lo guardi c'è un bambino con la faccia triste quindi ti fermi lo guardi perché c'è il messaggio emozionale la frase ti ricorda mi hanno rubato la merenda mi hanno rubato la messa cosa vuol dire ci guardi quindi è non convenzionale perché non è uno strumento non è uno spot tv non è no è virale nella misura in cui a me rimane impresso e ve lo racconto ma non è virale perché io poi lo giro ai miei amici su internet per ridere ok ed è può sembrare di guerriglia marketing perché è nel mondo cioè è nel mondo reale perché la porta del negozio è un oggetto reale così come in America le foto delle persone scomparse sono sui bricchi di latte non è guerriglia marketing è ingresso nel mondo reale delle persone nella vita di tutti i giorni quindi io di fronte a queste parole tendo sempre a dire che in realtà ci sono delle tecniche di comunicazione basate sull'interazione con gli utenti che sono non convenzionali ma non è che cioè non è un'invenzione negli ultimi due anni non è che con la parola d'ordine viral facendo chissà che cosa si tratta solo come sempre di usare in modo intelligente degli strumenti e di essere efficaci perché se quell'adesivo lì avesse avuto un bimbo con la faccia contente diceva una frase che non suonava era già finita la viralità non è che l'adesivo da solo fa quel messaggio avrebbe funzionato anche in una anzi probabilmente ci sarà anche la pagina pubblicitaria probabilmente ci sarà anche il banner in internet però l'uso dello sticker ha fatto quel di più quella cosa dicevamo prima metalinguistica cioè ha preso lo strumento e l'ha stravolto quindi non è inventarsi chissà che cosa è solo usare in modo corretto tutti i passaggi della comunicazione e ogni tanto usare uno strumento nuovo io ve li ho segnalato il più banale e il più diffuso è lo stickering cioè l'attaccare degli sticker sulle cose ad esempio sugli specchi sulle superfici riflettenti questa è una campagna della Nissan effettivamente la gente cioè questi passavano ti attaccavano allo specchietto sono adesivi intanto facilmente removibili perché sono e l'idea era simpatica perché tu sali magari te ne accorgi prima in realtà perché non credo che uno salga in macchina senza accorgersi che c'è attaccata a una roba lì perché uno guarda sempre ci sono le multe in giro quindi vabbè una volta seduto l'impressione quella di avere uno specchietto retrovisore io personalmente penso che in un caso del genere anche qui c'è un piccolo falso cioè tu non ti siedi in macchina e poi te ne accorgi tu lo vedi capisci cosa volevano fare lo stacchi e ti rimane in mente che è della nissa va bene lo stesso però insomma bisogna essere molto potrebbe generare fastidio potrebbe generare fastidio è chiaro che ogni volta e dopo lo vediamo quando parliamo dei toni ogni volta che noi ci spingiamo un po' a invadere il mondo dell'utente rischiamo di generare fastidio infatti se l'adesivo fosse un adesivo difficile da togliere ad esempio sarebbe stato un autogol sui libri ad esempio i bolli sconto ci fate caso sono molto facili da togliere di solito a volte no i primi che uscivano sarete riscordabili sul libro quando li tiravano i vieti strappavano la copertina apriti cielo chi compra i libri di solito è uno che ci tiene all'oggetto libro le collezioni eccetera adesso li fanno tutti con queste colle che basta un uglia e si tirano via quindi lì c'è anche un tema tecnico per fare una roba così se li fai su internet ti mettono una bella colla mastice che la gente deve smontare lo specchietto ciao ecco un'altra cosa in effetti che si può fare adesso questa era scritta su Pantani però effettivamente il dipingere su strade su muro al di là del fatto che sia del tutto legale o meno ad esempio a Modena c'è una tendenza un po' ambigua dal punto di vista dell'amministrazione nel senso che noi abbiamo anche un festival di graffiti a Modena per cui è dato per assodato che ci sono alcune pareti alcune zone dove è possibile farlo anzi è gradito in alcuni casi perché si decorano degli spazi è anche vero che sulle colonne dei portici del centro ci sono state delle campagne ad esempio di negozi di biciclette riciclate che hanno fatto delle campagne di stencil cioè loro arrivano con vernice magari lavabile non quella da bomboletta e tu una mattina ti svegli e trovi in tutte le colonne c'era il loro moto che era ride or die cioè vai in bicicletta o muoci insomma un po' di impatto ma cos'è cosa non è per un mese tu lo vedi in città e poi arriva la campagna sui giornali ti dice nuovo negozio di biciclette riciclate da quelle abbandonate sequestrate dal comune eccetera quindi questa è un'altra tecnica oppure considerare anche il piano stradale i percorsi ci sono quelle orme adesive ad esempio che sono i materiali che vengono staccati molto rapidamente cioè in realtà quello che è non convenzionale è considerare ogni superficie ogni ambito della vita quotidiana dell'utente al di fuori dell'interazione con il mezzo di comunicazione come possibile teatro di un'azione lato vostro attaccare dei palloncini è una cosa innocua nessuno vi arresterà mai per aver attaccato i palloncini però se ad esempio voi decidete che fate una festa con i bambini oppure non fate la festa perché state finanziando un'attività bambini nel deserto bambini nel centro africa e volete invadere la città di palloncini perché il messaggio è ci sono in questa città ci sono i palloncini ci sono anche i bambini che li prendono in altre città non ci sono i bambini perché vengono deportati eccetera tu passi la notte le gare di palloncini a tutti i cartelli stradali nessuno ti arresta è una campagna voglia anche marla virale guerriglia ma non importa una campagna nel mondo reale ok e questo secondo me infatti scusate il viral è un concetto pericoloso ve l'ho già detto quindi non ve lo ripeto il termine che io preferisco è dire l'impatto cioè non è questione del virale o meno è questione che deve essere una cosa se il vostro tema lo consente perché anche qui poi ne parleremo del tono cioè molte associazioni lavorano e questo è più che meritevole lavorano sulla continuità quindi l'impatto cioè magari voi cercate il riconoscimento di un'attività di medio e lungo periodo perché ad esempio chi lavora con la disabilità investe nel tempo sono programmi che durano anni per passare delle competenze a una persona non cerchi però è anche vero che in alcune situazioni ad esempio a Modena secondo me io dico a Modena ma probabilmente sono anche nazionali cioè c'era stata l'emergenza dei parcheggi per disabili campagna molto bella secondo me c'è uno dei cartelli sponsorizzati anche dai comuni con scritto vuoi il mio posto prendete anche il mio handicap sono girati questa ad esempio è una campagna di impatto abbastanza dura abbastanza diretta l'emergenza era puntuale ti scuote un attimo ed è un tipo di campagna di impatto tutto qua qual è l'aspetto non convenzionale che invece che farlo sui giornali la fai proprio sul posto del disabile no? è molto meglio c'è un'idea intelligente che potrebbe venirci anche 40 anni fa quando di varia non si parlava questo dico meglio di impatto che non tutti gli altri termini perché gli altri termini secondo me riguardano un po' delle mode il resto qui ho fatto alcuni esempi il WWF ad esempio ha lanciato alcuni esempi di possibili modi di intendere l'impatto anche in modo sempre da valutare un sito di arredamento we want furniture vogliamo arredamento WWF perfetto quando lo ordini e dopo ti dice ok adesso questo è il costo no? di sboscamento selvaggio sfruttamento minorile eccetera eccetera continui con l'acquisto ovviamente dopo non ti mandava un acquisto vero ma ti mandava la possibilità di donare il WWF però cosa hanno fatto loro? hanno usato si sono camuffati tra virgolette no? nel linguaggio dell'advertising più classico questo potrebbe essere il sito dell'IKEA e poi nella fase in cui tu eh lo sto mobile lo compro tac costi vabbè bene oppure altri altri vi ho fatto vedere alcune altre campagne queste sono tutte campagne web basate sulla trasparenza questo ad esempio era Greenpeace che doveva costruire una nuova goletta e tu potevi finanziare l'acquisto di ogni singolo come se fosse un e-commerce tu potevi comprare un pezzo della goletta anche qui hanno usato proprio una categoria tipica dell'e-commerce del mondo profit questo è quello che dicevo prima il palloncino a forma di sacca del sangue per incentivare la donazione e anche questa è un'idea che voglio dire magari questo è stato fatto anche con dei materiali particolari con un costo però è un'idea molto semplice tutto sommato è un palloncino sagomato come quelli delle fiere fatte in forma di Ape Maia o di Simpson però di nuovo l'uso scusate sbaglio sempre il tasto torno indietro questo è un esempio sono degli sticker ad applicare i lavandini in una campagna contro la siccità per cui tu puoi come scherzo cioè puoi prenderti la casa del tuo amico e gli metti sta roba qua sul lavandino anche qui si rimuove facilmente e ti racconta insomma ripeto questo è molto bello ad esempio difficile da progettare però interessante in una città europea fermata dell'autobus o affissione semi-trasparente che gioca con quello che c'è dietro quindi lo devi fare sapendo dove la metti e dove c'è una scena ad esempio di violenza urbana e dove ti dicono ah nella tua città non succede ma succede a e siccome tu lo vedi ambientato sulla tua città hai un momento di così tutte queste cose secondo me sono di impatto semplici in realtà perché l'idea è veramente semplice cioè qui è una sovrapposizione di una roba semi-trasparente no? l'unico sforzo è il creativo che è dovuto andare lì vedere cosa si vedeva in quel cartello e costruirci dietro là però voglio dire oppure l'adesivo il palloncino all'interno di una campagna di fundraising e non è l'oggetto della nostra lezione però quando dobbiamo progettare una campagna con tutti i vari momenti di sensibilizzazione raccolta fondi eventi verifica diffusione insomma dobbiamo cercare di mettere in fila tutti i passaggi che vi ho fatto vedere altri che vedremo nel pomeriggio cioè essere sicuri di avere un'identità aziendale costruita bene solida modulare con un bel logo dei bei colori eccetera aver lavorato bene sui testi questo dopo lo vediamo e quando ci approcciamo alla comunicazione spendere i soldi o spendere le risorse in idee efficaci per quel tipo di lavoro cioè per me ad esempio vale più la pena di se è un'associazione che si deve far conoscere sul territorio eccetera magari vale la pena di risparmiare un po' sulla brochure faccio per dire se quello che cercate è il coinvolgimento di un quartiere ad esempio di nuovo la strada lavora al quartiere Loreto loro hanno molto sostentamento dalla gente che gli porta le cose da vendere ai mercatini dell'usato loro hanno bisogno della gente in quel momento lì quindi la loro campagna invece che fare la brochure istituzionale da regalare all'assessore è stata facciamo dei palloncini da appendere ai campanelli ok o delle cartoline da infilare nella buca delle lettere avevano fatto le cartoline poi adesso non le hanno ancora stampate perché ovviamente i mezzi sono quelli che sono con degli oggetti evidentemente di seconda mano un po' come i nani del film di Amelie in giro per il mondo perché come dire tu li dai a noi cioè dacci il tuo maglione noi lo faremo viaggiare perché lo rivenderanno eccetera eccetera avevano fatto queste cartoline da distribuire nel quartiere quindi ne avevano tirate 500 copie 500 esemplari perché dovevano fare due strade di Milano non è che però una cosa del genere fatta bene ha servito l'obiettivo o servirà l'obiettivo quando finalmente riusciranno a attivare questa cosa e si appoggia su una comunicazione strutturata bene per cui queste 500 persone che magari loro interpellano personalmente inizieranno a riconoscere il marchio poi lo vedranno in metropolitana perché hanno fatto gli appennini gli strumenti che vorrei darvi sono per costruire il percorso in ordine cioè far bene i compiti prima per poi godere dei frutti senza di lapidare anche forse 50 euro alla volta però se ogni volta riparti da zero sono sempre 50 euro buttati se invece costruisci un percorso nel tempo che può permettere anche di fare queste cose perché il budget per stampare degli adesivi di questo tipo non è folle ha senso farlo se dietro c'è già il sito della campagna istituzionale però fare una cosa così è molto carina e molto di impatto non è il vostro target non avete questa esigenza non è un problema che ore si sono fatte? così vediamo se 12 e mezzo allora inizio allora vi faccio un'altra parentesi sarà una parentesi più colorata così ci ci distraiamo un attimo volevo farvi vedere ho alcune cose che vorrei raccontarvi che invece sono al di fuori dello standard diciamo della comunicazione che viene proposta in particolare negli ultimi anche qui esiste da 20 anni ma negli ultimi anni si è un po' più affermata anche a livello teorico c'è una tecnica pubblicitaria di comunicazione che viene definita storytelling cioè racconto di storie allora io volevo farvi vedere questa presentazione perché è un approccio che noi come agenzia anche un po' per questa attività parallela che ho di scrittura però spingiamo molto che nel settore privato questa è una conferenza che mi hanno tenuto poco tempo fa a Bologna perché c'era appunto questa fiera di addetti al settore tecniche diciamo d'avanguardia di comunicazione storytelling che cos'è? è l'uso di tecniche narrative applicate alla comunicazione adesso ve lo racconto un po' meglio sempre bene intersezione perfetto allora adesso facciamo questo piccolo esercizio se funziona vi chiedo di guardare il filmato che avete alle mie spalle non c'è altro 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 no c'è altro non c'è altro Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcuno avrebbe risposto? Una famiglia. Una famiglia. Allora, la cosa... C'è qualcun altro? Oddio, mi ascolto molto volentieri. No, nessuno di voi, almeno chi ha parlato, nessuno di voi ha detto, ho visto un triangolo muoversi, un cerchio muoversi, delle stecche muoversi, no? Non avete descritto quello che avete visto. Avete visto... Esatto. Allora, questa è la domanda che l'ho appena fatta e vi chiedo, davvero, non è vero che... Cioè, voi non avete visto una famiglia che... Voi avete visto dei triangoli, dei quadrati, degli stecchetti che si muovono sullo schermo. Questo esperimento è stato fatto nel 60, più o meno, si vedeva anche dal filmato. E dimostra, anzi, nel 40, scusate, nel 44, voi avete fatto esattamente quello che ci aspetta, cioè avete attribuito le identità di genere, maschi, femmine, storie d'amore, eccetera. Questa è la dimostrazione proprio empirica, palese, che noi automaticamente creiamo storie, noi viviamo di storie. Questo esempio, appunto, lo ho fatto in questa conferenza, è divertente perché quando ho scoperto che era stato fatto nel 40, ho detto, beh, è proprio una tecnica d'avanguardia, è questa che stiamo parlando. Però, in realtà, accettare il fatto che noi creiamo automaticamente delle storie sulla base di quello che vediamo, per spiegarci il mondo, no? Lo fanno i bambini, adesso io lo vedo come mia figlia che è piccola, però, appunto, il sole va a dormire, non è che la luna ruota, cioè la terra ruota, eccetera. Quindi, noi, il primo approccio che abbiamo per spiegarci le cose è costruire storie. Se su questo siamo d'accordo, bisogna anche che... Facciamo, qui c'è l'esempio dei primi pittogrammi, costruiamo storie che possono essere le più semplici, quindi il cappuccetto rosso, fino alle varianti. Questa è una scena di The Village, che è un film di qualche anno fa, dove c'era una ragazza cieca nel traversano la foresta, dove c'era il lupo, questi tipi rosso, eccetera, eccetera. Fino alle storie più terribili, l'Apocalisse, le visioni dell'Apocalisse, storie che riguardano il futuro. Ne produciamo veramente di ogni quantità. Prima di dirvi cosa dice il signor Bornego, il discorso che si fa in questo caso è se è vero che noi viviamo di storie e spieghiamo tutte con delle storie, cosa c'è di meglio di una storia per vendere un prodotto o per comunicare un messaggio? Vendere un prodotto è l'aspetto proprio, comunicare un messaggio è l'altro proprio. Allora, vale la pena di capire come funzionano le storie, senza diventare esperti in narratologia, ma come funzionano le storie in modo pratico per poterle usare. Mi permette di dire che chi vive nel no profit, ancora più degli altri vive di storie, perché voi avete la fortuna, se adesso non so tutte le attività delle vostre associazioni o realtà, di lavorare con delle persone, persone che hanno delle storie quantomeno particolari, perché se hanno incontrato nella loro vita la vostra associazione, hanno incontrato il problema a cui la vostra associazione tenta di fare fronte, eccetera, hanno vissuto il primo pezzo di quella che è la storia dell'eroe, cioè la difficoltà. Quindi, quello che non manca di sicuro al no profit sono storie su cui lavorare. Non voglio dire che bisogna mettere al centro la storia delle disgrazie altrui, però mentre ci sono realtà che devono inventarsi da zero delle storie, delle persone, per veicolare un prodotto o un messaggio, anche nel mondo della politica, questo è l'ABC, la propaganda politica, soprattutto in Italia, c'è una bellissima analisi, un testo per una volta scientifico e non satirico, comico, di Daniele Luttati, si chiama La guerra fredda, è un'analisi della campagna elettorale di Veltroni contro Berlusconi, proprio analizzata secondo questi parametri. Adesso vi enuncio i parametri e poi vi spiego l'analisi che viene fatta. Vedrete che è molto calzante, dal punto di vista proprio degli strumenti, nel merito dei contenuti. Questo signor Kurt Vonnegut, che è uno scrittore americano molto famoso, ha entrato anche in molti libri, in molti film dei suoi romanzi, ha schematizzato l'andamento delle storie, no? Con questa curva, adesso non stiamo a vederla tutta nel dettaglio, però ci sono degli schemi ricorrenti. Quindi, ad esempio, l'eroe nasce, c'è una situazione di equilibrio, questo equilibrio viene rotto, l'eroe attraverso una difficoltà si crea un lieto fine. Ad esempio, fa l'esempio anche del Nuovo Testamento, no? La difficoltà è fisicamente, tratta la figura di Gesù come una figura narrativa, no? Prende il Nuovo Testamento come un libro narrativo, la figura di Gesù a un certo punto incontra la massima difficoltà, che è la morte, che anche fisicamente rappresenta una discesa sotto il livello del suolo, e poi c'è la soluzione finale, che è la risurrezione. Guardate, lo schema è quasi uguale a quello di Cenerentola, non prendete per classifimo il parallelo, è che anche la narrazione del Vangelo e della Bibbia è una narrazione, e quindi come tale ha alcune regole che fanno il nostro modo di vivere in narrazione. Cenerentola è uguale, nasce la persona con un problema legato alle origini, il problema che per Cenerentola è il fatto di essere sotto una matrigna, nel caso di Gesù è gli umili origini, c'è una crescita personale della figura fino a quando lo rappresenta, una minaccia o comunque un'emergenza all'interno del suo tessuto sociale, c'è una punizione, un castigo che producono alla morte, e una risurrezione, nel caso di Cenerentola anche simbolicamente siamo molto simili, perché c'è questo sonno, no? Quindi la struttura delle storie, vi faccio esempio del Nuovo Testamento di Cenerentola perché è quello che sembra più, scusate, Cenerentola è quello di Bianca e Neve, in realtà comunque non importa, perché è più simile quello di Bianca e Neve la storia, che sono cose che a noi sembrano molto distanti ma che in realtà hanno lo stesso schema narrativo. Capire questi schemi ci fa capire, ci introduce a questo schema, che è proprio il più generico possibile, che è il cosiddetto viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe inizia con una situazione di stabilità, la stabilità di per sé non è interessante, l'equilibrio non ci racconta niente, non innesca dell'attività, c'è un richiamo all'avventura o una disgrazia che succede, adesso ve la faccio corta, insomma poi questo materiale è a disposizione, ci sono delle sfide, delle avversità, delle tentazioni nel caso della cura di Gesù, c'è un momento di abisso, di grande sconforto, di problematica, c'è una trasformazione, un riscatto e un ritorno. Questa è la struttura del 99% di tutti i racconti mitici letterari in cui noi ci confrontiamo. Voi direte, cosa c'entra questo con vendere un prodotto? C'entra perché, vi faccio esempio adesso del discorso politico che si avvicina un po'. Un politico che ha un nemico è un politico che è lì per qualcosa, si deve difendere da un nemico. Luttazzi fa questo esempio, diceva, Berlusconi ha iniziato a costruire la sua campagna sull'anticomunismo, la magistratura, cioè ha sempre un nemico pronto. Ripeto, non sto alzando nel merito dei valori politici. Veltroni inizia la sua campagna dicendo agli industriali, tradizionalmente nemici della sinistra, non dobbiamo più essere nemici, siamo tutti amici. Cioè, laddove uno si fabbrica dei nemici, magari anche laddove non ci sono, l'altro rinuncia ai propri nemici istituzionali. Va bene. Il passato mitico. Abbiamo da un lato questa capacità fabulatoria del personaggio Berlusconi che dice le crociere, suonavo il piano ballo, l'intrattenimento, no? Quindi crea un passato che è effettivamente il passato mitico, cioè un passato che non ha niente a che vedere, non è importante dimostrarlo, non è importante che contenga dei valori, ma è qualcosa che ha un'aura mitica. Dall'altra parte, Veltroni, che è re della tradizione, diciamo, dei partiti di sinistra, quindi in teoria avrebbero come storia, in altre regioni, la resistenza, dice che è ora di andare oltre alla resistenza, basta riferirsi lì, e quindi rinuncia al suo passato mitico. Praticamente tutta questa analisi di Luttazzi, che poi, ripeto, può essere opinabile o meno, dice che da un lato c'è un Berlusconi che rientra perfettamente nella dinamica del viaggio dell'eroe. Mi stanno, sono inquisito dei processi, sono difficoltà, sono tormenti, ma, nonostante questo, io assorcerò, e quindi crea un racconto dove, al di là della materia politica, uno è portato a identificarsi, perché è una persona che ha dei nemici, ha delle difficoltà, e ce la fanno nonostante questo. Dall'altro, dice, abbiamo un Veltroni, che tutti gli elementi che lo renderebbero identifiché di scarta, non ha più nemici, non ha più un passato mitologico, è amico di tutti, e quindi dice, in questa lettura, che vi ho riportato in modo metodozionale, è come esempio, però era per parlare di cose che sono nel mondo reale, è chiaro che uno, anche se non aderisce al programma politico di un partito, si riconosce di più nella persona che ha una storia di questo tipo. Il Sud America, da questo punto di vista, è esemplare. Cioè, i leader politici sudamericani costruiscono, hanno delle vite, teoricamente, romanzesche, no? Ha il leader minatore, il leader minatore, poi se vai a vedere, non si è fatto un'ora di miniera, però il passato mitico è che era un minatore, che è venuto con un sacco, con cinque fagioli in tasca, nella grande città, ha fatto carriera, adesso è il presidente. Allora, questo percorso, in realtà, che noi adesso stiamo citando così in chiave un po' di periore, con i politici che non riscuotono nessun consenso di nessuno, però è molto esemplificativo di come in una tematica molto reale e concreta come la vita politica, il viaggio dell'eroe funziona. E' Obama. Le origini europee. Le origini europee, possiamo farcela. Lui è riuscito a raccogliere da crowdfunding, cioè a 30 dollari alla volta, delle cifre che gli altri si facevano dare dai petrolieri di turno, dai altri lobby. Perché? Perché ha creato un racconto, poi lui è un uomo di colore, passato mitico per un uomo di colore. Era molto facile, perché in America c'è questo senso di colpa nazionale, c'è la tradizione di Martin Luther King, eccetera, lui si è infilato in quel percorso lì. Io sono abbastanza certo che queste cose non succedano a caso, cioè questi principi che noi studiamo è dal 40 che lo sanno, che funziona così. E quindi crearsi nemici, quando si critica, vuol dire, si possono criticare tante cose, ma l'intelligenza sua o dello staff, che per lui cura queste cose, di creare queste situazioni non va liquidata come banalizzata, perché è tutto studiato. Allora, il viaggio dell'eroe è una cosa che, è una cosa reale, cioè non dobbiamo pensare che sia una favoletta che vi sto raccontando per inventarci una licepina. Funziona così. Il viaggio dell'eroe è la struttura di molte storie. Questo per inciso è un'illustrazione che è stata usata dall'Ascian, dall'associazione Sport Handicap a Modena, per la sua comunicazione per due anni. Poi ne parleremo anche di questa. Quindi lo storytelling, diciamo, non è una novità, anzi, appunto, i primi studi sono degli anni Ottanta, dicevo appunto, dall'epoca delle Giacomo Esprimi di Duran Duran, in sala c'erano molte persone di inventarlo. Perché funziona di più? Adesso questo è in inglese, ve lo traduco rapidamente, ma è un parallelo tra la comunicazione istituzionale e corporate, cioè quella e quella legata allo storytelling. Lo storytelling è accattivante. Io vi racconto una storia, inizio con C'era una volta e voi mi ascoltate. La comunicazione aziendale è noiosa di solito, perché ti dice la nostra azienda ha un fatturato di... lo stile è conversazionale, cioè di dialogo da una parte ed è proiettato all'esterno, perché nel momento in cui ti racconto qualcosa, sei tu al centro dell'azione, perché io sto facendo qualcosa per te. La comunicazione aziendale, mi mettevo in guardia prima da questo, è autoreferenziale. Sono io che mi racconto come voglio sentirmi raccontare, sono io associazione che mi dico... Prego. Poi chiedi una cosa, rapportandola anche alle nostre strutture. Nello storytelling potrebbe essere interessante per un'associazione, un gruppo come il nostro, ripercorrere il passato con le difficoltà iniziali, quindi eravamo tre persone, non avevamo niente, eravamo tutti volontari. Adesso ho... Assolutamente, l'azienda dove lavoravo prima, è un'azienda di Modena che adesso serve la CIA, ha diventato i sistemi di interpretazione del linguaggio naturale, è un'azienda molto tradizionale, però loro si sono costruiti la loro cosiddetta si chiama Garage Storage, cioè tre ragazzi in un garage, dietro a negozio di frutta, ce l'avevano davvero, perché erano nel quartiere dove abitavo io, hanno avuto l'ufficio lì per un mese, poi sono trasferiti in una sede normale, però quando ne parlano, anche quando vanno a tirare i premi in America, partiti dal garage, no, ha senso perché è una... intanto innesca un'empatia, tutti noi abbiamo delle difficoltà, se tu ce l'hai fatta io ce la posso fare, quindi. E poi appunto, l'approccio narrativo è un approccio che prevede due persone, cioè, quindi implicitamente io ti racconto qualcosa, così come un bambino si sente dusingato quando il papà gli racconta le favole alla sera, e l'utente della vostra comunicazione si sente dusingato nel fatto che voi gli raccontiate la vostra storia. E quando questo strumento dello storytelling può essere usato nella, diciamo, se io vado a progettare una campagna di comunicazione della mia... quando posso inserire questo strumento, diciamo? Adesso puoi provare a fare dei capi... Non ciò si anticipano. No, 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 ci arriviamo. Può essere usato in due modi. Allora, lo storytelling legato alle nostre origini, quindi alle origini della struttura, se siamo coscienti che è un racconto, può essere usato, ogni associazione ha il capitoletto della nostra storia, no? Nella brochure. Se decidiamo che la nostra storia è importante, noi leggeremo la nostra storia, le difficoltà e le enfatizzeremo, quindi non sarà il capitoletto a parte, ma sarà, veniamo da Tecchi di Rattifondi e ci presentiamo con la nostra storia. Questo può valer la pena o no, nel senso che è una scelta. Credo che potrebbe essere ancora più interessante applicarlo alle storie che vivete attualmente, alle storie dei vostri utenti e dopo vedrete la strada un po' l'ha provata a fare, cioè io non ti racconto quello che faccio, ma ti racconto le storie delle persone che ho incontrato, che ovviamente riflettono quello che faccio, perché se ti parlo della ragazza dell'Est che è arrivata a 16 anni incinta e lei adesso ha un lavoro, la mia associazione in questo momento è l'aiutante magico, cioè la fatina di Bianca Neve, quindi può essere usata in due modi, dal punto di vista del racconto della propria associazione è una opportunità tra le altre, non è detto che sia sempre il caso, perché magari dal punto di vista del racconto invece dei nostri utenti può essere sicuramente più facile, perché è la storia sulla quale troviamo l'empatia, la commozione e la partecipazione degli eventuali finanziatori. In ogni caso ci sono gli strumenti, adesso vi faccio vedere per usare a raccontare questa cosa. Siamo già oltre l'una? Meno 10. Meno 10, ok. Può darsi che la finiamo dopo. Comunque, ci sono varie differenze, la narrazione va per aneddoti, per storie simpatiche, la comunicazione aziendale va per Milestones, cioè nell'anno X succedeva, nell'anno Y c'è un percorso preordinato, invece noi raccontiamo più aneddoti come quando siamo a cena, che il nonno ogni domenica ci racconta una storia diversa, nel complesso della storia della sua vita, però è medottica, appunto, in realtà di pezzo. Nella narrazione eroica, l'abbiamo già detto, quella aziendale di solito deve essere robotica, nel senso che deve essere molto fredda e algida, una serve per intrattenere, l'altra per vendere, intrattenere, in senso positivo, l'altra è magnetica, una è magnetica, l'altra invece tende a annoiare perché è una consultazione di dati, cioè purtroppo anche con le aziende più strutturate con le quali lavoriamo, il report aziendale, cioè chi siamo, il bilancio aziendale, vabbè, ma non siete il bilancio, siete in effetti comunque 5 soci, uno faceva i bulloni, uno faceva i cingoli e avete messo su una multinazionale del cingolato, però a me è entrata più che eravate 5 soci, non che fate, avete fatturato X nell'anno, però non è sempre facile, insomma, convincere. Questo è un altro, mi interessa soprattutto il real e lo staged e l'obstacle e lo smooth sailing. Real vuol dire che quando raccontate qualcosa parte dal mondo reale, è reale di per sé, no? quando vi ho detto vedo una coppia che quello per voi era molto reale anche se in realtà vedevamo dei triangoli, no? Invece stage vuol dire allestito ad hoc, cioè la foto aziendale, no? L'emblema è quello, cioè il profilo aziendale è la foto del dirigente in camicia, mezzo busto, perfetto, su fondo bianco, è uno stage, è una messa in scena, convince meno, devi inventarti qualcosa per renderla convincente. Invece, infatti, le aziende grosse, anche anglosassoni, dove queste robe se dimostrano da vent'anni, l'amministratore delegato c'è la foto che magari è sempre fatto in studio, però mentre si beve il caffè o mentre... Per esempio adesso le categorie politiche hanno cambiato un po'. Sì, non c'è più il mezzo busto, no? Non si viene impostato, ma c'è quello che fa qualcosa. Che sono fatte ad arte comunque. Sono fatte ad arte, la famiglia, esatto, cioè quello che si tira sulle maniche giusto per la campagna, che c'è sempre un problema. Ostacoli, smooth sailing, questa è proprio una roba molto parlante, cioè la narrazione procede per racconti di ostacoli che non ho superati, la comunicazione aziendale, se ci fate caso, il mondo costruito intorno a te, tende a dirti va tutto bene, è tutto ok, vieni con noi che è tutto liscio. Questo non è vero, non è mai vero. Per questo è meno convincente, cioè io credo sia dannoso per due motivi questo tono di comunicazione. Uno, non è vero, non va mai tutto bene, non è che se faccio l'assicurazione Allianz quando ciocco con la macchina arriva uno che porta giù il sole, quando faccio l'assicurazione Allianz, ciocco con la macchina, non mi prendo il telefono, non ho pagato l'autocarro, cioè è un problema, sono gli ostacoli della realtà, la soluzione è un modo che andava molto bene negli anni 80, quello di dire che risolviamo i problemi, però è anche un modo che educa a un principio che secondo me, e qui entriamo più nel personale, quindi non è spiegato a nessuno, che è il principio della delega, che è un principio dell'eterio, che credo che nel mondo del no profit si ne accorga, perché chi delega non si attiva, chi delega non è un volontario, chi delega non fa più di quello che deve fare, allora il principio di questa navigazione sicura, l'impresa che ti dice con questo prodotto vai liscio, vai sereno, non ci saranno problemi, educa pian piano il principio della delega, perché nel mondo reale l'unico modo che tu hai per non avere problemi è scaricarli su qualcun altro, in termini politici il principio della delega è il veleno di ogni democrazia, perché la delega in senso, chiaro che la delega non è che si andrà tutta in Parlamento, però la delega è come dire adesso ci pensi te, è il motivo per cui poi uno non si attiva, ed è il motivo per cui le campagne di tipo sociale devono combattere con questa, si trovano a combattere con questa cultura, questo è il motivo per cui dopo vedremo, diventa fondamentale quando imposterete la vostra campagna di comunicazione capire e lavorare sul problema, cioè a me interessa sapere voi su che problema della società state lavorando, poi mi interessa la soluzione, ma è più importante aver ben chiaro il problema, questo è un concetto generale della comunicazione, applicata al no profit e in questo periodo lo è ancora di più, perché il problema è un ostacolo, l'ostacolo vi permette di costruire una narrazione eroica, se non c'è il problema non c'è eroismo, non c'è narrazione, non c'è empatia, quindi io, lo vediamo nel pomeriggio e magari mi chiederò di evidenziare il problema specifico a cui voi fate forniti una risposta e da questo partiamo per costruire la soluzione che comunque bisogna fare intravedere, perché non è che stiamo per... cioè la comunicazione non è oh, siamo disperati, è, c'è un problema e noi lo risolviamo, il problema c'è, il problema rimarrà per i prossimi dieci anni e sarà bisogno per dieci anni di mettere in campo la soluzione, ok? Direi che magari la continuiamo, questa è la story time, la finiamo dopo pranzo, così siamo, a l'una e mezzo a finire o l'una? No, vieni tu, l'una e un quadro, allora forse sto a finirla, se non voglio addormentarvi a cavallo dell'ora, finiamo? Ma iniziamo un po' prima. Facciamo per le due, le due e le dieci, le quattro, le quattro, le quattro, le quattro. Grazie. Ok, allora io ho fotografato i loghi che mi avete dato, i biglietti, così dopo magari ci diamo un'occhiata insieme. Aspetta che tengo d'occhio. abbiamo... Fino alle sei o le mani. Perfetto. Con una pausa in manzo. Non può lavorare fino alle sei, l'anno? Quanto? No, allora... Comunque, ti scherzi in un paziente. No, 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 ma sto per organizzarmi in modo da fare un po'. No, no, no. No, no. No, no. Allora, tornando... Si attiva, lei sente meno uguale. dispariti tutti, adesso è stato un po' qua. No, allora, finiamo la parte di storytelling che secondo me manca poco, dovremmo essere più o meno tutti tutti. Allora, dicevamo che entrando proprio nei strumenti che si possono usare per raccontare bene e per usare in modo utile questa tecnica diciamo di comunicazione, ci sono alcuni criteri insomma che sono validi in generale e che quindi valgono ancora di più per la comunicazione. Una buona storia è autentica, creativa, crea una connessione emotiva, ispira l'azione e porta chi ascolta in viaggio insieme al... quindi c'è il brand ma insomma insieme al... A me la cosa che interessa è nel caso del no profit in particolare il termine ispira l'azione cioè il racconto che io faccio non è solo un racconto così per farti immedesimare nei miei problemi ma è un racconto che ha dentro di sé e le vostre narrazioni per forza di cose hanno questo elemento ha dentro di sé un'azione che tu puoi fare per se è fundraising è un'azione che si concretizza nella donazione di risorse ma può essere anche una chiamata al prestare il servizio volontario o a dare disposizione degli spazi eccetera quindi le due parti che riguardano il come fare è l'autenticità e la creatività quindi autentico vuol dire che la storia deve essere vera non c'è niente di più convincente e di più strabiliante delle storie vere in realtà non c'è bisogno di stare lì a fare della letteratura soprattutto quando parliamo di persone che hanno problemi o altro il fatto che sia raccontato in modo creativo questo è il compito in teoria dell'agenzia nel senso che dell'agenzia o di chi vi aiuta in questa comunicazione cioè raccontare una storia non vuol dire semplicemente scrivere c'era una volta un ragazzo con un disagio fisico può anche essere creare una specie di percorso un gioco dell'oca che racconta la storia della vita di questa persona un percorso a scelte dove ti racconto un pezzo di storia e ti chiedo tu cosa avresti fatto e a seconda di dove ti sposti vivi delle opzioni una di queste è la storia reale le altre sono magari delle quindi spesso queste dinamiche di narrazione chiamiamole questo storytelling in un inglese è un po' bollito si sposano con un'altra parola di quelle parole di grido nel mondo della comunicazione che sarebbe la parola gamification che vuol dire tradotto letteralmente sarebbe giochizzazione ludizzazione cioè l'uso delle dinamiche di gioco per comunicare allora se ci fate caso gioco e narrazione possiamo sintetizzarli nella scoperta che in quanto consumatori e come dire fruttori della comunicazione siamo tali e quali dei bambini nel senso che visto che la comunicazione la percepiamo in distrazione questa è una cosa molto importante voi se andate a messa andate a un museo si suppone che andiate lì per ascoltare guardare siete in un atteggiamento che viene definito contemplativo non solo in termini religiosi cioè andate a visitare una città ascoltare una lezione adesso siete in un atteggiamento contemplativo e quando invece fruite della comunicazione voi avete usufruite di quella che il filosofo tedesco Benjamin chiamava fruizione in disattenzione cioè voi siete in giro per la strada dove state andando a fare la spesa vedete otto manifesti andate sulla vostra pagina facebook per scrivere qualcosa sul vostro amico vedete sei pubblicità ma non siete lì per guardare quelle pubblicità quindi questo tipo di modo di fruire della comunicazione anche quando date un volantino a qualcuno questo lo prende lo mette in mezzo ad altri volantini che ha ricevuto lo tiene lì ma è nel flusso della sua giornata non è l'obiettivo della sua vita vedere il vostro volantino questa condizione fa sì che in realtà le dinamiche che noi applichiamo con i bimbi funzionino anche per noi perché noi è vero che abbiamo una soglia d'attenzione una capacità di elaborazione maggiore di un bambino ma in condizioni di distrazione funzioniamo esattamente come un bambino quindi ci facciamo coinvolgere da un racconto e stiamo al gioco quindi anche queste nuove parole d'ordine su cui adesso tante realtà stanno costruendo la nuova ricetta per la comunicazione la gamification cosa vuol dire? vuol dire che una storia raccontata dalla A alla Z è meno interessante di una storia dove tra A e C ho potuto far fare qualcosa ho chiesto un parere ho messo un'immagine ti ho detto la storia finisce sul sito che ne so vuoi sapere come è finita io magari nel volantino ti racconto l'inizio ti racconto la difficoltà ma la soluzione te la faccio vedere sul mio sito sulla mia pagina facebook oppure te la racconterà dal vivo l'interessato la sera XY all'evento no? queste sono dinamiche di gioco gioco vuol dire che io definisco delle regole molto banali non ti dico tutta la storia la mia regola e tu per avere ottenere il premio devi fare qualcosa devi andare sul sito venire a un evento darmi dei soldi no? ad esempio io ho finanziato un festival di musica tradizionale che c'è in Calabria dove vado tutti gli anni quest'anno non riuscivano a fare ad avere il budget ridicolo con cui riescono a fare questo festival non ce l'avevano hanno chiesto un finanziamento di 3 euro una roba e in premio hanno detto chi ci finanzia vedrà il video dell'edizione dell'anno scorso o niente di che se mi avessero mandato il video non l'avrei neanche guardato adesso che mi hanno detto così ho dato i miei 3 euro e mi sono andato a vedere il video cioè ci tenevo perché mi hanno fatto credere poi adesso non è che è proprio così babacchione però insomma mi hanno fatto credere che fosse un premio me l'hanno fatto percepire come un premio e questa è una dinamica di gioco bisogna chiamarle con il loro nome le cose quindi dicevo un buon racconto si sposa con una dinamica di gioco e quindi è autentico e creativo le buone storie siccome noi ci identifichiamo e siamo abituati anche nelle storie a riconoscerci noi stessi adesso quando se avessi voluto fare lo psicologo di noi altri ognuna delle vostre letture di quella vicenda lì poteva dirmi qualcosa su di voi perché appunto tu hai detto che sono più romantica un altro magari che ne so dice io ci vedo uno che è un arrogante perché magari tutto il giorno stai lì con uno che è il triangolo grosso e quindi tu lo proietti allora nelle storie noi ci riflettiamo ci identifichiamo e quindi ci facciamo cambiare più volentieri dalle storie che non dalle istruzioni dirette per questo si è sempre usata la favola la parabola cioè la storia edificante perché tu utente estrai la regola non te la dico io ok quindi per questo si dice che le buone storie spingono le persone a cambiare vi ricordate che dicevamo che uno degli obiettivi della comunicazione può essere questo in vari modi possono cambiare il modo che queste persone hanno di sentire the way we feel il modo di pensare il modo di agire il modo in qualche modo di comportarci a noi interessa spingerli in parte all'agire buongiorno in parte all'agire in parte al pensare e al sentire perché vogliamo sensibilizzarli verso la nostra causa e allo stesso tempo far sì che facciano qualcosa di concreto ok cosa vuol dire lato nostro usare le storie perché non vuol dire buttarle in pasto alla gente e poi fare un esperimento e basta vuol dire creare queste storie usarle ascoltare il ritorno che ci viene dato nel senso le persone vengono e dicono ah dai ma però dai l'ho trovato un po' patetico oppure no bellissimo perché io non sapevo che ascoltarle rispondere voglio dire e ragionare di conseguenza e provare di nuovo a raccontarle in modo diverso cioè non è che se voi uscite con una storia e arrivano in dieci vi dicono ah ma però dai è un po' patetica un po' forte intanto vi dovete chiedere se avete ottenuto l'obiettivo queste persone sono venute a dirvelo avete innescato un'azione più di quanto faccia la Nike con 100.000 euro di pagine pubblicitarie e poi potete chiedervi se la volta dopo potete utilizzare la storia magari correggendo leggermente il tono però è un è un percorso a differenza delle campagne pubblicitarie spot che cresce nel tempo cioè è un approccio che si sceglie e poi uno deve continuare a seguirlo proprio perché deve essere autentico diciamo e vabbè c'è un altro c'è un questo manifesto diciamo che è stato messo a punto da quattro studiosi della comunicazione che è applicato ai mercati ripeto siamo sempre nel contesto del mercato anche se vogliamo parlare di fundraising che al discorso dello storytelling unisce il discorso della conversazione che è molto legato cioè loro dicono abbiamo superato il momento in cui il mercato è un puro scambio di valore tra le merci perché è vero che noi paghiamo degli oggetti molto più di quanto valgono in termini materiali e non c'è più un baratto diretto io ti do un grammo di oro tu mi dai 10 kg di rame che costano uguali io ti do 800 euro per un ipad quando le stesse funzionalità un tablet android te le da per 300 euro però i 400 euro in più fanno parte di un discorso non è più valore è conversazione quindi tutte queste queste scalette di 4 punti che sono alcuni dei 4 punti del Clue Train Manifesto portano alla conclusione che se i mercati sono conversazioni né le conversazioni e i mercati sono fatti di esseri umani quindi di individui quindi siamo usciti e Facebook in questo è esemplare siamo usciti dalla fase in cui il marketing parla di segmenti demografici no? un maschio 10-12 anni consuma bubblegum rosa no adesso Facebook in primis ci dà la possibilità di sapere chi ha fatto mi piace su una pagina come si chiama dove abita che gusti ha che obbi ha l'età cioè è sempre dato sempre più rilievo all'individuo poi è chiaro che nessun amministratore delegato presenterà dei report di marketing con nomi e cognome di tutti i suoi clienti però allo stesso tempo il dettaglio è molto più focalizzato sulla persona anche perché il sistema dei social network in questo ha favorito forse un'evoluzione positiva del marketing perché ha reso più importante le singole persone nel momento in cui ognuno di noi è al centro di una rete faccio esempio di Facebook poi vedremo anche degli altri social probabilmente a questo punto domani però io ho 1200 amici il mio parere si propaga su 1200 persone ed è il mio parere l'autorevolezza che si è costruito Stefano Ascari come individuo non è più l'atto anonimo dell'acquisto o del non acquisto della merce quindi anche dal punto di vista del marketing questa è una cosa che interessa anche il no profit in realtà adesso c'è una grande attenzione a quelli che vengono chiamati sempre con queste parole inglesi i trendsetter o gli opinion leader cioè la persona la cui opinione la cui sensibilità viene seguita a ruota da quelle di altre addirittura in alcuni piani marketing il ruolo di questi trendsetter cioè di coloro che definiscono i trend è stimato maggiormente dell'analisi sul segmento demografico perché se un trendsetter muove 30.000 persone che hanno una propensione all'acquisto di beni tecnologici del 100% a me interessa semplicemente che lui parli bene della mia app e ho già fatto tutto non ho bisogno di andare nei supermercati nello scaffale guardato dal maschio di 30-40 anni con propensione alla spesa quindi la focalizzazione sulla persona umana in un certo senso gioca a nostro favore da un certo punto di vista ci obbliga a mettere nel mercato un pezzo di noi perché quando pubblichiamo su facebook quando facciamo attività di promozione per la nostra attività su facebook le diamo un po' la barriera che c'è tra il privato e il lavorativo però allo stesso tempo questo fa sì che strumenti come la narrazione siano ancora più indicati perché se il mercato è fatto di conversazioni di persone con la loro individualità cosa può fare meglio di ogni altra cosa una persona o un gruppo di persone raccontare ad altre persone ok quindi credo che queste due cose messe un po' insieme la narrazione il gioco e questa visione dei mercati come conversazioni non come scambio di beni ci possano dare degli input interessanti perché molto spesso le organizzazioni non profit non hanno beni da comunicare ma hanno persone storie che poi producono magari delle risorse per fare cose però al centro c'è quello ok ecco qui vi parlavo della gamification nel senso che non solo il racconto ma il raccontare giocando è diventato abbastanza fondamentale per mantenere viva l'attenzione io vi sto facendo giocare molto poco infatti la vostra attenzione pian piano decrescerà in modo abissale però insomma vediamo di una cosa importante ecco che volevo farvi focalizzare l'attenzione è che se riuscite non è detto che abbiate lo spazio nella vostra campagna per farlo ma se riuscite a introdurre degli elementi di scelta nella vostra campagna ad esempio tizio arrivato in comunità tu cosa faresti A o B hai fatto A clicca su questo link hai fatto B vieni alla sera qualsiasi azione di scelta che voi riusciate a includere nelle azioni che il vostro utente farebbe normalmente per legge il vostro puscolo sono è come aver forzato la porta della sua inattività perché lui senza volere ha già fatto qualcosa scegliere vuol dire agire vuol dire attivare quella parte del cervello che mi fa prendere delle decisioni se io riesco a fare questo invece che proporre l'advertising come dire lobotomizzante per cui io voglio essere come Charlize Theron quindi metto Chanel che non c'è scelta lì non c'è se invece io riesco a dare la possibilità all'utente di sentirsi in parte coinvolto con una scelta anche banale cioè anche solo la modalità di proporre non so se avete avuto modo di confezionare quelli che vengono chiamati gli sponsor pack sono i progetti di fundraising sugli eventi fatti da enti privati di solito usano questi strumenti sono dei fogli dove viene spiegato allora noi facciamo questa convention ci serve questo e questo come puoi essere dei nostri noi abbiamo un esempio che abbiamo fatto tre anni fa per una conferenza di programmatori come ambientazione l'isola dei pirati perché questa è una conferenza annuale ogni anno scelgono un'ambientazione l'isola dei pirati quindi i pirati del codice adesso va il nome inglese ci servono fondi sponsor eccetera tu puoi essere il capitano tra parentesi logo più grande su tutte le magliette ci dai 5.000 dollari puoi essere il nostromo c'è spazio per due nostromi sulla nostra nave con il logo piccolo solo sulle magliette e ci hai dato 1.000 oppure c'è spazio per gli uomini dei remi cioè quelli che stanno ai remi ci puoi dare 100 euro avrai il gadget eccetera eccetera vedete che in questo oggetto ci sono tre delle dinamiche che abbiamo detto c'è il racconto perché io non ti sto dicendo che questi sono dei programmatori ma ti sto raccontando che è vero è gente che veniva da lontano perché erano internazionali quindi ovviamente enfatizzato in modo un po' furbo però c'era la difficoltà di arrivare tutti alla tortuga perché ognuno arrivava chi dall'America chi dalla quindi la narrazione c'era l'aspetto del fumetto che dopo vedremo dell'illustrazione c'era il gioco nel senso che io come sponsor potevo decidere in che termini stare è chiaro che l'atto è uguale a quello di dire quanto vi do 1.000-2.000 ma io li ho già posto di fronte a una scelta su cui tu puoi agire in modo più diretto puoi fare il nostro omo a voi in mente darti 1.000 euro sono un nostro omo via l'ho fatto e ho scelto qualcosa io quindi c'è il gioco la narrazione e la possibilità di scelta quindi questo secondo me è un appunto le scelte sono le cose proprio più banali dal pari o dispari meglio la strada di destra o quella di sinistra o condividere su facebook o no cioè qualsiasi azione per quanto microscopica ha valore ok allora qui questo è un discorso un po' un po' più ampio che riguarderebbe anche il disegno quando parliamo di comunicazione di solito si parla del copy cioè del testo noi diciamo che se adottiamo un approccio di narrazione non si parla più del copy cioè della frase ma parliamo di un incipit cioè di una frase che mette al primo seme del racconto che inizi il racconto per questo dicevamo prima ci concentriamo sul problema senza fornire già la soluzione perché vogliamo iniziare a raccontare un problema la sua soluzione le difficoltà che ci sono e ah beh questo vabbè non vi non vi tedio sono tre incipit di romanzi famosi ed era per uno è la metamorfosi di Kafka un altro è delitto e castigo l'altro la guida integratica per autostoppisti per dire quanta volte un incipit incisivo è quello che ci rimane di un'intera storia se questa roba che ho studiato a scuola me la ricordavo poi il messaggio invece come dicevo non è più cioè l'incipit che è appunto la copy strategy ma il messaggio nel suo complesso deve essere qualcosa che ha una sua durata nel tempo una sua evoluzione e allo stesso tempo il visual cioè il famoso concetto visivo la foto che dopo vedremo su un esempio per la strada paga di più se non è un visual risolutivo cioè la macchina la pubblicità dell'automobile c'è l'automobile è finito ferma con le ombre perfette sotto su fondo nero quello non è una una scena di qualcosa è l'immagine di un prodotto congelato nell'ambra è lì se invece noi abbiamo un'immagine che racconta il divenire di qualcosa un ragazzo al lavoro una la soluzione del problema noi stiamo raccontando un processo in questo caso quindi per questo alcuni termini che si chiamerà sempre visual perché l'agenzia lo chiamano così però va interpretato come una scena di un racconto e la strategia come vi dicevo dovrebbe diventare un gioco ecco per gioco intendiamo anche dei giochi appunto se vogliamo al limite tra il creativo e il semiserio nel senso non parliamo solo di videogiochi di parole crociate di rebus questo ad esempio è un gioco di dadi abbastanza divertente dove in ogni faccia sono rappresentati degli elementi possibili di una favola ognuno lancia la manciata di dadi e poi deve riuscire a raccontare una favola sensata e qui è chiaro che non c'è una regola fissa è un gioco di condivisione che tocchi tutti quei punti questo in realtà è un gioco molto stimolante molto aperto molto creativo non è il videogioco dove tu devi sparare alle galline che passano e ecco l'altra cosa che questa la aggiungiamo noi diciamo per quella che è la nostra esperienza non c'è scritta nei manuali è che un buon racconto è qualcosa che permette di sopravvivere al mondo dei social network ne parliamo di nuovo ripeto domani quando parliamo del web però vi sarete accorti che facebook twitter non so se voi siete utenti immagino di sì oppure conoscete qualcuno che lo usa eccetera hanno una sovrabbondanza di informazioni allucinante cioè voi vedete messaggi di persone di cui non vi interessa niente pubblicità di cui non vi interessa nulla eccetera e soprattutto cambiano alla velocità della luce cioè io se se sbaglio il momento in cui il mio amico ha messo sulla foto di sua figlia di due anni io quella foto me la perdo perché finisce sotto a decine di altre informazioni questo genera un enorme rumore per cui quando vi dicevo prima il discorso del virale non ha senso pensare di poter progettare qualcosa che davvero entri in questo sistema e boom tutti lo vedono perché è talmente caotico e talmente asincrono cioè twitter facebook e linkedin vanno ognuno con i suoi tempi con le sue modalità tu hai più amici da una parte nemmeno dall'altra allora cos'è che può permettere di entrare in questi mondi senza buttare dei sassi nello stagno allora noi abbiamo fatto un esperimento l'anno scorso per Natale come agenzia abbiamo rivisitato il racconto di Natale di Dickens quello dei tre fantasmi abbiamo fatto una storia illustrata dove c'erano i tre fantasmi della comunicazione passata presente e futura che suonavano il campanello e vabbè dicevano alcune cose eccetera però prima di metterlo online questo è successo il 22 di dicembre per due settimane abbiamo pubblicato sulla nostra pagina facebook l'incipit della storia e poi abbiamo scandito dodici rintocchi quelli che vanno a mezzanotte ognuno dei quali rappresentava un esempio di comunicazione fallimentare di autogol non so se avete visto di recente ho fatto vedere questa pubblicità di oggetti per la casa e hanno composto c'è una pentola un mini peamer insomma hanno composto alcuni oggetti e appena uno guarda il cartellone vede la faccia di Hitler perché i bianchi e i neri di questi oggetti senza volere immagino però hanno esattamente la forma del ciuffino del baffetto non è spoluta nel senso che l'hanno ritirata dal commercio eccetera quello è stato un esempio di autogol perché ovviamente noi abbiamo scandito questi 12 rintocchi pubblicandoli su facebook quello che abbiamo visto guardando le statistiche è che dal primo al dodicesimo c'è stata una crescita costante della portata virale di questi post portata virale vuol dire che sempre più persone hanno condiviso a loro volta esperimento minimo su una rete piccola con pochi mezzi eccetera però cosa vuol dire che creare un percorso che andasse da A a B con un intervallo regolare ha fatto sì che il dodicesimo messaggio ricevesse un'attenzione dedicata molto più alta del primo che era proprio il sasso gettato nello stagno diciamo che un sasso sopra l'altro la dodicesima pietra è affiorata a livello dell'acqua e da lì dopo ne abbiamo lanciato il nostro sito che ha avuto i suoi accessi le sue soddisfazioni eccetera questo perché abbiamo costruito una cosa molto stupida molto banale un primo esperimento di narrazione cioè chi aveva visto il terzo rintocco si poneva al problema di qual era stato il secondo di quale sarebbe stato il quarto questa poi è banalissima perché è una sequenza numerica però quando vi dico che un buon racconto una buona struttura narrativa è quella che vi permette di generare in chi legge la domanda e poi cosa succede oppure cosa è successo prima è questo che intendo e questo vi permette di entrare sui social network senza continuare a buttare acqua su una terra rocciosa cioè perché molte volte ci sono delle realtà alcune anche nostri clienti poi li pagano loro quindi il settore profit quindi non c'è nessun rimorso però continuano a insistere a voler pubblicare le loro notizie sul nuovo giunto di antidilatazione meccanico che è uscito su facebook senza costruirci attorno un minimo di strategia e loro non hanno nessun incremento cioè continuano a fare sta cosa che produce zero risultati ma zero cioè non c'è un like in più però e loro continuano allora voi non potete permettere cioè nessuno se lo può permettere il no profit in particolare quindi secondo me l'approccio narrativo ha anche questo vantaggio ok adesso questo era un approfondimento sul Clue Train Manifesto non volevo come si dice non vorrei sviscerarli troppo perché sono molto legati al mondo profit però ci sono alcune morali che possiamo estrarre ammesso che voi siate online che questo non è scontato perché magari piccole realtà non hanno bisogno di essere così presenti online anche se poi di nuovo ne parleremo abbiamo visto che premia sempre molto la trasparenza trasparenza vuol dire riuscire a parlare di tutto dei problemi dei punti di forza dei punti di debolezza in modo lineare penso che qualsiasi gruppo umano dall'associazione all'SRL all'SPA faccia degli errori o manchi degli obiettivi per causa anche di un dipendente della sua volontà e nasconderli nell'epoca di facebook nell'epoca comunque dell'interconnessione oltre a non essere possibile è anche dannoso perché adesso ripeto voi magari non avete una presenza sui social network particolarmente intensa eccetera però se succede qualcosa per cui c'è un danno in una struttura adesso sto ipotizzando qualcosa non è più un'epoca in cui si può tenere segreto qualcosa oppure l'associazione viene finanziata in toto dal comune o da una società privata quindi il concetto base questo è sempre un portato di questa nuova ondata di comunicazione sui social è che comunque qualsiasi cosa succeda va raccontata nel momento in cui voi la raccontate la prendete in mano e la gestite se aspettate che siano gli altri a farla notare questo vale in realtà non solo e questo è un problema proprio delle aziende che era riguardo all'isolamento ma voi di sicuro non avete il problema di essere isolati ecco questa è una cosa invece importante cioè se voi avete dei problemi voi lavorate per risolvere un problema è un problema della società non è vostro cioè non è l'associazione Exiption che ha il problema l'associazione Exiption si attiva per risolverlo però è anche vero che l'associazione Exiption può avere dei suoi problemi di gestione può avere un elevato turnover nei volontari può avere una cronica carenza di fondi può avere n cose questi problemi a maggior ragione per voi viene abbastanza spontaneo perché si cerca sempre di cercare fondi anche per risolvere questi problemi mentre le aziende di solito tendono a non mostrare questi problemi però fanno parte anche questi del racconto cioè non c'è niente ripeto da nascondere adesso passo un po' rapidamente queste ecco un'altra cosa questo vale a maggior ragione per le associazioni se accettate queste premesse voi siete all'interno di una comunità e quello che raccontate di voi è in pasto la comunità se voi avete la percezione della vostra realtà come di un orticello chiuso dove nessuno può mettere becco nessuno può tutto questo castello che abbiamo costruito fallisce perché erogate e date un tono alla comunicazione quando questa vi torna indietro o non lo ascoltate o non lo volete ascoltare o reagite in modo non consono quindi diciamo che insieme al discorso della narrazione del gioco e poi vedremo delle strategie web c'è un discorso di totale apertura e trasparenza nei confronti della realtà esterna questo magari fa più parte del DNA del no profit comunque però anche qui ognuno quando costruisce poi la sua realtà è sempre un po' geloso di quello che ci succede dentro quindi per avere una comunicazione efficace visto soprattutto che voi non avete non siete nelle condizioni di provare 27 campagne all'anno bisogna scegliere una strategia dicevamo e cercare di portarla avanti bene vabbè questa era la conclusione della ecco durante un esempio stupidissimo di gamification durante la presentazione non so se avete visto che di fianco ad alcuni personaggi c'erano delle briciole di pane e alla fine di questa presentazione lì era un contesto dove parlavamo anche di punti di gamification abbiamo ripercorso le briciole di pane che sono tutti lavori che abbiamo fatto noi quindi le ho spiegate e voi lo risparmio perché è una cosa interessante e la metafora era appunto che noi cerchiamo di non perderci in questo bosco seguendo le briciole di pane che ci lasciamo dietro questa è una presentazione che ha cercato di usare di parlare di gamification un minimo usandola ok quindi prima di tornare le cose più serie più ordinarie della comunicazione volevo farvi questa parentesi poi ne ho un'altra che mi tengo tra un po' quando siamo di nuovo sull'uso dell'illustrazione del fumetto come strategia per attivare l'empatia e per risolvere tutta una serie di problemi anche legati ai diritti sull'uso dell'immagine liberatoria sulla privacy eccetera ma adesso torniamo a bomba sulla comunicazione diciamo tradizionale allora comunicazione visiva ok l'avevamo finita scusate andiamo comunicazione web e social ok allora del web voi ne avete già parlato quindi cerco davvero di non tediarvi anche perché mi vorrei tenere il tempo per analizzare poi i loghi dopo quando parliamo di comunicazione web parliamo ormai di n.000 cose non possiamo pensare che la comunicazione web sia solo fare il sito ok anche se per fare il sito come avete visto l'altra volta ci sono una serie di criteri che tra l'altro io ho riportato in modo sintetico e di attenzioni bisogna immaginarsi come di immergersi in una specie di grande piscina dove ci nuotano un sacco di persone con diversi strumenti chi è i braccioli chi è il motoscafo voi avete il sito avete anni altri strumenti che sono il blog e dopo vediamo le specifiche del blog i social network le newsletter e via dicendo tutti questi strumenti così come per la carta devono lavorare insieme hanno caratteristiche diverse e se voi li usate nel modo giusto ottimizzate le risorse e ottenete il massimo risultato per quanto riguarda il sito passo rapidamente abbiamo messo alcuni esempi di siti vedete in tutti ovviamente la grande importanza dell'immagine fotografica ma questa è un'analisi molto veloce di alcuni siti di realtà del no profit quello che mi preme dal punto di vista strategico segnalarvi che il sito comunque rimane il perno rispetto al quale voi fate costruite la vostra presenza web perché il sito si associa all'acquisto di un dominio l'acquisto di un dominio prevede la creazione anche delle mail con quel dominio quindi in qualche modo un'associazione che si rispetti deve avere per avere un minimo di credibilità la mail deve essere stefanochiocciola associazione pincopallino.it non stefanochiocciolalibero.it perché altrimenti non è professionale e questo in realtà non cambia niente perché è la persona che legge la mail però allora avere un dominio vuol dire comprare uno spazio avere un dominio mail vuol dire comprare un dominio di web www a quel punto su cui www ci va messo un sito e il sito deve essere istituzionale nel no profit credo che sia fondamentale questa è la ripeto la nostra visione avere un sito istituzionale che voi fate bene una volta lo progettate bene una volta per tutte e poi non dico che lo lasciate lì attenzione perché le newsman andranno aggiornate eccetera però se non avete all'interno una figura in grado di gestirlo in modo veramente dinamico di aggiornare eccetera il sito può anche stare relativamente fermo anche per le aziende perché comunicare l'istituzione chi siete cosa fate anche in modo simpatico e carino serve solo ed esclusivamente a chi entra in contatto con voi per la prima volta o per la seconda perché è la terza volta a me di sapere chi siete dove siete eccetera non serve perché dovrei già saperlo allora ultimamente la tendenza è questa di affiancare i siti che quindi vengono fatti bene una volta gli strumenti un po' più flessibili e che per loro natura si prestano a essere gestiti in modo anche un pochino più leggero tipo i blog un blog ha un costo pressoché nullo adesso ci arriviamo ed è nasce per sua natura i blog nascevano per raccontare stamattina mi sono svegliato le poturnie giornaliere poi le piattaforme sono evolute adesso ci sono dei blog che sono delle vere e proprie riviste dei magazine di cucina di giardinaggio eccetera o il diario dell'attività che fa un'associazione allora ad esempio se dovesse dirvi abbiamo fatto un laboratorio di ceramica con dei ragazzi otto foto non bellissime in una si vede anche in mezzo di un ragazzo dovrei avere la liberatoria sul sito non le vado a mettere perché non sono belle eccetera ma su un blog magari sì intanto tra una settimana sono finite in archivio intanto ho dato notizia di quella cosa sul blog non le vede la liberatoria no no in teoria ci vorrebbe lo stesso diciamo che la gravità siccome purtroppo allora io faccio molto incontri con i laboratori con i bambini e parlando con i genitori quando posso faccio firmare una liberatoria perché ogni tanto una foto quello che sta facendo la vuol fare prendi i bimbi di spalle prendi solo le mani però capite che non si vive così in realtà anche la legislazione è abbastanza bisogna trovare una buona via di mezzo se io faccio una foto che metto su una pagina pubblicitaria sui giornali devo avere tutte le liberatorie del mondo perché quella lì rimane se pubblico una foto su facebook già non è detto che mi anzi credo che facebook nella normativa della privacy non ti chieda le vere liberatorie il blog è uno strumento un po' intermedio un po' volatile dove un attimo cancellare un post eccetera il sito già è una cosa più istituzionale quindi non vi sto suggerendo di ignorare la politica sulla privacy però allo stesso tempo diciamo che sul blog si può pubblicare un po' più a cuore leggero perché per suonatura è uno strumento che è più parente del giornalismo quindi quello che è stato pubblicato ieri sul blog oggi già nessuno se lo fila più invece se è sul vostro sito istituzionale rimane lì per dei mesi magari quindi se vuoi il blog per suonatura è un po' più duttile vi permette anche di fare degli esperimenti cioè impostare una campagna con un po' di storytelling dove inizio una storia una cartolina e la faccio finire sul web diviene più facile se ho sotto mano un blog che riesco a usare è molto più facile da usare nel senso che le interfacce sono anche amministratore sono abbastanza come dire standardizzate semplificate e allo stesso tempo mi permette di fare di sfare con un pochino più di libertà di quella che avrei sul sito dove di solito noi quando ci arrivano delle associazioni che hanno i siti e che hanno provato a modificarle eccetera diventano dei paciughi inguardabili graficamente non più coordinati perché le prime immagini le hai fatte tu tutte belle con il logo nel posto giusto poi arriva quello che vuole caricare a tutti i costi la foto della festa viene a mettere la foto piccola che viene stiracchiata e via dicendo quindi una strategia possibile e che ha un impatto economico relativamente basso perché i blog sostanzialmente sono gratuiti è fare il sito fatto bene che rappresenta la vostra istituzione la vostra identità aziendale e poi dotarsi di un blog quello che volevo chiedere prima sul sito internet la nostra organizzazione si occupa solo di bambini minori quindi diciamo che il problema della privacy è di tutti i giorni quindi di chiedere poi l'autorizzazione della liberatoria non ce lo siamo mai sognati ma non perché lo facciamo senza perché non lo facciamo proprio perché o facciamo quello stradagemma di prenderli di spalle inquadrando solo le mani oppure però poi si corre il rischio di creare delle cose che a me non piacciono artificiali prendere queste immagini da internet dove vedi il bambino biondo che sta tutto bene oppure mettere dei disegnini per cui se io devo far capire l'attività di laboratorio del cellulare prendo l'immagine il fumetto del bambino che fa però tante volte lo noto già io che la vedo non rende l'idea magari renderebbe molto più l'idea il senso di vedere l'operatore il bambino che fanno il telefonino però diventa un problema ogni volta questo fatto noi ad esempio abbiamo fatto due siti uno di una realtà privata che fa laboratori creativi come a me alla fine mi viene a dire che la soluzione è più anche se non è ottimale perché è vero che la realtà è quella che paga di più quella di ricorrere alle illustrazioni però trovando un illustratore dopo ne parliamo se volete cioè un conto è prendere un'immagine uno fa il fumetto ci scrive ha fatto questo un conto è dire visto che non uso le foto per scelta che tra l'altro è legittimo perché qui potremmo anche porci il dilemma morale di usare l'immagine di un bambino a scopo comunque anche se a fin di bene però a scopo di promozionare per esempio il cop tra le sue linee guida nelle pagine pubblicitarie non usa persone e men che meno bambini ce l'ho prescritto esplicitamente cioè noi non vogliamo essere accusati di usare la foto del bambino per vendere il cop che non è neanche un'intervento scegliere un'illustratore che sia quello che sia un professionista che abbia una mano riconoscibile che magari cura altre cose della vostra comunicazione coordinata può risolvere il problema nel senso che se io ho un'unica mano un unico stile che mi ha fatto il logo mi fa l'illustrazione della pagina operatori dove magari ci sono i vostri ritratti però rifatti da lui in chiave simpatica e qualche immagine del bambino a quel punto io faccio pagare un piccolo scotto all'inizio nel senso che su questo sito non troverò mai una foto però una volta che ho accettato questa regola che tutto quello che c'è sul sito da vedere lo vedo attraverso la sensibilità di questo disegnatore dopo l'efficacia delle illustrazioni migliora nel senso che non so come dire l'ottimo sarebbe abbia detto mettere le foto dire non si può cioè dov'è che paghiamo sto scotto se non vale la pena di farlo pagare subito dicendo guarda questo sito è un sito totalmente illustrato noi ci raccontiamo il mondo attraverso la sensibilità e la penna e la matita di anche uno dei bambini non so magari c'è un ragazzo che ha un talento e magari lo si fa un po' aiutare in modo da fargli fare delle cose e quindi tutto viene raccontato tramite anche il disegno della sede eccetera perché lo stesso problema si potrebbe porre anche se volessi realizzare un piccolo video di promozione perché poi devi fare queste immagini magari mettendo il filtro scurato poi diventa brutto cioè non è bello da vedere se ci capita un'immagine ogni tanto va bene anche poi magari nel filmino vedi sta cosa poi oscurata addirittura con rettangolino nello va bene ad esempio l'istituto Caritas hanno tutti i report annuali con le ste foto con il triangolino nero sugli occhi che sono una triste cioè dà una sensazione proprio di fastidio di disagio quindi io anche se capisco che far una foto oggi non ci va niente perché la può fare chiunque far fare dei disegni o delle piccole animazioni non è così semplice ad esempio a Modena c'è una scuola superiore il Venturi che è una scuola d'arte dove i ragazzi ai primi anni fanno un corso di animazione e loro realizzano un sacco di filmati per associazioni no profit anzi c'è proprio un accordo tra la scuola e il territorio e l'ufficio del centro di servizio di volontariato perché moltissimi hanno questo problema e di illustratori e di disegnatori ce n'è a bizzeffe e sempre molto disponibili per questo caso il vantaggio tra l'altro dopo che ne riparo di ricorrere a un illustratore a voi sembra magari a una spesa bisogna pagare questo per fare un disegno però quel disegno lì è vostro dopo siete sicuri che originale non ce l'ha nessun altro se spendete 40 euro per comprare una foto su Image Bank o se la prendete da internet ce la può avere chiunque di solito non è esattamente quello che volete mentre il disegnatore potete guardare il disegno a matita di no guarda non farmi il bambino con gli occhiali quindi io sono un grandissimo fan e dopo vi farò una presentazione apposta dell'uso dell'illustrazione del disegno perché così come per spiegare ai bimbi usiamo i disegni il gioco e la narrazione non si spiega perché noi nel mondo degli adulti se non c'è la foto non funziona perché poi il paradosso è che andiamo tutti a comprarle nella stessa Image Bank abbiamo tutte le stesse foto tutti i bambini uguali tutte le famiglie uguali allestire un set fotografico fatto bene costa delle migliaia di euro le foto vostre non le potete usare sulla strada dopo vedrete c'è una foto dove paradossalmente c'era una bellissima immagine di questo appartamento autogestito però là al centro c'era un tavolo dove c'era seduta una operatrice con cui loro avevano dei problemi gestionali non dico che fossero in causa però insomma non volevano lei non lavorava più lì abbiamo dovuto spiegargli in tutti i modi alla fine non so se c'è rimasta ma per un bel pezzo c'è stata la foto con la faccia di Statista in mezzo sfocata al centro esatto della foto e gli ho detto ma scusate ma prendiamo tutte le foto che avete io ho un amico molto bravo con uno stile realistico serio eccetera gli facciamo ridisegnare tutto togliamo il primo piano del tizio ma questa è la faccia triste o gli dici di sorridere mi fate la foto se no a volte si sta a impazzire perché la foto ti sembra facile immediata poco costosa poi la qualità è quella che è secondo me dopo ne parliamo però il disegno risolve questo problema vi dicevo perché parlo del blog perché per promuovervi su web il web ha un vantaggio che se voi lavorate bene su facebook 1200 like o follower su twitter avete 1200 vi restano quindi sono 1200 persone a cui il vostro messaggio arriva garanzia che la carta ad esempio non vi date no perché voi fate un volantino la gente qui glielo butta via voi non saprete mai quanti l'hanno letto su internet ovviamente per le statistiche avete mille moni cosa succede però vi dicevo internet è una tovaglia piena di bricioli di caos il problema è che per entrarci voi non potete entrare col vostro sito boom sbattere in mezzo della tavola come un centro tavola in Gombrano dovete anche voi avere delle notizie delle bricioline che possano girare per la rete quindi il blog in questo vi aiuta perché se voi riuscite a fare tre articoli alla settimana sul blog abbiamo fatto questo laboratorio domani c'è la cena sociale domani inauguriamo una nuova stanza abbiamo riverniciato questo, questo e quest'altro ognuna di queste notizie lanciata nel percorso della vostra promozione e integrata come vi senti prima vi permette di essere presenti sui social network in modo tanto consono perché non gli sparate la vostra storia della vostra azienda è un po' più solo e poi più volte al giorno io tendo a consigliare di solito l'uso dei social network perché hanno un costo relativamente basso soprattutto nel senso che bisogna solo starci sopra è tempo so che il tempo è prezioso però tutto sommato non dovete pagare nessuno per accedervi e soprattutto vi rimane nel medio termine perché se voi lavorate bene su facebook dopo sei mesi i contatti ce li avete ancora lì se invece lavorate male sul cartazio è tempo so che il tempo è prezioso però tutto sommato non dovete pagare nessuno per accedervi e soprattutto vi rimane nel medio termine perché se voi lavorate bene su facebook dopo sei mesi i contatti ce li avete ancora lì se invece lavorate male sul cartazio e buttate via 2000 euro di brochure le avete buttate via e dopo sei mesi siete a zero quindi non dico che il futuro sia lì perché sarebbe una banalità e il vostro settore è abbastanza legato al mondo concreto per avere molto bisogno del lavoro faccia faccia di scambio di materiale fisico però se ci fosse una persona all'interno del vostro staff che magari lo fa già di suo al quale fare un minimo di formazione e gli adesso tutti i giorni 20 minuti li dedichi a fare queste tre attività può essere a parte che è molto utile per mettersi in rete con altre associazioni con altre realtà parchi festival a cui magari è possibile insomma sono tutti enti molto attivi sui social che magari ti danno la possibilità di avere uno spazio per i tuoi ragazzi di avere uno spazio per la tua iniziativa un banchetto io parlo ovviamente di esempi di fitiz dicevo avendo una volta messo a punto il sito voi potete ovviamente lavorare attorno al sito in mille modi vi dicevo adesso ho parlato dei social potete fare degli scambi link con altre realtà e da qui l'importanza di mettersi in rete quindi vedere chi lavora magari non esattamente quelli che fanno la stessa cosa vostra a meno che non siate a una distanza territoriale tale da non mettervi in competizione però se c'è una filiera no? c'è le aziende che accolgono i vostri ragazzi dico vostri nel senso che non so in stage formativo mettere il link di queste aziende sul vostro sito e il vostro sul loro questa è una cosa che dà molta autorevolezza e permette di uscire bene anche su motori di ricerca mandare e confezionare dei banner fatti bene un banner è la sfida diabolica per un grafico perché in uno spazio di pochi pixel ci deve essere l'immagine il logo e un messaggio però se è fatto bene voi lo mandate sui portali del volontariato delle consulte eccetera è un ulteriore strumento e queste sono cose che voi potete chiedere ovviamente a chi vi sviluppa il sito campagne via mail di newsletter o meno ne parliamo magari dopo non è fondamentale coupon elettronici sono molto usati nel profit nel senso che ti danno lo sconto vieni da me stampati questo coupon però è anche vero che è una forma di cortocircuito con il reale cioè ti ho dato un volantino vai sul sito scopri la fine della storia di Giacomo hai visto la storia di Giacomo stampati questo sei arrivato fino alla fine del percorso stampati questo pdf e quando vieni al banchetto in cui vendiamo i manufatti dei laboratori avrai un simpatico maggio il simpatico maggio è quello che volete voglio dire questa è una bottiglia di vino a seconda anche di chi avete come sponsor però diciamo sempre in questa dinamica di fare dei cortocircuiti di gioco tra il mondo digitale e il mondo reale SEO ne avete parlato l'altra volta vero? abbiamo detto che cos'è il SEO sì e no sì e no allora il SEO allora diciamo che voi una volta che mettete il sito online come sapete la gente chi vi conosce già vi conosce già chi se ne frega chi non vi conosce vi trova cercando di solito mi viene da dire che l'utente che può essere interessato è il possibile utente o utente del vostro servizio o familiare di possibile utente quindi è importante che veniate trovati ad esempio io che ne so avessi un figlio dislessico e voglio cercare un centro di attività aggiuntive per ragazzi dislessici cercherei attività per ragazzi dislessici non cerco certo associazione pinco pallino quindi dovete farvi trovare farsi trovare è anche qui per una volta la tecnologia sposa il senso cioè Google fa questo manda in giro dei ragnetti che si chiamano appunto crawler girano per la rete sono degli algoritmi degli agenti informatici diciamo per farlo un po' fantascientifica che entrano in un sito esplorano tutto il sito i contenuti i link i nomi delle immagini le parole chiave le descrizioni i link che da quel sito vanno ad altri i link che da altri vanno a quel sito raccolgono una quantità folle di informazioni li buttano dentro una formula e restituiscono un valore rispetto alla singola parola vuol dire che se io faccio attività per ragazzi dislessici però ho messo tra le mie parole chiave automobili Ferrari perché ho detto così chi cerca Ferrari automobili trova anche il mio sito questo negli anni 80 funzionava adesso Google ha migliorato i suoi algoritmi quindi lui cosa fa vede una parola chiave controlla se questa parola torna nei testi che voi avete scritto nel vostro sito vede se torna nelle parole chiave dei siti che sono linkati al vostro quindi fa un'analisi di coerenza sostanzialmente questo per dire che cosa che oltre a fare i siti in un codice HTML pulito senza usare flash mettendo i testi come testi e non come immagini come scritte dentro le immagini quindi oltre a una serie di accorgimenti tecnici che però stanno ai vostri fornitori mi viene da dire cioè è una perizia che deve avere chi vi fa il sito ad esempio il V3C in questo senso un sito validato V3C viene letto meglio da Google perché i criteri del V3C sono gli stessi di Google l'altra cosa che premia è la coerenza cioè voi quello che dicevamo prima la sintesi l'evidenza del problema e chiamare le cose con il loro nome quindi è inutile che se voi se voi fate servizi residenziali dovete pensare che su servizi residenziali siete in competizione con tutti quelli che fanno qualsiasi tipo di servizio residenziale da chi viene a provare la pressione a chi porta il pacco di spesa allora forse farà la pena di caratterizzare la vostra presenza web su fate servizi residenziali per disabili gravi allora il problema è disabile grave la parola diciamo che vi differenzia cioè tutto quello che è comunicazione anche per motivi tecnici motivi concettuali è trovare la vostra caratteristica saliente e investire su quella perché altrimenti quando arriva un cliente e dice io ho un pastificio su che parole e quale uscire nel motivo di ricerca che basta che barilla esca prima di lei e uscirà sempre eh sì in effetti allora cerchiamo forse pasta trafilata a mano ce ne sono comunque 200.000 però è anche scegliersi i giusti competitor no? e più caso più stiamo generico più difficile più raro specifico più semplice buone pratiche tecniche di realizzazione buone pratiche di redazione dei contenuti aggiornamenti più o meno frequenti e quando dico di buone pratiche per i contenuti vuol dire che se voi avete in mente le dieci parole chiave che vengono inserite nel sito che vi dovrebbero identificare no? che sono quelle che vengono lette da google bisogna che quelle dieci parole voi le usiate anche quando scrivete i testi no? perché se io ad esempio metto la parola chiave handicap però dopo in tutto il sito uso disabilità google che un po' capisce ma non tanto dice beh questi parli è una cosa diversa uso handicap o uso disabilità le immagini se si chiamano google trova un'immagine si chiama l'immagine si chiama il nome chi se ne frega il popolo il ceno sociale il popolo il popolo il popolo il popolo il popolo il popolo c'è google lo legge lo trova nelle keywords lo trova nei test quindi adesso io vi ho fatto un esempio molto stringente in realtà questa è una tavola che scimmiota la tavola periodica degli elementi che vi fa vedere in modo sintetico tutti i parametri che entrano in questo calcolo che entravano due mesi fa adesso probabilmente sono cambiati di nuovo c'è dentro quelli relativi ai contenuti qualità parole tempo di permanenza sul sito google si accorge se sul vostro sito gli utenti entrano escono si chiama frequenza di rimbalzo io entro mi interessa via 0-4 secondi di permanenza oppure entro e sto 5 secondi a leggere un articolo tutte queste cose google le sa le sa e le mette dentro magari sono un 1% del vostro risultato il fatto che le immagini i titoli e le descrizioni siano completate adesso sono mille parametri alcuni tecnici la velocità del sito se avete fatto un sito con delle immagini pesantissime di un sito lento google vi penalizza perché google ha deciso così è un ente privato decide lui le regole non vi van bene peccato è tutto suo tecnica non mi ricordo se l'abbiamo letta l'altra volta un'immagine diciamo per non appesantire un sito un blog su che dimensione dobbiamo stare 80-100k 100k byte praticamente e in pixel in pixel noi facciamo così quando proprio vogliamo mettere un'immagine grande stiamo dentro un rettangolo di 800x600 al massimo la salviamo come jpeg compressa con la qualità 8 che di solito è abbastanza buona e ovviamente se l'immagine è più piccola si può alzare un po' di più la qualità della jpeg della compressione però che significa qualità 8? quando si salva da photoshop credo non so se è anche dal programma che si salva la jpeg lui ti chiede o una scala da 0 a 100 o da 1 a 12 più o meno comunque di qualità nel senso che lui può comprimerla tantissimo e però già a dimensioni normali ti vengono fuori quei mezzi quadrettoni oppure comprimerla niente e rimane di alta qualità però 8 è ancora qualità alta però ha già tagliato un bel po' di informazione 1 a 12 la scala 1 a 12 1 a 12 sì altrimenti 60-70 poi lì bisogna guardarla facendoci un po' l'occhio dopo si capisce come comprime l'algoritmo jpeg e quindi sulle campiture uniformi ad esempio se c'è un'immagine con una dominante di un colore si può stare un po' più bassi di compressione se c'è invece un'immagine con molti dettagli piccoli bisogna stare un po' più alti se no lui invece dicevi per scusami come dimensione 800-600 per 600 no come dimensione del file intorno agli 80 100k poi sono 110 non succede niente però ad esempio se sono immagini che vanno in una galleria quindi nella stessa pagina ci sono 10 immagini più piccoli ovviamente ovviamente giusto per avere un parametro grandi linee sì tra gli 800 in realtà appunto le immagini oltre al nome davvero ci sono una marea di dettagli tecnici nel senso che il codice html che include l'immagine ha un parametro che si chiama title che è quello che viene letto dai browser per non vedenti che dovrebbe descrivere l'immagine se siete proprio bravoni fate tutto google sicuri che vi prende poi ci sono delle cose che non dipendono da voi quindi l'autorevolezza dei siti che vi linkano cioè se il Washington Post mette un link al vostro sito vuol dire che vale tanto se il vostro sito è online da 20 anni vale più dello stesso sito uguale messo su da 2 anni e anche la vicinanza geografica nel senso che google comunque si porta dietro a meno che a meno di non mettere in campo determinati accorgimenti dei dati anche sulla vostra navigazione quindi se io e lui facciamo la stessa ricerca su google se poi siamo logati con il nostro account di gmail proprio non verrà mai lo stesso risultato nel senso che google si ricorda anche delle mie preferenze quindi se io sono italiano cerco pasta tendenzialmente mi darà dei siti italiani se sono in norvegia cerco pasta cercherà di darmi il sito norvegese quindi non è uno strumento oggettivo mixa i dati che ricava lui dalla realtà del web che più o meno è quella ma anche i dati della mia navigazione quindi però vi dicevo tutte queste questi elementi una buona web agency li deve conoscere studiare e metterli in pratica il più possibile quindi fino a qualche anno fa andava di moda fare l'home page in flash vi ricordate su molti siti c'era animazione poi skip intro e clicca qui per entrare lì su google si abbatteva come una mannaia di una ghigliottina di riscegliere però c'è una roba no di roba spia scusate nel senso che flash non viene letto da google quindi lui arrivava lì trovava una pagina che per lui non aveva niente dentro i link per andare a prima pagina significativa erano dentro al flash quindi google andava avanti diceva boh qua non c'è nessuno in casa e questo però per dieci anni sono stati fatti i siti così finché la gente noi tuttora abbiamo i clienti che arrivano per rifare il sito e andiamo a vedere c'è l'animazione cina sul logo che all'epoca sembrava una roba imprescindibile però dopo di stendiziazione è tragedia proprio e ok ecco vi dicevo il blog è uno strumento più affine più come dire svelto più vicino alla vita reale di tutti i giorni nel senso che il sito anche se ha delle news anche se è fatto per essere aggiornati in modo facile ha sempre un carattere un po' istituzionale quando voi mettete una cosa sul sito è come se la pubblicaste in qualche modo in una monografia poi è giusto che mettiate il calendario degli eventi degli appuntamenti quello ci sta perché è dove devono essere io quando vado a vedere scusate gli orari dei film di Modena delle proiezioni vado sul sito del cinema e lo trovo però più delle volte vado a vedere prima la recensione non so come dire la recensione la trovo sul blog questo è un po' il rapporto che c'è tra quello che va sul sito e quello che va sul blog cioè sul blog ci sta il piano emotivo conversazionale il tono basso la vignetta il disegno la foto anche fatta un po' male magari con instagram poi gli mettete due filtrini sembra bella ci sta che uno vi risponda nei commenti oh ma se ha detto ma non c'era nessuno ha scritto che c'erano 200 persone invece c'era cioè ci sta anche quello sul sito è già più problematico perché di solito il sito è qualcosa anche di più condiviso quindi è una realtà che risponde a magari al consiglio direttivo o che magari per scrivere la parte di testo del chi siamo del sito ci avete lavorato due mesi e non vi va bene che qualcuno la cambia al volo perché invece sul blog è tutto molto facile i blog vi dicevo è gratuito ci sono diverse piattaforme blogger è stata la più diffusa fino a qualche anno fa uno si fa un account si sceglie un template con dei colori se sa un minimo smanettare con html si sistema questo è un sito molto semplice dove questo blogger non ha fatto altro che cambiarsi l'immagine di testata se l'è fatta lui devo dire che adesso hanno preso molto piede invece i blog in wordpress queste sono tre schermate per farvi vedere un po' la differenza di potenzialità grafiche cioè blogger comunque è abbastanza standard come un po' rigidino eccetera però proprio perché è rigidino la libertà a volte potrebbe essere anche un rischio perché poi uno non lo sa wordpress è un po' più complesso ha una marea di template gratuiti che voi semplicemente scaricate e installate devo fare davvero una cosa molto semplice a fare anche molto evoluti cioè con delle grafiche lavorate eccetera e anche già divisi sì c'è questo sito che si chiama Team Forest la foresta dei temi che ha anche già dei template pensati per ONG organizzazioni no profit quindi sono gente che si è immaginata di fare dei siti per l'associazione XY di solito sono siti con molte foto e calendari degli eventi quindi sono dei template che voi potete prendere e usare gratuiti anche lì se avete le capacità e le conoscenze potete modificarli se no potete iniziare ad usarli WordPress è molto potente tant'è che c'è chi ci fa i siti proprio veri e propri è anche un po' più complesso ma più complesso nel senso che è un po' più difficile da usare di un programma di posta elettronica cioè da Gmail voglio dire poi anche dipende da cosa volete fare io di solito consiglio a chi proprio non ha mai fatto niente blogger perché ha molte meno chance cioè meno possibilità meno errori su WordPress si fanno le cose molto più belle più ambiziosi però si può anche perdere molto tempo nell'imparare l'usuale si è fatto a strada ultimamente anche molto Tumblr che è un sistema di blogging dedicato alle immagini il discorso immagini è un discorso un po' particolare nel senso che lo vedremo dopo i due social network che sono piaciuti di più quest'anno cioè il social network che è piaciuto di più quest'anno è Pinterest 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 è un sistema immaginatevi che io adesso vi faccio vedere dieci foto di robe che mi piacciono e le attacco a una lavagna non sto in questa stanza uno va in un'altra stanza e ha le sue lavagne di robe preferite ad esempio io posso avere una lavagna con foto di fiori che mi piacciono molto foto di orecchini che mi piacciono molto questo è il Pinterest in realtà di mio mondo a voi piace vedere le foto che io seleziono mi seguite io a mia volta vi seguo vedo una foto tua che mi piace si dice la ripino cioè dico che la foto messa lì da uno piace anche a me va nella mia bordo e via dicendo è cresciuto tantissimo questo uno dice vabbè perché sembra abbastanza oziosa la faccenda raccolta di belle foto in realtà in generale ci si è accorti che l'immagine non si vuole un genio parla più ovviamente di mille parole e attira molto di più l'attenzione soprattutto anche dal punto di vista della vendita di oggetti fatti a mano una bella immagine messa su perché poi l'immagine si porta dietro il link da dove viene ovviamente la foto allora una bella immagine di un portacenere di ceramica realizzato a mano io la clicco vado sul sito dove lo posso comprare o sul sito di chi l'ha prodotto e posso acquistarla o scoprire che è stata prodotta dai ragazzi all'interno del mio laboratorio eccetera eccetera so che detta così vi sembra un giro un po' peregrino adesso vado a mettere delle belle foto però genera una quantità di traffico assolutamente notevole e quella piattaforma che adesso non mi ricordo come si chiama di e-commerce per prodotti fatti a mano che si chiama Etsy è un portale dove non so appunto uno di voi fa degli orecchini belli fatti con le perline oppure un altro fa delle robe in traforo fa le foto le mette su il portale si trattiene un tot per cento e uno può vendere direttamente a 30, 40, 50 euro come vuole il suo manufatto Etsy proprio E-T-S-I ed è pensato proprio per quei piccoli produttori artigianali quelli che farebbero i mercatini di Natale in città che online dovrebbero aprire su un e-commerce avere un avvocato un conto corrente Paypal loro ti fanno pagare una piccola cifra però ti facilitano su questo fronte quindi non è da escludere che un laboratorio che produce oggetti di qualche tipo a scopo di autofinanziamento possa sbarcare su questo Etsy che è gratuito come iscrizione eccetera e se sbarca su Etsy per far vedere le foto dei suoi prodotti deve andare su Pinterest Pinterest ovviamente quando uno pinna qualcosa o fa qualcosa pubblica in automatico su Facebook Pinterest può portare a Etsy o portare al vostro sito voi capite che il gioco di questi social è far girare l'informazione te la fai girare la fai girare la fai girare e speri che quando becca il pesce giusto ci sia abbastanza polpa per tenerlo lì quindi se l'oggetto e il sito in cui l'oggetto è rappresentato coinvolge l'utente in un racconto la passione su come è stato fatto noi abbiamo fatto due anni fa un sito di magliette normalissimo un sito dove facciano delle stampe di magliette e basta però avevano fatto tutta un'infografica per cui si vedeva noi ci prendiamo cura della tua maglietta avevano fatto la foto della maglietta a letto di uno che andava a svegliarla poi con un fotomontaggio avevano messo la maglietta che faceva colazione tutte queste cose qua finché non saltava dentro la busta e partiva ha avuto è durato sei mesi come esperimento poi la persona che le faceva ha aperto un negozio fisico non ha più bisogno di e-commerce però funzionava hanno visto che chiunque arrivasse sul sito poi aveva una permanenza del meno 3 minuti e aveva una conversione che è la misura in cui chi arriva sul sito fa quello che tu vuoi che faccia nel nostro caso da comprare del 45% che era molto buono perché si intrippavano talmente tanto la nostra storia della magliettina che poi le portiamo a fare due passi le salutiamo poi c'erano le foto dei due proprietari che salutavano il pacco postale come se fosse un figlio che alla fine i designer erano carini e questi le compravano questo obiettivo di conversione è il termine quantitativo per definire gli obiettivi se voi ad esempio volete avere dei contatti o dei curriculum l'obiettivo di conversione vuol dire vedere di quante persone date le persone totali che arrivano sul vostro sito quante cliccano sulla pagina contatti quante cliccano sulla pagina lavora con noi questo è proprio un parametro che google nelle statistiche vi permette di impostare cioè qual è il tuo obiettivo di conversione vendere allora mi metti mi conti quante persone passano dal check out del carrello cioè quanti fanno ok compra adesso oppure mi conti quanti vanno su contatti o quanti vanno sul lavoro con noi questo è per chiedervi solo il termine vi dicevo quindi tumblr nel vostro caso può essere utile se avete delle belle foto e lì sì che uno si può sbizzarrire dei prodotti che fate dei risultati dei vostri laboratori oppure se in qualche modo ci si inventano delle campagne chiamiamole virali non convenzionali dove chiedete alle persone di darvi delle loro foto per dire la campagna One Billion Rising si chiamava la campagna sulla diritti delle donne chiedeva praticamente a ogni donna o di attivare ogni donna del mondo o di attivarsi e organizzare un flash mob esatto oppure di semplicemente di fare una foto con la scritta OBR e di mettere la disposizione sul sito allora è chiaro che in questo contesto lì l'immagine è tutto cioè avere questo muro di 200.000 foto di donne di tutto il mondo con tutti i loro colori i loro i visi diversi eccetera con la scritta OBR è una campagna di sensibilizzazione di attivazione che chiede le immagini ok comunicazione social vabbè queste sono due immagini finto retro di Facebook e Twitter questa è la mia pagina Facebook vi avete già parlato voi di social l'altra volta sì un po' vado avanti abbastanza veloce allora le Facebook app non mi interessano ecco la cosa interessante è che comunque a parte l'interazione con i propri parenti amici le foto di noi ubriachi alle feste o al mare mentre facciamo invidia ai nostri colleghi le altre attività che ci riguardano su Facebook sono legate all'interazione con le aziende con i brand o con i giochi o con quant'altro questo è interessante nel senso che tolta questa attività più personale privata che a noi non interessa nel senso che non produce attivazione né niente più una condivisione di momenti di stati eccetera le persone che si connettono su Facebook e al di fuori di questo atteggiamento lo fanno in gran parte per giochi gare gare a premi e promozioni per imparare qualcosa su nuovi prodotti o per dimostrare la mia adesione in questo caso al brand sono tutti e tre atteggiamenti che se ci pensate sono legati a una comunicazione aziendale è una nostra potenziale comunicazione cioè se io ho una dinamica di gioco o di finto premio nel senso che non dovete fare delle lotterie di concorso anzi fate anche le lotterie però voglio dire non è il vostro scopo però se c'è una lotteria un concorso a premio una promozione questa sicuramente su Facebook avrà maggior appeal del aiutaci per se attivate dei nuovi servizi e voi avete un canale aperto avete 1200 follower 1200 fan c'è una novità cambia qualcosa questo è qualcosa che interessa all'utente Facebook e lo stesso piace molto identifica molto poter esprimere il proprio like su un'attività perché i nostri like in qualche modo si sviluppano questa dinamica per cui psicologicamente fare like su delle cose meritorie ci rende meritevoli ci identifica e ci descrive noi ormai usiamo noi chi usa i social usa i like per definire quali sono le proprie passioni anche le proprie schieramenti e orientamenti politici e culturali tra fare like o no sulla pagina di Greenpeace c'è una differenza se lo faccio ci tengo che la gente sappia che io sono a favore delle golette che assaltano le baleniere se non lo faccio può darsi che non mi interessi però ok quindi questo è interessante solo nella misura in cui il Facebook comunque suscita quel tipo di attività che non interessa ai fini della comunicazione cioè l'attivazione dell'utente se sappiamo coinvolgerlo con delle dinamiche adeguate volevo farvi vedere solo Twitter solo per farvi anche qua se avete modo di mettervi nelle mani due minuti di uno che sa minimo muoversi col codice HTML le pagine Twitter si possono anche personalizzare si possono inserire degli sfondi va disegnata bene l'icona cioè la vostra presenza su Twitter io credo sinceramente che non vi serva come associazione di no profit anche qui Twitter non serve a nessuno in realtà nel senso che serve ai divi di Hollywood per dire quanto yogurt ha mangiato dopo le prove di un film e quindi a chi è interessato queste cose per saperlo alle emittenti radio alle emittenti televisive cioè tutti quelli che hanno una programmazione delle informazioni talmente minute tempestive eccetera le campagne esultate elettorali su Twitter il terremoto ha lasciato il terremoto ha fatto un diagramma con tutti i tweet che arrivavano prima delle comunicazioni ufficiali cioè c'è uno a finale miglia che ha detto ragazzi qua è venuto giù un tetto no? boh però questo cosa ci ha insegnato che in realtà Twitter serve tantissimo in concomitanza di un evento se c'è il festival del fundraising o c'è il Vin Italy a Vin Italy noi ad esempio abbiamo lì col consorzi e loro hanno fatto l'account Twitter solo per il Vin Italy cioè da in giro da tutta la fiera gli uomini dei consorzi dell'Ambrusco twittavano no? appena degustato un Franciacorta del e avevamo questo enorme muro con proiettore dove in tempo reale se stessi fermo con le mani forse quindi morale su me Twitter non vi serve allo stesso tempo se ci sono degli eventi o se partecipate a eventi particolarmente di rilievo può anche avere la pena di mettersi un attimo su Twitter fare un account e sfruttarlo dipende sempre da che visibilità viene data negli eventi Google Plus è croce delizia di tutto il mondo nel senso che sulla carta è una piattaforma bellissima molto bella di Facebook non la usa nessuno e quindi c'è poco da fare rimane lì però ve lo far vedere perché in realtà ha introdotto un tema che poi Facebook ha copiato che era quello delle cerchie questo in generale è interessante su Facebook cioè voi non condividete tutto con tutti o meglio serve meglio non condividere tutto con tutti avete gli amici con cui condividete alcune cose avete Google lo visualizzava con queste cerchie quando io condividevo qualcosa potevo scegliere se condividerlo con gli scout con la gente della mia agenzia con gli amici dei fumetti a seconda dell'interesse allora questo approccio è stato fatto proprio da Facebook magari ve ne hanno parlato anche comunque nelle impostazioni della privacy di pubblicazione si può decidere di condividere la notizia con un solo gruppo con più questo è una buona pratica per farlo ecco su LinkedIn invece io non ho un'opinione forte su quanto servono o meno LinkedIn nel no profit nel senso che LinkedIn serve esclusivamente per entrare in contatto con aziende ricevere curriculum controllo l'ora ok e ricevere curriculum ma serve anche per darsi una credibilità istituzionale cioè il mio profilo intanto ci obbliga a tenere aggiornato il curriculum perché LinkedIn ti chiede in continuazione di dire dove stai lavorando che stai facendo che competenze hai eccetera eccetera è in uso ormai in molte aziende noi lo facciamo quando arriva qualcuno che si propone per certi ruoli intanto vedere se c'è il profilo LinkedIn e se diciamo che si è proposto per fare i social media strategist e non ha il profilo LinkedIn uno dice forse così social non è se ce l'ha per vedere tutte le sue la sua storia molto più minuta e organizzata in modo più intuitivo di come è di solito nei curriculum di formato europeo che sono allucinanti e per vedere se le altre persone hanno confermato queste competenze perché LinkedIn ti chiede anche questo esatto può fare commenti fare gli endorsement anche cioè la raccomandazione allora io qui lascio un po' voi le valutare però richiede relativamente poco tempo perché una volta che uno ha scritto bene il suo curriculum è impostato bene la pagina aziendale della sua associazione però permette di incontrare persone che magari in altre parti d'Italia o in altre parti del mondo lavorano sulla stessa tematica non so in che ambiti di nuovo lavorate voi ci sono a volte ambiti molto specifici per cui c'è un'associazione che si occupa del problema a Foggia ce n'è un'altra a Trento e un'altra a Montreal che ne so soprattutto sulle tematiche mediche a volte ci sono delle cose veramente molto specifiche e dall'altra parte quando vi qualificate presso le istituzioni o presso le aziende private è vero che questo è il contesto è il salotto buono dei social quindi se voi avete un buon profilo e avete delle conferme sui vostri talenti la capacità di project management ad esempio che uno dice vabbè si so gestire le cose perché altrimenti non si fanno però è chiaro che se vado a chiedere fondi a qualcuno che mi affida magari un budget per realizzare un progetto che non sia comprare appunto un'attrezzatura ma fare delle attività quindi pagare altre persone formatori eccetera e io l'ho contattato lui mi ha visto su LinkedIn e io ho una buona delle buone raccomandazioni sul project management forse questa persona avrà meno dubbi nell'affidarmi 200 mila euro di budget perché dice questo poi mi fa dei casino quando ora direi di contare ripeto stiamo parlando cioè io in sette anni che uso LinkedIn ho fatto solo 5 lavori in tutto che nascono e muoiono da LinkedIn cioè persone che ho contattato lì che non conoscevo che non avrei avuto altro modo di contattare perché che è non sempre facile ottenere il numero di telefono diretto e che hanno prodotto lavoro sono speso sicuramente più tempo di quanto non ne abbia fruttato però sono stati comunque 5 lavori in più sì ripeto non mi sento di dire dovete farlo assolutamente però allo stesso tempo pensateci perché comunque anche per voi stessi nel momento in cui vi spostate supponendo che qualcuno di voi cambi lavoro cambi associazione è chiaro che è importante mantenere tra l'altro hanno anche un tool che esporti in automatico il curriculum in formato PDF vi fa bene anche a voi stessi tenerlo manutenuto ecco questo cosa che vi dicevo prima ci sono questi gruppi di discussione che adesso io qui ho messo i miei che sono quelli su animazione il fumetto ce ne sono molti di più in termini su argomenti medici sociali ci sono gruppi di psicologi e psichiatri che lavorano su temi specifici in questi gruppi molto qualificati perché ripeto non è Facebook ci sono magari discussioni su terapia approcci alcuni sono privati di invito quindi può valere la pena a seconda dell'ambito in cui siete di verificare se su LinkedIn c'è qualcosa Foursquare ve lo faccio vedere molto velocemente era ed è un social network basato sulla geolocalizzazione cioè io entro nel locale il mio cellulare col GPS mi dice che sono in quel locale faccio check in cioè dico ehi sono qua lo dico ai miei amici lo dico su Facebook eccetera eccetera allora nel mondo anglosassone funziona tantissimo perché tu entri in un locale se fai check in ti fanno lo sconto sulla birra sulla maglietta e quindi tutti lo fanno se fai check in nei 5 Starbucks di New York al sesto c'è la colazione gratis ci sono una serie di oppure lo usano anche per trovarsi nel senso che uno che fa check in in continuazione dice in ogni momento dov'è tanto perché in Italia è un bel paese girate la circolare il mistero degli interni sconsigliando di far check in quando sei in casa perché ovviamente è un modo per dire quando uno è in casa e quando uno è questo fa lo stesso diciamo che in Italia questa cosa non è decollata perché gli esercizi commerciali non l'hanno recepita quindi è un social network in teoria con delle potenzialità immense perché aggancia il social a a una persona però non non funziona non viene usata ecco rapidissimamente vi dico quelli che non sono i veri social ma sono più propriamente piattaforme di condivisione Pinterest ve l'ho già parlato magari ve lo faccio anche vedere Youtube e Vimeo sono due piattaforme video Youtube è la più diffusa la più facile tra virgolette Vimeo invece è quella riservata un pochino ai filmati più belli più artistici però diciamo che per quanto mi riguarda una bella animazione fatta con i disegni dei ragazzi in laboratorio anche solo foto cioè quelle a passo 1 qualsiasi cosa abbia un carattere di manualità di ricerca su Vimeo ci può stare a di bello Vimeo che vi permette di condividere i vostri contenuti su un target un pochino più alto cioè Youtube è finito in mezzo appunto ai clip Termonnezza o le varie cose su Vimeo di solito è un contesto un pochino più autorevole se dovessimo fare un filmato alla fine di un progetto europeo minimo curato puoi metterlo anche su Youtube però lo metterei su Vimeo Flickr vabbè è un repository di immagini share di presentazioni di powerpoint Prezi è lo strumento che ho usato per fare quelle cose rotanti che ho fatto prima vabbè delizio di condividere i link ecco invece 8 tracks e soprattutto Spotify sono strumenti per ascoltare musica sono web radio e siamo sempre nell'ambito del non indispensabile però moltissime realtà produttori di trattori aziende di moda eccetera ascoltare musica è una roba che facciamo sempre noi le fanno le palestre quando si fa il corso di danza eccetera allora avere la compilation della festa di primavera su Spotify che vuol dire che c'è un link uno clicca e si ascolta quelle canzoni senza scaricarle eccetera è un'attività che molti stanno iniziando a fare ma perché è simpatico è più facile che uno si affezione a una playlist di musica che gli piace che non ha un sito quindi visto che sono tutte cose gratis a me non costa niente dirvele a voi non costa niente provare a farle qui in mezzo di fondamentale secondo me da trattenere c'è il discorso di Pinterest se avete degli oggetti dei manufatti da vendere o da far vedere e gli altri sono tutti strumenti che potreste provare a usare questo ne abbiamo già parlato fino all'ignoranza ecco il piano quando voi vi fate fare o provate a fare una a organizzare la vostra presenza su social network su web è fondamentale e questo invece mi sento proprio di dirvi che è fondamentale che voi facciate scriviate un piano redazionale o ve lo facciate scrivere un piano redazionale è una cosa che è un documento di Word dove c'è scritto nel nostro blog si parla di questo per parlare di questo parliamo di eventi di cose fatte da noi di cose fatte promosse dall'USL nell'ambito delle dipendenze che ne so per dire parliamo di ritrovati medicini in materia medica a riguardo all'epatite cioè dovete individuare sia le cose vostre che volete dire sia i luoghi esterni da cui potete prendere informazioni ci scrivete pubblichiamo due post alla settimana sul blog pubblichiamo un post alla settimana sulla pagina Facebook e tutte le attività che dovete fare questo perché perché per lavorare bene sui social dovete lavorare nel medio periodo se la persona che faceva i social fino a febbraio febbraio sta a casa a marzo quello che arriva deve poter partire esattamente dove si è fermata questa persona quindi perdere una giornata o pagare qualcuno per farvi un piano redazionale fatto bene un piano editoriale redazionale fatto bene vi garantisce una linea diciamo di contenuti un tono perché voi dite noi siamo parliamo di robe mediche vogliamo essere formali quindi il tono deve essere formale non bisogna esprimere pareri cioè definite la vostra politica propria editoriale come se fosse una rivista non mostriamo foto di persone per dire e soprattutto appunto vi ripeto vi permette di mantenere la rotta e non sembra però un'interruzione anche di un mese dell'attività o un cambio di passo dell'attività sui social può essere molto nociva perché voi avete abituato le persone che una volta alla settimana vedono qualcosa di voi vi hanno in testa vi hanno in testa vedono il vostro volantino e dicono ah sono quelli che state fermi due mesi perché avete altro da fare ciao e quel vantaggio li avete già perso e soprattutto non usando il sistema lui non vi propone di far crescere la vostra rete quindi proprio vi fermate dopo ripartire ovviamente quindi il piano editoriale ve lo dico perché io visto che negli ultimi due anni è una delle attività che noi abbiamo venduto di più cioè anche in realtà che hanno un responsabile social dicono ok voi da fuori dall'esterno mi fate un piano editoriale che sia interessante per i miei potenziali utenti se i vostri potenziali utenti sono i familiari di bambini con disagio fisico allora bisognerà forse fare una cernita dei siti che propongono supporti digitali anatomici per bambini con disagio fisico li vagliate voi decidete che quello è un produttore serio quello no di quello parlate e parlate solo di quello se quello va a una fiera voi dite oh genitori di Bologna anche se noi siamo a Foggia a Bologna c'è una fiera della fisioterapia c'è la ditta tal dei tali che fa roba in legno naturale insomma in questo modo voi vi costruite una reputazione senza piano redazionale è difficilissimo che voi riusciate a mantenere una linea coerente perché un giorno lo segue uno un giorno lo segue un altro vi scordate la cosa bella che avete visto quindi è un documento secondo me se volete fare i social cioè fare la strategia social ci vuole vi dicevo vabbè ve l'ho già detto che deve essere un'attività continua e basata molto sull'individualità delle persone ma questo lo sapevate già ok tick entriamo nel merito della comunicazione sociale queste sono poche slide caldo tempo pausa ok